Bene, grazie. Buonasera. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, Presidente. C'è il numero legale. Dichiaro pertanto aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta ai consiglieri. Loperfido. Dario Zanut. Daniela Giusto. Non ho comunicazioni di consiglieri assenti. Arriveranno in ritardo il consigliere Loro, forse il consigliere Daniello, il consigliere Tavella e il consigliere Salvador. Forse perché non era sicuro, però non la vedo. Ecco, do subito la parola al signor Sindaco per una comunicazione iniziale. Prego, signor Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti voi. Prima di cominciare i nostri lavori e darvi anche delle comunicazioni successive, io volevo condividere per un minuto il ricordo di Guido Muzzin. Guido Muzzin è stato una delle colonne di una delle nostre circoscrizioni. Questa sera è uno dei temi che noi affronteremo. Per 15 anni ha avuto una militanza politica durante la sua vita particolarmente intensa. È stato un cittadino che ha fatto politica. Non è stato certo una persona che ha calcato la scena della politica, quella grande, ma proprio per questo trovavo giusto questa sera ricordare questa persona che ha dedicato gran parte del suo tempo libero e della sua vita proprio per il suo quartiere che amava tanto. Chiederei di fare un minuto di silenzio. Invito al Consiglio a osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Comunico che senza l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora dentro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio decisioni prese in conferenza dei Presidenti per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Scusate, è stato deciso, quest'ordine dei lavori si inizierà con le comunicazioni del Sindaco sul prelivo del fondo di riserva. Dopodiché esamineremo le sette interrogazioni che scrivono iscritte all'ordine del giorno. Dopodiché verranno esaminate le due deliberazioni fino al loro esaurimento. Ovviamente i lavori si concluderanno alle 22.30 se avremo esaurito l'ordine dei lavori. E se rimarrà del tempo affronteremo le mozioni. Bene, prego signor Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente. Ho due comunicazioni relative a prelievo dal fondo di riserva. Vi ricordo che secondo l'articolo 40 del regolamento di contabilità prevede che le deliberazioni della Giunta Comunale riguardanti i prelievi di fondo di riserva vengano comunicate al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla loro adozione. Mi riferisco in questo caso alla delibera 235 dell'11 dicembre 2015 che appunto ha come oggetto il prelievo di fondo di riserva. La prima quindi, sono due quelle che vi comunicherò, la 235 parla di un spostamento dal fondo di riserva di 20.000 euro ad integrare lo stanziamento del capitolo 2317 con il titolo Manutenzioni ordinarie. Quindi vi leggo la delibera di operare secondo quanto esposto in premessa un prelievo di fondo di riserva della somma di 20.000 euro per l'esercizio finanziario 2015 con destinazione come da prospetto allegato voi ce l'avete nella vostra documentazione e di procedere contestualmente ad una variazione del piano esecutivo di gestione come da prospetto allegato. In più, indica i 90 giorni di comunicazione al Consiglio cosa che questa sera esercitiamo. Quindi questa è la prima comunicazione. Una seconda comunicazione sempre di prelievo dal fondo di riserva per gli stessi motivi è la numero 187 del 30 ottobre 2015 avente per oggetto prelievo fondo di riserva. In questo caso si tratta di spostare dal fondo di riserva un valore complessivo di 2.000 euro complessivi al capitolo 273 imposte tassa e diritti diversi e del centro di costo avvocatura per un totale rispettivamente di 1.850 e 300 euro. Quindi vi leggo la delibera di operare secondo quanto è esposto in premesso un prelievo di fondo di riserva di 2.150 per l'esercizio finanziario 2016 con destinazione come da prospetto allegato di procedere alla variazione del piano esecutivo di gestione e di comunicare al Consiglio Comunale il prelievo dal fondo di riserva come appunto questa sera abbiamo fatto. Grazie. Grazie signor Sindaco. Passiamo ora alle interrogazioni Interrogazione numero 61 presentata dal Consigliere Piccinato Interrogazione accampamento di clandestini al Parco San Valentino Considerato che esiste l'occupazione abusiva di suolo con l'occupazione abusiva di suolo il suolo va sgomberato dalle forze dell'ordine il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere perché l'accampamento abusivo costruito da clandestini al Parco San Valentino non sia stato immediatamente sgomberato dalle forze dell'ordine se l'amministrazione ritenga sia un pericoloso precedente se l'amministrazione adotterà lo stesso metodo di giudizio nei casi simili e quindi sia possibile costruire un accampamento abusivo nei parchi cittadini che cosa ha fatto l'amministrazione per sistemare le questioni? Presentato dal Consigliere Piccinato Gruppo Lega Nord Prego Assessore Romor Prego Assessore Zille Allora in merito all'interrogazione del Consigliere Piccinato Premetto che la competenza in materia di immigrazione appunto quelli che sono richiedenti asilo e rifugiati è di competenza del Ministero dell'Interno che opera attraverso le prefetture territoriali le quali dispongono e coordinano in loco i piani di accoglienza con la collaborazione di associazioni umanitarie la Regione e i Comuni Tra l'altro esiste anche un protocollo anzi Ministero che prevede anche in determinati progetti possono partecipare anche gli enti locali ma questo non c'entra con il nostro Accertato che sin dalla fine di settembre presso il Parco San Valentino si è formato un accampamento di profughi richiedenti asilo l'amministrazione comunale si è da subito attivata presso la competente Prefettura per trovare una rapida e adeguata soluzione logistica per gli immigrati al fine di sgomberare l'utilizzo improprio del Parco Nonostante il pressante impegno del Sindaco e dell'Assessore competente dell'Assessore Romor presso la Prefettura le difficoltà incontrate per trovare con un certo tempismo adeguate strutture di accoglienza visto il numero elevato che in questa parte della città si era riscontrato hanno fatto sì che nel frattempo il numero di profughi è andato via via aumentando moltiplicando di fatto lo sforzo per il riperimento dei locali necessari per sistemare tutti i richiedenti asilo Dopo una prima trans di una ventina di sistemazioni il 15 novembre tutti i rifugiati sono stati trasferiti e sistemati presso idonee strutture locali Di fatto l'amministrazione in data 16 novembre proprio per evitare il riformarsi di simili accampamenti presso i parchi ha provveduto a demanare apposita ordinanza sindacale che disciplina l'uso dei parchi cittadini e vieta tra le varie cose il bivacco e l'accampamento tale atto ora mette in condizione l'amministrazione comunale attraverso la polizia locale e le forze dell'ordine di poter tutelare maggiormente i parchi e le aree pubbliche ad essere utilizzate conformamente alla loro destinazione nel rispetto dei diritti di tutti gli attenti e assicurare anche un maggior decoro degli spazi pubblici spazi verdi e cittadini Inoltre ricordo al consigliere Piccinato che il fatto non può costituire un precedente come si è chiesto Già durante la donata alpina come ricorderà era stata predisposta un'apposita ordinanza che vietava l'accampamento al parco di San Valentino proprio per poterlo rendere uno spazio in quei giorni fruibile a tutti gli utenti Grazie Grazie Assessore Prego Consigliere Piccinato Grazie Presidente Grazie Assessore della risposta che però ritengo assolutamente non soddisfacente nel senso che tutti i cittadini hanno visto che la città è stata assolutamente presa in giro da questa vicenda venirmi a dire qui in Consiglio Comunale che il 16 di novembre avete provveduto a emanare la delibera insomma diciamo l'ordinanza scusi per sgombrare il parco quando erano ormai più di un mese quasi 40 giorni che questi rifugiati profughi, clandestini misto mare e tutto stazionavano all'interno del parco San Valentino creando disagio a tutte le persone creando veramente una situazione scandalosa e vergognosa che assolutamente metteva in scacco la città e i cittadini io veramente sono passato più volte all'interno del parco ho parlato con molte persone molte donne molti ragazzi molti anziani che avevano assolutamente paura di quello che succedeva lì dentro la città è stata anche assolutamente defraudata perché c'era lo sfruttamento abusivo di corrente c'era l'utilizzo dei bagni pubblici e chissà Dio che cosa hanno fatto lì dentro c'era appunto un accampamento abusivo fatto da abusivi una cosa veramente indecente indecorosa indegna vergognosa adesso venirmi a dire veramente che solo dopo una volta finito si è fatta l'ordinanza è abbastanza ridicolo perché non si è fatta prima in maniera tale da sgomprarli prima? doveva doveva essere fatta prima? doveva essere fatta prima? proprio il 16 novembre guarda caso il giorno del va bene sì ci crediamo e per quanto riguarda invece la gestione nel dettaglio io mi chiedo ma è questa la solidarietà che garantisce questa amministrazione alle persone che sono entrate abusivamente nel parco e rimaste lì abusivamente e questa è la solidarietà l'aiuto che viene dato lasciarle nelle tende lì così non si sa come con che cosa in che modo è una domanda oppure domando anche cosa sarebbe successo se al posto di immigrati clandestini sarebbero stati gli italiani a farlo io mi chiedo questo cosa sarebbe successo perché la signora per la quale avevo fatto l'interrogazione qua parliamo ancora dell'anno scorso a inizio dell'anno scorso era stata cacciata dalla stazione dove dormiva quindi per gli italiani non si può dormire in un luogo diciamo praticamente pubblico mentre per gli immigrati si può e poi vabbè non tralascio il fatto che siano stati mandati a piancavallo all'inizio della stagione turistica lo tralascio e lascio a chi ascolta ogni giudizio ma veramente quello che è successo come tempistica veramente è stato scandaloso perché ero presente la sera stessa che c'è stato il primo accampamento e ho subito immediatamente avvisato le forze dell'ordine che passavano di lì ho immediatamente allertato le forze dell'ordine e mi è stato detto boh abbiamo le mani legate e vedremo perché questa è la realtà finché non c'è un'ordinanza specifica forte decisa compatta e tutto non si muove niente la città è stata a scacco di queste persone qua che non si sa che cosa facevano come lo facevano chi erano quante erano non si capisce ringraziamo Dio che non sia successo qualcosa di veramente serio durante questo periodo lì perché era una situazione assolutamente fuori controllo chiedo quindi se anche agli occhi dell'assessore che mi ha risposto se secondo lui dovrei dichiararmi soddisfatto di una risposta che mi ha dato perché non lo so forse magari pensa che dovrei essere contento che sia risolta solo in 45 giorni e allora dobbiamo essere contenti perché poteva essere ancora lì non si sa mai con l'amministrazione che c'è poteva essere ancora lì non lo so comunque non mi dichiaro assolutamente mi dichiaro assolutamente non soddisfatto grazie grazie consigliere interrogazione numero 65 presentata dal consigliere Giannelli nuovo piano regolatore generale comunale i sottoscritti consiglieri comunali premesso che in data 7 luglio 2015 il consiglio comunale ha adottato il nuovo PRGC che in data 14 luglio 2015 i competenti uffici regionali hanno ricevuto il nuovo piano regolatore generale comunale che la regione Friuli Venezia Giulia in data 27 ottobre 2015 ha espresso il proprio parere numero 35 2015 che detto parere appare ampiamente drasticamente puntualmente negativo su A. Piano struttura area vasta B. Obiettivi e strategie C. Cogenza degli elementi previsionali delle componenti operativa e strutturale che detto parere esplicita e solleva ben 13 riserve vincolanti ricordato 1. Che la regione in via generale ribadisce la necessità di riverificare per ogni sistema ed ambito considerato la definizione degli obiettivi e soprattutto delle strategie che si intendono conseguire affinché la definizione del quadro degli stessi risulti più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative interrogano il sindaco per sapere 1. Se il nuovo piano regolatore generale comunale durante la progettazione sia stato revisionato anche informalmente con i competenti uffici regionali 2. Come e con che tempi l'amministrazione intenda annullare le riserve vincolanti della regione 3. Come intenda affrontare i pareri della sovrintendenza e le questioni in renti VAS e via che presumibilmente non dovrebbero discortarsi da quello della pianificazione territoriale 4. Come intenda procedere per far fronte a questa sconfortante bocciatura di un progetto urbanistico che rinnovando l'urbanistica della città espressa dall'ultimo piano regolatore generale comunale del 1986 e modificando la variante 77 è stato annunciato all'inizio del mandato e che a quasi cinque anni di istanza non è ancora approvato non è operativo lascia la città in una situazione di grave stallo urbanistico e di blocco del possibile sviluppo firmata dal consigliere Giannelli e anche dai consiglieri Cabibo De Bortoli Dalmas prego Assessore Tofforo Grazie Presidente relativamente al punto 1 specifico che non esiste lo strumento della revisione in corso d'opera o ante adozione in quanto la procedura legislativa contempla che l'amministrazione locale predisponga e adotti il piano nella sua autonomia secondo il principio di sussidiarietà e che l'amministrazione regionale si esprima su di esso attraverso lo strumento delle riserve vincolanti secondo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5 del 2007 e successive modifiche ciò non di meno l'amministrazione comunale ha trasmesso le direttive alla regione e ha coinvolto la regione durante la stesura del piano sia con l'invio del RAP ovvero dello strumento che valuta alla sostenibilità delle scelte progettuali fin dalla loro genesi ed ha anche poi al quale scusate la regione non ha avanzato osservazioni durante la redazione poi del piano vi sono stati anche tutta una serie di incontri informali con le direzioni competenti relativamente al punto 2 le riserve avranno risposta assieme a quelle degli cittadini cioè alle osservazioni dei cittadini con l'approvazione del piano come previsto dalla norma secondo il calendario già condiviso con i membri della commissione seconda per la stesura delle contradduzioni naturalmente l'amministrazione si sta avvalendo delle professionalità ritenute necessarie per definire puntualmente tutte le risposte relativamente al punto 3 innanzitutto si sottolinea che è la regione che nel procedimento di istruttoria del piano adottato chiede parere alla soprintendenza la soprintendenza stessa non ha inviato alla regione risposta nei tempi previsti dalla norma e quindi non ha rilevato criticità in merito a quanto di sua competenza relativamente invece al parere espresso dalla direzione centrale ambiente ed energia ovvero al servizio via e vas la stessa ci ha trasmesso parere sullo strumento adottato e sul rapporto ambientale alla fine di agosto in esso emerge come secondo tali direzione le scelte previste nel nuovo piano regolatore siano sostenibili e innovative per il territorio e propongono alcune ulteriori azioni da inserire in fase di monitoraggio lo strumento stesso e quindi non si può certo identificare come una bocciatura del piano relativamente poi al procedimento via sottolineo che tale strumento sia previsto solo nei casi di progetto e non di piani o di programmi come previsto dalla direttiva comunitaria che norma la materia pertanto la procedura via non risulta pertinente con la redazione di un piano regolatore relativamente poi al punto 4 prendo atto che per il consigliere il parere espresso dalla regione sia da valutarsi come una sconfortante bocciatura specifico che per l'amministrazione tutto ciò invece rientra nelle normali procedure caratterizzanti la rediazione di uno strumento così complesso e articolato come un piano regolatore generale con il quale si ha la volontà di mettere a sistema esigenze del territorio modifiche strutturali del contesto socio-economico pulsioni determinate da diverse sensibilità e normative sovraordinate che come nel caso della nostra regione si riferiscono a contesti storici diversi rispetto a quelli attuali personalmente mi permetto di avere una posizione opposta rispetto alla sua consigliere relativamente alla responsabilità di attribuirsi in capo all'amministrazione rispetto a quella che lei definisce situazione del grave stallo urbanistico e di blocco delle possibilità di sviluppo in quanto i dati e il dibattito nazionale mi fanno propendere più alla valutazione di una crisi strutturale nazionale mondiale piuttosto che di un evento locale siamo invece come amministrazione convinti che quanto previsto all'interno del nuovo piano possa essere un'occasione per il rilancio del settore edilizio in un'ottica di tutela del territorio e di recupero del patrimonio esistente grazie grazie Assessore prego consigliere Giannelli Assessore mi dichiaro soddisfatto solo per la risposta al punto 3 per il resto ha messo non lo so punto 3 via questione via ha messo e non concesso che la regione vi abbia mandato in via informale sotto banco un pezzo di carta nel quale vi dice beh beh siete stati un disastro anzi non un disastro troppo innovativi guardate che bravo che sono anzi Assessore dico quello che mi ha risposto lei quando le ho detto Assessore che bastonata lei mi ha risposto posso dirlo perché siamo tra amici beh cosa ti aspettavi che mi dicessero wow che figata è una bella risposta cioè sottolinea esattamente quello che a Trieste vi hanno detto e ve lo leggo in due righe a un certo punto dicono la regione pretende che venga chiarito il quadro delle scelte portanti attraverso rappresentazioni appropriate e correlate alla zonizzazione ma soprattutto i limiti all'interno dei quali tali scelte possono essere variate direttamente evitando al Consiglio Comunale di dover obbligatoriamente impartire nuove direttive politico programmatiche ed attivare ulteriori procedure consigliari e poi a un certo punto vi dicono riverificare però leggo quello che voi potete leggere nel parere ok 32 pagine di parere riverificare per ogni sistema ed ambito la definizione degli obiettivi e soprattutto delle strategie che si intendono conseguire affinché il livello di approfondimento progettuale risulti più aderente alle normative e soprattutto agli strumenti di pianificazione territoriale di programmazione sovraordinata cioè le leggi regionali ma soprattutto al piano struttura in più punti vi eccepiscono che voi avete dimenticato la legge 5 del 2007 e la 19 scusi la 52 del 91 e la 5 del 2007 allora se lei assessore mi dice se lei assessore mi dice siamo stati molto coraggiosi abbiamo fatto un piano straordinariamente moderno però a Trieste non ci sentono io questo posso anche capirlo ma che lei mi venga a dire che la regione vi ha promosso questo piano è una cosa guardi che non sta nel cielo in terra per quanto attiene alle mie domande non è assolutamente vero lei quando fa un piano regolatore lei l'ha detto che avete avuto un mucchio di incontri informali quando si fa un progetto si va e si dice vorrei fare questo 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 sì no è informale ma ti dà esattamente la percezione di quello che succederà dopo ora siccome per approvare questo piano avremo bisogno sicuramente di una decina di riunioni di commissione perché tutti i colleghi e credo tutti i consiglieri avranno una miriade di domande da fare ma tante perché 32 pagine di parere guardi che quindi i incontri informali ci sono stati e da qualche parte vi avrebbero preannunciato l'osservazione anzi la riserva vincolante numero 7 ricordatevi la riserva vincolante 7 guardi che quella vi dice state agendo contro la legge punto che è il cardine di tutta la vostra che io posso condividere guardi io ho la fortuna di lavorare anche a Ferrara il piano regolatore di Ferrara è identico preciso ecco che noi non condividiamo perché è un piano che rallenta la crescita consigliere scaduto il termine ok non sono soddisfatto e chiedo di andarvi a rileggere la riserva numero 7 che è terribile vi dice ragazzi non è possibile limitare l'attività privata riconosciuta dalla legge con procedure amministrative non previste e prive di criteri oggettivi per la loro applicazione della legge grazie consigliere vorrei sapere questo come lo super deve concludere consigliere ok e quindi non sono soddisfatto lei è stata brava generosa gentile bella ma mi scusi avete preso una bocciatura non so come ne venete fuori forse grazie interrogazione numero 66 cosa non va nel piano regolatore generale la sottoscritta consigliera comunale marapicin premesso che il consiglio comunale di pordenone con deliberazione numero 26 2015 ha adottato ai sensi e per gli effetti dell'artico 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007 numero 5 e successive modificazioni e integrazioni il nuovo piano regolatore generale comunale preso atto che preventivamente era stato acquisito il parere favorevole sul nuovo piano regolatore generale comunale comprendente la verifica dell'impatto del nuovo prgc di pordenone sulla rete di primo livello emesso dalla regione frio e venezia giulia direzione centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale lavori pubblici servizi infrastrutture di trasporto e comunicazione protocollo numero 17.686 del 26 giugno 2015 secondo quanto previsto dall'articolo 166 comma a della legge regionale numero 26 2012 considerato che suddetto parere conteneva specifica prescrizione secondo cui le norme del prgc dovranno contenere l'obbligo di verifica degli impatti sulla rete di primo livello per le previsioni del prgc che riguardino le aree di trasformabilità del prgc che hanno influenza sulla rete di primo livello come puntualmente individuate ed elencate nella verifica d'impatto sulla rete stradale di primo livello documento legato a codice 06 parte integrante del nuovo prgc del comune di pordenone precisato che l'amministrazione comunale ha assicurato il consiglio che detta prescrizione è stata recepita nelle norme tecniche di attuazione del nuovo piano regolatore generale comunale appreso da recenti notizie di stampa che la regione avrebbe presentato ulteriori osservazioni al piano regionale piano regolatore generale appena approvato tutto ciò premesso è considerato interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere 1. se la notizia corrisponde al vero 2. che tipologia di osservazioni l'amministrazione regionale ha sollevato al testo del piano regolatore generale e quale azione intenda porre in esse l'amministrazione comunale in tal senso firmato Marapicin prego assessore Toffolo grazie presidente allora relativamente al punto 1 sì la regione ha come da di sua competenza ha espresso parere sul nuovo piano regolatore generale comunale per mezzo per mezzo delle riserve vincolanti relativamente al punto 2 se la sua domanda è relativa ai contenuti complessivi delle riserve le stesse verranno analizzate in sede di commissione la cui prima seduta è prevista giovedì 21 gennaio e quindi mi rifaccio anche alla risposta che ho dato al consigliere Giannelli e come a lui specifico che per la stesura di tali controdeduzioni l'amministrazione sta avvalendo di tutte le professionalità ritenute necessarie per definire puntualmente tutte le risposte sia alle riserve regionali che alle osservazioni dei cittadini se invece la consigliera vuole sapere come l'amministrazione sta portando la risposta relativamente alle questioni in premessa specifico nella premessa dell'interrogazione specifico quanto segue ovvero che la regione ha espresso parere preventivamente all'adozione sullo studio verifica dell'impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello ovvero di interesse regionale in tale parere la regione diceva cito le norme del nuovo PRGC dovranno contenere l'obbligo di verifica degli impatti sulla rete di primo livello per la previsione del PRGC che riguardino le aree di trasformabilità del PRGC che hanno influenza sulla rete di primo livello come puntualmente individuate ed elencate nella verifica dell'impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello tale prescrizione è stata recepita dall'amministrazione nell'articolo 109 dell'NTA del PRGC cioè delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore facendo riferimento al parere ma sintetizzando quanto contenuto nella parte delle risultanze dello studio la riserva regionale mira a far recepire in forma completa quanto prevista nello studio redatto dall'amministrazione sottolineando che la sede più indicata per parlare nello specifico appunto della risposta alle riserve continua a essere l'amministrazione però relativamente a questa riserva le anticipo che l'amministrazione ha intenzione di recepirla e quindi si prevede di trascrivere completamente e in forma estesa quanto specificato dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo finale dello studio verifica dell'impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello specifico che non viene richiesto dalla regione uno studio aggiuntivo o un approfondimento di quanto già redatto bensì la trascrizione completa e pedissegua di quanto già individuato è adottato dall'amministrazione comunale con lo studio e quindi facente parte del pacchetto complessivo del piano regolatore in pratica chiede che non ci sia rimando ad un altro documento ma che tutto il paragrafo venga trascritto all'interno delle norme tecniche di attuazione grazie grazie assessore prego consigliere grazie grazie presidente ringrazio l'assessore per la risposta ma è complicato dichiararsi soddisfatti o meno perché rispetto alla mia interrogazione ma non solo per come dire per la risposta che lei ha dato ma forse anche per il documento che io ho presentato ancora novembre perché oltre è evidente e non mi stanco mai di sottolineare il fatto che mi difetta la competenza dal punto di vista urbanistico e quindi contrariamente al collega che mi ha preceduto per me questa è materia assolutamente ostica bisognerà assessore come dire che io partecipi alle commissioni perché io ho un documento ovviamente che fa riferimento a tutte le riserve che sono state sollevate dalla regione sono 13 non so se sono poche se sono tante però insomma c'è la necessità sicuramente di approfondire ciò che mi interessa in questa fase però ovviamente lei non me l'ha detto perché io non l'ho chiesto è capire fino in fondo che cosa accade nel senso che lei ha detto sia a me che al collega che mi ha preceduto tra l'altro apro e chiudo una parentesi nel dire che pensavo si fosse data un'unica risposta perché gli argomenti erano come dire gli stessi però ha dato sia a me che al collega la risposta che l'amministrazione si sta avvalendo di tutte le professionalità necessarie al fine di giungere ad una definizione di queste riserve credo che la regione ha posto sarebbe interessante capire se noi queste risorse le abbiamo internamente internamente mi fa piacere perché sarebbe stato un problema riprendere in mano la questione e ridare o confermare o estendere un incarico che era stato dato ad una ditta esterna per fare non dico ecco una fesseria nel dire questo quindi insomma quello che lei sul punto che lei mi ha risposto si d'accordo ma non era quello era ciò che ci siamo detti prima ed è ciò che sarà esaminato in commissione grazie grazie consigliere interrogazione numero 67 il sottoscritto consigliere comunale è premesso che in data 1 ottobre 2014 con istanza protocollo 43.043 l'antica drogheria il nuovo esercizio commerciale il sito in vicolo delle acque per garantire alla clientela un servizio migliore ma anche per adeguarsi ad un'abitudine a tempo consolidata tra i bar cittadini ha chiesto una contenutissima occupazione di suolo pubblico al fine di collocare mensole e sgabelli sull'area antistante alla propria attività che l'amministrazione comunale con propria nota repertorio 43.043 del 21 luglio 2015 aducendo i pareri contrari del comando di polizia municipale dell'ufficio attività commerciali ha negato l'occupazione sullo pubblico in forza del codice della strada che prescrive una larghezza minima di 5,60 metri per un doppio senso di marcia senza ostacoli lungo il percorso che da misurazione effettuata in loco risultano le seguenti larghezze 1. distanza dal muro dell'antica drogheria alla fioriera mobile 5,30 metri 2. distanza dai pilastri coin del gazebo fisso Bardoni 5,10 metri 3. distanza dal muro Barbacco alla fioriera mobile 4,40 metri 4. distanza Botti del Barbacco alla fioriera mobile 3,60 metri che al fine di risolvere il problema ai competenti uffici è stata prospettata l'ipotesi di spostare le fioriere mobili in un'altra posizione che viene spesso sbandierata la volontà del comune di incoraggiare le nuove iniziative tanto più quando portarle avanti sono giovani imprenditori interroga il sindaco per sapere 1. come mai nell'effettuare le misurazioni del caso il comune abbia rilevato inferiori alla norma solo quelle dell'antica drogheria 2. come è possibile che sulla stessa strada altre attività occupino il solo pubblico senza garantire le misure di legge per il passaggio delle automobili a doppio senso di marcia 3. come mai nonostante le ripetute richieste non si sia potuto spostare una fioriera mobile che farebbe certamente più bella mostra di sé anche in via Cesare Battisti 4. perché il comune ha assunto che Vicolo delle Acque è una strada affollata di negozi e locali in piena ZTL ne mantenga il doppio senso di marcia anziché un senso unico alternato firmato Francesco Giannelli prego Assessore Zille allora premetto che il Vicolo delle Acque allo stato attuale è in ZTL a doppio senso di circolazione per gli aventi diritto e di conseguenza deve essere garantita una careggiata di scorrimento almeno di 5 metri e 60 come previsto dal vigente codice della strada preciso anche che il Vicolo da lungo tempo è stato oggetto di riqualificazione sia da parte dell'amministrazione comunale e ultimamente anche da parte dell'interessamento da parte degli stessi commercianti che hanno fatto tutta una serie di interventi di pulizia di riordino e hanno chiesto la possibilità di organizzare anche un arredo urbano tanto è vero si sono visti una serie di interventi la posa di alcuni divanetti il murales e la risistemazione delle fioriere che sono state riposizionate tra l'altro anche con la collaborazione di qualche architetto che ovviamente assieme ai nostri tecnici comunali hanno riorganizzato e riposizionato questi spazi anche perché lì spesso c'erano auto che andavano parcheggiare rimanevano lì e quant'altro e qua probabilmente vengo al dunque si è creato quello che lei poi ha verificato preciso anche che per quanto riguarda la richiesta di occupazione suolo pubblico inoltrata dalle varie attività presenti in loco è sempre stata valutata in base alla situazione reale della viabilità ma anche di tutti gli elementi presenti in quel momento nel sito le osservazioni fatte dal consigliere Giannelli sulle misurazioni che lui ha effettuato su altre occupazioni esistenti nel vicolo sono oggettivamente realistiche ma analizzando atti alla mano la realtà di fatti si è verificato hanno una loro giustificazione in quanto è specifico l'occupazione del Bardone ad esempio è una di quelle poche autorizzazioni ancora vecchissime che aveva una scadenza trentennale e a suo tempo era stata rilasciata quando ancora il vicolo non era inglobato nel traffico limitato e vigeva un senso unico di marcia si entrava da via Cesare Battisti e si usciva da piazza 20 Settembre per quanto invece riguarda l'occupazione dell'esercizio denominato l'insegna Barbacco le misure fatte rilevate al momento non c'erano le fioriere e quindi fu data l'autorizzazione che è stata rilasciata ancora anni fa quindi non esistevano le fioriere in quel momento l'amministrazione come principio ha sempre cercato nei limiti possibili e comunque rispettando il codice della strada ha dato sempre la possibilità ovviamente alle attività economiche che possano posizionare degli sgabelli o dei tavolini laddove fosse possibile alla luce di quanto lei comunque ha espresso io ho verificato assieme anche ai commercianti l'opportunità di andare a rivedere quel posizionamento delle fioriere e quindi c'è anche questa disponibilità poi ovviamente bisognerà vedere proprio per consentire alle attività e parallelamente dovrò fare una verifica con la polizia municipale se le due ipotesi che stiamo valutando è quello o il senso alternato ammesso che sia fattibile anche perché la possibilità di rifare un senso unico a suo tempo c'era ed è stata eliminata quando è stato posizionato il mercato in piazza 20 settembre che il mercoledì e il sabato ci sono le bancarelle e quindi diventa difficile far uscire da piazza 20 settembre le auto e quindi creare un sistema l'unica cosa è verificare o il riposizionamento delle fioriere in un altro modo oppure un senso unico alternato questa è la risposta che le posso dare in questo momento grazie assessore prego consigliere allora assessore Vicolo delle Acque è praticamente una parte di piazza 20 settembre e contrariamente a quell'ordume che è piazza 20 settembre sporca spaccata trascurata non avete non vi siete mai neanche venuto in mente di passare un'idropulitrice ci sono è uno schifo no 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 è uno schifo Vicolo delle Acque no no avete fatto niente ma niente vuol dire niente ok niente e dopo i commercianti giustamente si lamentano porfido spaccato insomma un disastro uno schifo però in fondo è l'ultima piazza della città ce ne possiamo fregare voi bloccate dei giovani che vi chiedono una mensola per appoggiarsi e fare l'epi hour per delle schifosissime fioriere fuori scala fuori scala perché hanno un diametro di 4 metri quindi rispetto a una stradina di 6 sono fuori scala senta glielo dice chi qualcosina capisce allora allora ok allora al posto di spostare le fioriere io ho iniziato un'attività con gli uffici ho detto dai ho chiamato l'architetto Brazzafolli ho detto architetto mettetele da un'altra parte lì non c'è questo bisogno c'è spazio per tutti risposta 0 quelle fioriere lì potete toglierle metterne di più piccole non servono a nessuno non servono a nessuno salvo a creare dei problemi alle attività comunali scusi alle attività di privati che vogliono creare in quel vicolo delle acque un piccolo salottino non c'è nessuna sensibilità per i privati allora mi ha anche seccato perché a un certo punto ho dovuto scrivere al comune dicendo voi usate due metri due pesi e due misure certe attività hanno distanze inferiori alla norma certe altre no no di fatto anche se allocate precedentemente oggi però fuori norma e allora io ho detto è inutile che andiamo a togliere i permessi a questi ragazzi a questi bar tirate via le fioriere è la cosa più semplice tra l'altro sono enormi in cemento bruttissime che vanno bene in grandi spazi ok non in spazi angusti perché sono molto grandi quindi assessore io non sono soddisfatto ma siccome so che lei è uomo sensibile che lei è uomo sensibile che il sindaco è sensibile a questi giovani imprenditori che vogliono darsi da fare e siccome vi riempite la bocca che dobbiamo aiutare a venire fuori dalla crisi cittadini prendete ste fioriere non fioraie ste fioriere e cacciatele via da lì e date il permesso a questi ragazzi senza nulla togliere a quelli che già ce l'hanno e magari hanno situazioni non conformi alla norma a parte che assessore il mercato noi predichiamo da una vita che il mercato da lì bisogna spostarlo andremo il prossimo anno quando vinceremo le elezioni andremo a farlo alla man il mercato scusa quest'anno 2016 quest'anno quest'anno no stavo per dire la prossima primavera il mercato al coperto noi lo porteremo alla man negli stabilimenti antichi perché non è giusto che la piazza sia invasa dalle bancherelle e questo va bene ma quando piove il mercato non esiste quando piove i cittadini non possono andare al mercato ok e i proprietari delle bancherelle non possono lavorare però assessore guardi che fare un percorso per uscire da là è comunque possibile quindi assessore questa interrogazione mi è dispiaciuto farla perché speravo che con gli uffici l'architetto Brazzafolli mi è buona testimone potessimo avevo chiesto spostate niente da fare tante promesse spostatele fatevi lavorare hanno bisogno non c'è stata sensibilità siete finiti fritti quando non ascoltate queste piccole cose vuol dire che non ci siete più grazie consigliere interrogazione numero 68 scusate all'illustrissimo presidente del consiglio comunale del comune di Pordenone sede interrogazione sulle iniziative e l'impegno del comune di Pordenone per il mantenimento della prefettura di Pordenone i sottoscritti consiglieri comunali premesso che lo schema di decreto del presidente della repubblica recante regolamento di organizzazione del ministero dell'interno licenziato nel mese di settembre del presente anno prevede la chiusura di 23 sedi di uffici del prefetto tra cui quella di Pordenone da accorpare a quella di Udine l'articolo 16 il citato schema di decreto dispone che le prefetture uffici territoriali del governo le questure le strutture periferiche del corpo nazionale vigili del fuoco interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali cessano di esercitare le loro funzioni secondo un piano di gradualità definito con decreto del ministero dell'interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 rilevato che in un momento di massime emergenze in materia di gestione dell'immigrazione e della sicurezza il governo a dispetto dei proclami di fatto adotta misure di arretramento e riduzione dei presidi di legalità e sicurezza sul territorio lasciando più soli indifesi i cittadini e le comunità locali la chiusura della prefettura di Pordenone è l'unica prevista nella regione Friuli Venezia Giulia con conseguente trattamento ingiustificatamente differenziato del territorio della provincia di Pordenone ancora una volta penalizzato e depotenziato sotto molteplici profili considerato che già in data 21 gennaio 2015 è stata richiesta la convocazione del consiglio comunale da consigliere di opposizione per impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale ad esprimere ogni azione utile per mantenere l'ufficio territoriale del governo prefettura nella città di Pordenone e sul punto il consiglio comunale ha votato la mozione in data 16 marzo 2015 nonostante l'indignazione generale dell'opinione pubblica pordenonese la regione la provincia e il comune di Pordenone poco o nulla hanno sinora fatto realmente per impedire la chiusura della sede della prefettura di Pordenone pur dopo l'ufficializzazione dei tagli ai primi settembre del 2015 nella riunione con i sindacati tenutosi presso il ministero dell'interno a Roma il 30 ottobre 2015 è stato confermato che la prefettura di Pordenone rientra nell'elenco delle sedi da sopprimere a tale assemblea nazionale nonostante la numerosa presenza dei rappresentanti della politica delle istituzioni locali dei territori interessati per Pordenone non era presente alcun amministratore locale tutto ciò premesso rilevato e considerato interrogano il sindaco e l'amministrazione comunale per sapere se e quali iniziative ed azioni i comuni di Pordenone intenda porre in essere per mantenere nella nostra città la sede della prefettura della questura del comando provinciale dei vigili del fuoco e degli altri uffici attualmente interessati dal citato provvedimento Pordenone 25 novembre 2015 prego signor sindaco scusate i firmatari sono i consiglieri Cabibo Dalmas De Bortoli Giannelli prego grazie presidente grazie consiglieri beh diciamo che gli avvenimenti successivi hanno messo hanno dato un chiaro messaggio diciamo rispetto alla nostra prefettura quindi voi sapete che il decreto di chiusura della prefettura è stato sospeso questo è il termine che è stato utilizzato per cui la prefettura stessa non verrà sottoposta alla chiusura che era stata minacciata quello che non è finito qui ci assumiamo tutti gli oneri di di questo non è finita la discussione su come la configurazione provinciale delle nostre istituzioni di quelle che non sono state qui citate ma ne dico due la Camera di Commercio per esempio e l'Unione Industriali alla fine verrà configurata nel futuro assetto della nostra regione il dibattito che è alla fine in corso ecco le iniziative che ho assunto personalmente su questo fronte vi sono note perché sono anche collegate a precise adesioni ordini del giorno che sono state presentate nella provincia ed è questo uno degli ambiti più attivi sul fronte di chiedere in modo più accelerato possibile di capire esattamente che cosa accadrà nel nostro territorio per la configurazione di questi altri enti ci siamo già espressi nel sostenere che noi non dobbiamo soffrire rispetto alle altre province e le iniziative che noi abbiamo in corso sono evidentemente in contatto continuo con i nostri referenti regionali però adesso guardando il lato positivo dell'informazione il fatto che la profittura ci venga mantenuto in un momento così delicato come questo storico credo che sia stata una decisione influenzata non solo dalle nostre lobby evidentemente quelle che io chiamo lobby politiche ma anche dalle altre prefetture nelle altre regioni ad indicare quanto in questo momento una chiusura di questo tipo fosse certo al di fuori del contesto di sicurezza e di parte operativa che è indispensabile avere nel nostro territorio grazie signor sindaco consigliere cabibbo prego sì grazie ringrazio il sindaco di questa risposta ovviamente rispetto alla fine di novembre poi appunto c'è stata una situazione che si è che si è evoluta anche se naturalmente la sospensione del provvedimento non è l'abrogazione quindi vigileremo attentamente affinché non vi sia poi una revoca della sospensione e quindi una rinnovata intenzione di agire ancora una volta su questo territorio attraverso un impoverimento che passa e che passava dalla sede della prefettura e che con sé però porta appunto anche tutta una serie di altri enti molto importanti come diceva adesso il sindaco la camera di commercio e altri enti quello che mi sento di dire è che sicuramente non è in dubbio il fatto che il sindaco di Pordenone nella sua poi duplice veste anche di presidente della provincia abbia tentato in qualche modo quindi non dubito anche della sua onestà intellettuale sindaco sul fatto di farsi portavoce delle istanze locali rispetto a livello regionale rispetto a livello nazionale ma voglio in questo momento intanto sottolineare il fatto che su questo l'opposizione soprattutto in questo consiglio comunale è stata assolutamente collaborativa e fattiva ricordo che già lo scorso anno a gennaio avevamo raccolto le firme per la convocazione straordinaria di un consiglio comunale volto proprio alla discussione di questo punto della chiusura delle prefetture poi la mozione è stata votata con una serie di vicende perché devo dire che quando questa opposizione in questi anni in questo consiglio comunale ha tentato di essere utili di portare un contributo non sempre ha trovato grandi porte aperte o grande collaborazione spesso e volentieri forse c'è stata un po' di diffidenza nei nostri confronti e non sempre abbiamo unito le forze come forse si poteva fare comunque tant'è questa mozione poi è stata votata il 16 di marzo ma nonostante questo ecco forse qualcosa in più si poteva fare mi permetto solo di sottolineare il fatto che il ministro Alfano è venuto si è autoproclamato salvatore della patria quando poi in realtà semplicemente è chi era a causa del suo male nel senso che si è vantato di aver sospeso un provvedimento che era poi il suo di provvedimento allora adesso al di là di questa vicenda delle diciamo cose che sono state fatte o non sono state fatte io credo che su questi temi sulla cioè centralità di Pordenone rispetto al suo territorio sul suo ruolo e quindi sull'importanza di mantenere dei presidi ad esempio per la sicurezza per la legalità come può essere quello della prefettura il comando provinciale dei vigili del fuoco la questura ma anche rispetto al campo economico come può essere la Camera di Commercio l'Unione degli Industriali l'opposizione e la maggioranza devono fare quadrato a prescindere dai colori politici a prescindere dalle persone che poi siedono o siederanno in questo Consiglio Comunale credo anche che questo discorso si possa poi estendere ad esempio ai problemi del nostro Tribunale ovviamente non fa parte di questa interrogazione però il Sindaco sa qual è la difficoltà della Procura della Repubblica del nostro Tribunale che ha una carenza di organico in termini di magistrati che non sono stati assegnati nonostante ed è questo uno dei fattori ad esempio l'aumento delle persone che sono sottoposte alla diciamo competenza del circondario anzi della circoscrizione così come è stata rivista per cui ad esempio siamo passati da 300.000 a 408.000 persone residenti che avranno che hanno a che fare con la Procura e con il Tribunale di Pordenone ma a fronte di questo non è aumentato un solo magistrato ad esempio nell'organico della Procura della Repubblica e guardate che queste sono cose molto importanti perché hanno poi un riflesso molto pratico sulla sicurezza sul funzionamento della giustizia vi cito solo un dato per far capire quanto appunto il presidio del territorio è importante in termini di prevenzione sicuramente in termini di contrasto alla criminalità e di legalità e di sicurezza nel distretto della Corte d'Appello di Trieste di cui noi facciamo parte si prescrive solamente entro il grado di appello il 5% dei reati nella Corte d'Appello di Venezia si prescrive entro il grado di appello il 50% dei reati quindi voi capite che anche per non vanificare quello che è l'operato delle forze dell'ordine dobbiamo in questo senso essere in grado tutti quanti di far sentire la nostra voce ciascuno ovviamente secondo quelle che sono le sue funzioni le sue possibilità però ecco su questo ci troverete sempre pronti a dare una mano ma anche pungolanti nel come in questa interrogazione sollecitare interventi che magari potevano essere un po' più efficaci grazie grazie consigliere interrogazione numero 70 interrogazione sull'affermazione del sindaco su esistenza di luogo di culto islamico sul territorio comunale sottoscritto Francesco Ribetti consigliere comune di Pordenone facente parte del gruppo consigliare del popolo della libertà fratelli d'Italia permesso che in data 9 gennaio 2015 lo scrivente preso atto dagli articoli di stampa che raccontavano come il sindaco di Pordenone si fosse recato presso la moschea centro islamico sito di località comina presentandosi scalzo e per onor di cronaca un assessore della sua giunta provinciale sarebbe presentata con il capo coperto presentava apposite interrogazioni per conoscere alcuni aspetti della vicenda nel corso della propria risposta durante il consiglio comunale del giorno 16 marzo 2015 il sindaco testualmente affermava che si era levato le scarpe poiché quando vado in un luogo di culto seguo le regole di quel luogo più di una volta invece l'amministrazione comunale ha riferito come sul territorio comunale di Pordenone non esiste una moschea o altro luogo di culto islamico tutto ciò premesso sottoscritto il consigliere comunale del gruppo del PDL interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. se risponde al vero quanto affermato dal sindaco del comune di Pordenone ovvero che il centro culturale islamico sito in comina sia in realtà un luogo di culto islamico una moschea 2. se tale immobile abbia ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni dal punto di vista amministrativo ed urbanistico per essere adibito al culto 3. se la zonizzazione nella quale ricade l'immobile sia quella per i luoghi di culto con richieste di ricevere prima della discussione in consiglio tutta la documentazione comprovante della regolarità urbanistica del luogo per essere adibito al culto firmato Francesco Riberti Presidente Gruppo Consigliere del Popolo della Libertà Fratelli d'Italia prego signor sindaco se è possibile un attimo prima la risposta del sindaco perché do atto che mi è stata consegnata la documentazione però mi è stata trasmessa unicamente oggi tarda mattinata e io ero fuori per motivi professionali e non l'ho potuta verificare allora io immagino che mi sia stata trasmessa oggi in quanto oggi il sindaco l'ha messo a disposizione degli uffici e non è dubito però sull'interrogazione datata francamente non ho avuto il tempo di vederla allora io chiedo lo so che in capigruppo avevamo deciso di terminare le interrogazioni però io non mi sento pronto adesso non ho non ho analizzato la documentazione quindi se è possibile questa qua trasporla altrimenti chiedo tempo per analizzare la documentazione se me lo avessi detto prima va bene va bene la possiamo dare per letta la prossima volta sì va bene grazie beh no per le persone che assistono e quella successiva sì invece hociopro allora interrogazione numero 71 interrogazione sulla dichiarazione di componente CDA di società partecipata su situazione marò e posizione amministrazione il sottoscritto Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliare PDL Popolo della Libertà Fratelli d'Italia del consiglio comunale comune di Pordenone premesso che da molti anni ormai i marò fucilieri di marina sono ingiustamente trattenuti in India in attesa di processo e da più parti si è richiesta a gran voce che gli stessi potessero rientrare in Italia per molto tempo sulla facciata del palazzo sede della provincia di Pordenone quando la stessa era retta da un'amministrazione democraticamente eletta dal popolo campeggiava uno striscione con le immagini dei due marò che ne richiedeva rientro a casa foto con l'avvento di un'amministrazione di nominati presieduta dal sindaco di Pordenone lo striscione è stato rimosso lo scrivente ha presentato apposita interrogazione di data 23 gennaio 2015 chiedendo i motivi di tale rimozione senza ricevere risposte esaustive dal sindaco che si è trincerato dietro al fatto di dover prima rispondere innanzi il consiglio provinciale e che poi avrebbe risposto in maniera più esaustiva anche allo scrivente cosa in realtà mai avvenuta il sindaco di Pordenone ha indicato per la nomina al CDA della società partecipata Interporto Centro Ingrosso e CPA il signor Marco Cavallaro esponente del PD il sindaco ha più volte ribadito che i soggetti nominati dal comune debbano agire in armonia secondo le direttive fornite dall'amministrazione e per essi e con essi e l'amministrazione esiste un rapporto fiduciario sul sito pordenoneoggi.it è testualmente riportata la seguente frase attribuita al signor Marco Cavallaro segretario provinciale dei giovani PD e responsabile regionale della comunicazione del medesimo partito Cavallaro su Facebook liberi tutti tranne in Marò su Facebook Cavallaro ha pubblicato una foto con la scritta liberi tutti tranne in Marò a commento di un intervento di Marco Salvador tutto ciò permesso sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco competente per conoscere 1. se le instannazioni del signor Cavallaro sul caso Marò sia un'espressione della posizione dell'amministrazione sulla vicenda 2. se ritenga che chi si è reso responsabile di tali gravi affermazioni possa rappresentare l'amministrazione in società partecipata 3. stante la risposta omertosa e lacunosa alla precedente interrogazione chiede altresì a. se abbia ricevuto finalmente dal presidente della provincia ovvero se stesso la spiegazione del perché è stato rimosso lo striscione sui Marò b. se si è in intenzione dello stesso sindaco intervenire presso il presidente della provincia al fine di far riposizionare tale striscione c. in caso negativo se si è in intenzione del sindaco chiede al presidente della provincia lo striscione al fine di posizionarlo all'esterno del palazzo comunale d. in caso negativo se ritenga non degna di attenzione alla vicenda dei Marò firmato Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliere del popolo della libertà fratelli d'Italia prego signor sindaco grazie presidente grazie al consigliere vediamo di dividere la risposta all'interrogazione secondo i punti che sono stati elencati cominciando con una illustrazione di quanto effettivamente è accaduto mi rifaccio a quello che Marco Cavallaro ha poi fatto pubblicare e che più o meno suona così postando l'immagine satirica di un noto sito internet su un profilo facebook non suo mai avrebbe pensato questa è la dichiarazione che ha fatto scrivere sui giornali avrebbe pensato di finire nel mezzo del tritacarne mediatico e soprattutto di essere oggetto di attacchi personali che non fa fatica a definire violenti Marco Cavallaro vice segretario comunale del PD ha scelto da primo silenzio ora che le acque sembrano calmate spiega le sue ragioni il primo presupposto a scanso di equivoci è che la mia posizione su Imarò è la stessa del partito democratico del premio a Renzi per cui ritengo che il governo abbia fatto tutto il possibile finora e che l'unica strada praticabile sia quella di sottoporre la questione ad un tribunale internazionale chi mi ha attribuito un attacco a Imarò ha strumentalmente decontestualizzato i fatti la battuta satirica che Cavallaro ha usato era risposta ad un commento altrettanto satirico fatto dal consigliere Marco Salvadori sui fucilieri usati come statuini del presepe non era nella mia bacheca e nemmeno accompagnata da un commento personale politico il post quindi quello che Marco Cavallaro ha poi postato che riprendeva una finta locandina con scritto liberi tutti tranne Imarò si trattava del sito i nostri Imarò altro non era che un modo per dire la politica cerchi di non strumentalizzare tutto il fino finale è un commento rivendico alla mia libertà di cittadino non è che ogni cosa che dico ogni cosa ogni like che posso cliccare sul web rappresenti il partito democratico sono altri contesti in cui rappresento il PD e quindi l'amministrazione per certi versi se questo allineamento di posizioni tra chi partecipa ad una entità come l'Interporto per le sue scelte per le sue capacità professionali ricordo che un ingegnere con un titolo di logistico e di quello che oggi si chiama supply chain e questo è il suo lavoro ci era sembrato intelligente e comunque adatto ad occupare un posto in un CDA di un Interporto che si occupa di logistica forse abbiamo sbagliato prenderemo considerazioni diverse in futuro che non ci sarà secondo circa la vicenda del dello striscione della provincia le ricordo che in effetti in provincia questo è stato discusso sinceramente no ma comunque le rispondo adesso è stato discusso il 24 se non me ne ricordo veramente faccio a mente perché è stato discusso il 24 marzo del 2015 l'interrogazione era stata presentata dal gruppo consigliale Rista Civica la provincia il nostro territorio ed era firmato tra gli altri anche dal suo vicino di banco e durante quindi la risposta a questa interrogazione lo cito comunque se vuole poi le do copia del verbale che ho qui se vuole lo leggo tutto ma insomma in buona sostanza dice che la rimozione è stata predisposta dal settore edilizia e appalti informando il servizio presidente avendo accertato durante l'estate del 2014 che lo striscione non precedeva l'autorizzazione del ministero per i beni culturali e il turismo decreti vari e non possedeva l'autorizzazione per la pubblica fissione rilasciata dal comune di Pordenone ai sensi degli articoli che poi la rimozione dello striscione è stata programmata dopo i consueti interventi richiesti al servizio gestione immobili dall'avvio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2014-2015 e successivamente eseguita dai manutentori del lente lo striscione è stato depositato presso il magazzino provinciale in via Ferraris per futuro utilizzo aggiungo io mi scusi come nota margine che ovviamente si è anche approfittato per pulirlo cioè per dargli una manutenzione normale decente perché una volta fornite le opportune indicazioni al servizio la fissione del cartello sul fronte strada di Corso Garibaldi dovrà essere autorizzato dalla sottraintendenza e qui c'è l'articolato relativo insomma stiamo attendendo che questo benedetto parere ci venga rilasciato per alla fine riposizionarlo nella sua posizione originale ecco aggiungo però che durante durante il consiglio provinciale abbiamo anche stabilito che non si intendeva e non intendevamo lasciare lo striscione nel magazzino in comina della della provincia ma con intesa che è stata con una proposta che è stata avvaliata da tutti abbiamo rimesso lo striscione in Largo San Giorgio quindi nel diciamo nell'indirizzo ufficiale della provincia e lei sicuramente l'avrà anche visto perché è ben visibile non è voglio dire stato messo in un posto nascosto ma abbiamo convenuto tutti durante il consiglio provinciale che fosse alla fine una soluzione momentanea ma che per la giusta dignità ha un tema che ci sta a cuore ci sta a cuore e l'abbiamo sempre manifestato anche in questa sede di consiglio comunale ecco io ritengo di sottolineare che il copyright del tema dei Marò e della vicenda che li caratterizza non è semplicemente di una parte della politica italiana è un problema nazionale di cui tutti si sono fatti carico e si stanno facendo carico quindi rifiuto il fatto che ci sia solo qualcuno che abbia particolare attenzione abbiamo tutti particolare attenzione su questo tema ma questo per condividere gli sforzi e le dichiarazioni che ho sempre fatto in ogni momento come istituzioni ufficiali di momenti di istituzioni ufficiali come momenti di discussione in questa sala quello che io non riesco ad apprezzare però nella sua interrogazione è il termine omertoso lei poteva ovviamente usare tutti i termini che vuole lacunoso ci stava benissimo voglio dire dal suo punto di vista ma il termine omertoso secondo il dizionario italiano vuol dire che alla fine lei mi associa ad attività che di fatto sono malavitose se vogliamo guardare il devoto ecco però io le chiederei di specificare bene questa storia dell'omertoso perché mi ha dato particolarmente fastidio perché essendo insomma sensibile al tema sì al tema a questi temi dell'omertà eccetera la pregherei di chiarire bene il senso con cui lei ha utilizzato questo oggettivo prego la ringra prego consigliere ribetti grazie funzionano i microfoni non so se funziona ma il volume stasera si sente poco guardi sindaco parto subito si sente parlo eccoci qua sindaco parto subito dall'ultimo aspetto perché lei ha dato un'interpretazione tutto personale assolutamente che è scollegata dal contesto perché stiamo parlando dei marò non stiamo parlando di attività né malavittose né criminali ne ho mai accusato nessuno ma anzi si capisce proprio dal tenore letterale chiaro dell'interrogazione dove io faccio riferimento alla sua risposta dove lei la prima volta che ho fatto l'interrogazione mi ha detto ne parleremmo dopo e mi sono collegato dicendo quel dopo non è mai arrivato quindi omertoso nel senso che c'è stato un accadimento e lei ha avuto omertà nel riportarmi i risultati di quell'accadimento io non ho mai parlato di fatti malavitosi di reati quindi né li hanno mai attribuiti quindi io ritengo che lei abbia dato un'interpretazione ripeto tutta personale che poi estrapolando dal contesto un termine che si usa nel linguaggio comune quindi se lei ha voluto dare quell'interpretazione mi dispiace per lei però guardi non era assolutamente nelle mie intenzioni quindi non mi sento assolutamente in colpa il senso era chiaramente collegato al fatto che c'è stata un'interrogazione mi ha detto qualcosa ne ha discusso lì e dopo non mi ha riportato quindi in quel senso se vuole se preferisce leggere intenderla con lacunoso questo è il significato non è che lo sto aggiustando adesso come mi fa anche piacere e sa che io nei suoi confronti non sono mai tenero mi fa piacere il fatto che lei abbia rimesso e riposizionato lo striscione perché finalmente ha rifatto qualcosa che a mio modo di vedere non doveva neanche essere tolto quello striscione sa perché? perché quando la politica vuole fare qualcosa vuole dare segnali vuole fare delle mosse lo fa allora vedi parlavamo prima con i colleghi è sotto gli occhi di tutti la Meditec al Palazzo Badini quello striscione blu ha le autorizzazioni prescritte non lo so è stato messo non mi sembra che questa amministrazione sia mai preoccupata di levarla per andare a chiedere le autorizzazioni lo striscione sta là e non ricorda certo e non ricorda certo fatti di tale gravità che vanno che vanno a toccare tutti gli italiani come ha ricordato lei perché questa parte politica non vuole farsi portavoce non vuole cavalcare nulla anzi saremmo ben lieti di condividere con tutti la preoccupazione ma quando si vede che passa il tempo passano i mesi passano gli anni e c'è un governo centrale fermo immobile e la situazione resta una situazione di stallo lei capisce che qualcuno qualcosa deve dirlo se poi si vede il sindaco della propria città che viene nominato presidente della provincia e la prima cosa che fa o una delle prime va a levare uno striscione che non dà fastidio a nessuno beh francamente sentirmi dire che l'ha fatto per andare a chiedere le autorizzazioni mi lascia un po' perplesso quindi preferisco che sia tornato sebbene da un'altra parte sebbene in un'entrata lei dice che è un entrato ufficiale le dò ragione certo non è la nobiltà del corso ma va bene anche da quella parte l'importante è che sia chiaro che l'amministrazione comunale appoggia la battaglia dei Maroni quello che invece non posso accettare e non posso accettare e lo capisco che in fondo non l'accetta neanche lei perché mi ha ricordato una delle prime interrogazioni che feci in questa aula quando di fronte a un avvenimento di una gravità estrema c'è qualcuno che un assessore quasi tremando mi disse leggo la risposta che mi hanno fornito gli uffici lei stasera mi ha risposto leggo la risposta di Cavallaro sto Cavallaro che si permette di fare satira ma satira su cosa c'è qualcosa per cui fare satira no mi dica lei cioè una persona di buonsenso mi ha dato una risposta e coi fatti ha fatto qualcosa ha rimesso lo striscione ma c'è satira da fare sul fatto che due poveri disgraziati sono ancora via dopo anni e anni e un governo in belle di direi qualcos'altro e adesso si continuano a fare niente ecco io sono queste le cose che non capisco non capisco la satira vede Cavallaro poteva uscirse in molti modi perché quell'interpretazione quella scritta poteva essere interpretata in molti modi poteva anche dire che tutti a casa tutti liberi tranne i marò era semplicemente una constatazione perché in effetti è una constatazione che possiamo fare no invece il genio del Cavallaro ci viene a dire quello che era il suo significato voleva fare satira e io mi incazzo scusi il termine del presidente proprio sulla satira ma c'è satira da fare su un avvenimento simile c'è qualcuno che trova la cosa divertente chiedo ai colleghi del PD vi siete sbellicati nelle vostre sede di partito per i marò la battuta di Cavallaro è stata una battuta che vi ha fatto piegare in due dalle risate allora con un po' di decenza bastava che il signor Cavallaro legato e ricordo che Cavallaro è stato una delle sue prime nomine sindaco ed è guarda caso è uno dei non eletti nelle file del PD vogliamo chiamarlo per le sue competenze come mi è venuto a dire stasera o vogliamo chiamarlo come contentino per i non eletti chiamiamolo come vogliamo usiamo il termine che vogliamo però che uno nominato dalla mia amministrazione faccia satira su qualcosa su cui non si può far satira io non lo accetto come non accetto che questa amministrazione passi faccia passare sotto silenzio lei non ha risposto a una domanda io ho chiesto se l'amministrazione condivide o meno l'uscita di Cavallaro lei ritrova che l'uscita di Cavallaro sia qualcosa di satirico la questione dei marossi qualcosa su cui ridere o no mi dia una risposta a questo grazie grazie consigliere bene signori abbiamo esaurito le interrogazioni le sei interrogazioni passiamo ora alle proposte di deliberazione proposta numero 43 soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale modifica dello statuto comunale e delibere conseguenti la presentazione la può fare allora per la presentazione verranno dedicati 15 minuti c'è solo un consigliere che presenta se sono più consiglieri dovete rimanere entro i 15 minuti prego consigliere del bene allora dedichiamo un'oretta prego se possiamo invertire l'ordine di discussione dei due argomenti siamo qua in modo che così alla delibera della GEA in tempo ragionevole noi possiamo dare conclusione ed è nel rispetto di chi deve poi presentare questo aspetto e che senza tanto tempo potrebbe essere arrivare a buon fine se non per dire prolungare tanto è una questione di buon senso al quale chiedo di poterlo fare sì penso che il pubblico scusi consigliere pubblico presente non chiede per la GEA eh ho capito ma scusi nell'ordine consigliere adesso lo metteremo ai voti però nell'ordine dei lavori avevamo indicato questo è stata proposta l'inversione in capigruppo non è passata vedo molte persone tra il pubblico credo siano qui per le circosizioni cioè beh però insomma vabbè lei mantiene allora chiedo chi vuole intervenire a favore chi vuole intervenire contro nessun iscritto bene allora mettiamo subito i voti allora avete ovviamente compreso che la richiesta la mozione d'ordine presentata dal consigliere del beng è quella di invertire l'ordine dei lavori pertanto esaminare prima la deliberazione numero numero 45 sulla riconfigurazione della società GEA e dopo affrontare la numero 43 riguardante la soppressione delle circosizioni bene chiedo alla segreteria di bene bene signori le chiedo che no ormai no l'ho chiesto prima consigliere Ribetti scusi dichiaro aperte le operazioni di voto prego dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 39 votanti 38 maggioranza 20 favorevoli 7 contrari 24 astenuti 7 la mozione d'ordine viene respinta bene chi presenta la deliberazione prego consigliere Bianchini prego non sono a conoscenza di ciò che hanno deciso di ciò che avete deciso nella conferenza dei capigruppo quindi mi ripeta noi andiamo ad esaurimento oggi tutti e due le delibere vabbè ripeterò ma anche il suo capigruppo è gomito così strano andiamo ad esaurimento delle due deliberazioni giusto per sapere quindi ad oltranza sulle due delibere benissimo prego prego se era possibile noi vorremmo un attimo riunirci nel gruppo del partito democratico se è possibile sospendere la seduta per dieci minuti si ma hai ragione di questa deliberazione si se è possibile chiediamo la sospensione di dieci minuti non so se è rituale oppure no però dobbiamo un attimino dobbiamo un attimino conferire dobbiamo condividere una cosa insieme quindi mi è difficile mi è difficile farlo qui in aula e quindi anche per una questione di ordine chiedo appunto la sospensione di dieci minuti sono le 20 adesso al massimo le 20 e 15 riprendiamo i lavori se è possibile grazie presidente se non ci sono se non ci sono motivi di opposizione fondati dieci minuti possono essere concessi ma devono essere dieci minuti io li cronometro i dieci minuti non posso concedere più prego dobbiamo 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 condividere una cosa insieme non riesco a non riesco adesso a condividere con il resto con il resto del gruppo poi va bene è consentito è consentito è consentito è consentito è stato fatto per una volta che lo chiede finito scusate il silenzio per contegere bene prego scusi per carità io vorrei capire le motivazioni per cui bisogna innanzitutto la norma del regolamento in base alla quale si consente la sospensione a richiesta di un singolo gruppo senza neanche metterla come mozione d'ordine perché mi sembra che vada votata secondo sono proprio le motivazioni che stanno alla base stiamo parlando di una delibera che era già calendarizzata così mi è stato risposto in commissione capigruppo quando ho chiesto di slittare giusto vice sindaco mazzer era presente lei alla mia obiezione è stata risposta è già calendarizzata sapete da tempo che c'è questa delibera avete avuto modo di parlarne adesso arriva la richiesta del pd di sospensione di 10 minuti io francamente non vedo non vedo ci siano gli estremi allora voglio capire quali sono gli estremi che hanno impedito al pd di riunirsi prima e deciderlo io voglio prima di tutto le norme del regolamento poi voglio capire se mi dice le norme del regolamento no perché sennò si apre ogni volta qualcuno vuole prendere qualcosa siamo 10 gruppi ognuno dice 10 minuti scusate siccome no signori scusate allora facciamo siccome non è mai successo facciamo riferimento al regolamento l'articolo scusate l'articolo 49 parla appunto di sospensione e rinvio della discussione della votazione e dice nella facoltà del presidente ha sentito il consiglio la sospensione e il rinvio della discussione o della votazione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove a suo giudizio ricorda la necessità di approfondire gli argomenti proposti tale facoltà non è però consentita nel caso di riunione effettuata su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica Presidente lei si ricorda che la caprigo no no ma lo facciamo se il motivo scusate scusate se il motivo è l'approfondimento degli argomenti io posso concedere ha sentito il consiglio prego pertanto sono le 20.01 alle 20.11 ci ritroviamo beh Presidente lei si ricorda che lei si ricorda che l'unione presidente dei gruppi mi ha detto che l'argomento era già scritto all'ordine del giorno e quindi non avevamo bisogno c'erano presenti i colleghi si ricorda quando vi ho chiesto di svitare la discussione lei cosa ha risposto che l'argomento era iscritto da tanto su questa delibera basta bevi l'acqua basta vai fuori te la data dai vai vai fai parlare il capogruppo vai per favore vai vai grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Vedo il consigliere Ibeti iscritto a parlare. Il motivo, consigliere? Grazie, grazie presidente. La ringrazio. Guardi, in questi dieci minuti che lei ha concesso al PD abbiamo avuto modo di confrontarci anche noi, io e il mio collega del gruppo PDL Fratelli d'Italia e quelle che sembravano delle certezze, perché eravamo arrivati con una certezza granitica, purtroppo sono iniziati a vacillare. Purtroppo abbiamo avuto un'interpretazione... Cosa mi sta chiedendo, scusi, consigliere Ibeti? Sto spiegando perché sto motivando, lei prima mi ha parlato di motivazione, io voglio motivare la richiesta e adesso chiedo, a nome del mio gruppo, chiedo che venga concesso un uguale tempo di dieci minuti per far sì che io e il mio collega di gruppo possiamo dipanare questi nostri dubbi sulla delibera che siamo chiamati. Allora, guardi, le dico francamente che questa richiesta non la considero, le dico francamente perché sa che io non la considero, scusi, rispettosa del consiglio, perché i dieci minuti avreste potuto utilizzarli anche voi. Comunque, io ve li concedo, però dico anche questo, la regola è questa, io concedo i dieci minuti di sospensione anche in futuro, ma ad una richiesta sola per un approfondimento. Pertanto, se i dieci minuti verranno richiesti da altri gruppi in futuro, io li concederò, però dovranno essere utilizzati da tutti i gruppi quei dieci minuti. Siccome questa regola ne conosceva, se lei insiste in chiedere i dieci minuti, io li concedo e interroppiamo altri dieci minuti i lavori. Io, Presidente, la ringrazio, la ringrazio, accolgo. Sono le 20 e le 18, ma volevo solo concludere il mio intervento, perché vede, a nostro modo di vedere, lei ha dato un'interpretazione del regolamento che non è corretta, perché l'articolo 42, come più di qualcuno potrà vedere, al coma 2 dice, sulla richiesta di ritiro, sospensione e rinvio, delle proposte di deliberazione dopo il passaggio alla discussione, ma prima della votazione finale, decide il Consiglio senza discussione. Non decide il Presidente. Sì, ma non eravamo in discussione, però. Eravamo iniziato, perché lei aveva dato l'avvio alla discussione e aveva chiamato il Consigliere, uno dei proponenti, a discutere. Ma la relazione, e dopo io do il via alla discussione, come in tutte le deliberazioni. Presidente, adesso noi prenderemo i 10 minuti, la ringrazio, noi prendiamo i 10 minuti, 20 e 20 alle 20 e 40. Ma forse faremo anche prima, forse io e il mio collega faremo prima, perché siamo in due, non siamo in due. Grazie. 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 Per cortesia, accomodatevi. Bene, signori, riprendiamo i lavori. Do la parola al Consigliere Bianchini per la presentazione della deliberazione. Prego. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. A me il compito di presentare questa delibera che porta la firma di diversi consiglieri comunali di maggioranza di opposizione ed è una delibera che nella struttura è meramente tecnica ma è capibile che ha un connotato politico-amministrativo. Per quanto riguarda la delibera in oggetto, in maniera molto riassuntiva, dice che con questa delibera lo statuto comunale vigente viene modificato abrogando il titolo sesto dello statuto appunto sugli organi di decentramento e quindi c'è il così chiamato superamento delle circoscrizioni. Questa delibera, se questa sera verrà votata a maggioranza dei due terzi, avrà effetto immediato con le elezioni di quest'anno. Viceversa, se in prima votazione questa sera non avrà i due terzi, entro 30 giorni dovrà tornare il Consiglio comunale per una seconda votazione e a quel punto basterà la maggioranza di 21. Questa è la parte veramente tecnica. Andando invece nel passaggio più amministrativo politico, il mio intervento verterà su due termini importanti sicuramente per tutti noi, e quindi sulla rappresentanza e sulla partecipazione. Credo che tutti quanti i cittadini siano convinti che la rappresentanza sia il sale della democrazia. Su questo penso che non ci sia dubbio. Rappresentanza che, come sappiamo, deve essere pluralista, leale con i cittadini, che deve essere di relazione, tesa alla condotta del buon padre di famiglia e rappresentanza che deve essere utile. Se non ha quest'ultima caratteristica, è un po' fine a se stessa. E in questo momento storico siamo convinti, come lista civica al fiume, che le circoscrizioni sono state svuotate dalla loro utilità, di questa caratteristica importante, superate dagli eventi e dalla reale efficienza. lo diciamo in maniera delicata perché capiamo che andiamo a toccare molte sensibilità, perché riconosciamo alle circoscrizioni un ruolo negli anni importante, ma che ad oggi sono svuotate di significato, secondo noi, dalla maggior parte dei cittadini stessi. Perché oggi, in questo momento storico, se il cittadino vuole portare una propria istanza all'amministrazione che governa una città, ha la possibilità, in maniera, non dico immediata, ma a breve giro, di avere una risposta attraverso un contatto diretto con il sindaco e con gli assessori, superando questi organi. Questo lo vediamo quotidianamente quando arrivano richieste di incontro con assessori e sindaco e anche attraverso email e quindi attraverso nuove tecnologie. Se a questo aggiungiamo che il nostro comune si è dotato di uno strumento ottimo, secondo noi, l'acronimo è SOL, e cioè questo sistema informatico, questo strumento all'interno del sito comunale che fa sì che un cittadino all'interno di pochi giorni ha una risposta immediata da parte degli uffici stessi e ovviamente degli assessori competenti per qualsiasi argomento che a loro preme capire, conoscere, capiamo che questo organo, questo ente di rappresentanza della circoscrizione ormai ha perso questa caratteristica, secondo noi, di utilità come rappresentanza. L'ultimo di questi esempi è anche la creazione negli ultimi anni di comitati spontanei da parte dei cittadini, i quali molte volte superano tutti questi collegamenti istituzionali per andare direttamente a parlare con, come dicevo prima, con l'amministrazione attraverso la creazione di comitati. Quindi, per questo motivo, noi crediamo che le risorse impegnate in questo strumento rappresentativo devono essere ricollocate e per risorse non intendo risorse economiche, non intendo solo risorse economiche perché anche qui c'è chi parla di 16.000, di 40.000, qualcuno spara 60.000, il costo delle circoscrizioni. Ma non è la motivazione che ci ha spinto a portare questa delibera oggi, perché siamo consapevoli, come più volte qui dentro si è parlato, che la democrazia ha comunque un costo. e quindi non andiamo a proporre questa delibera soltanto per un risparmio economico, ma anzi noi mettiamo in subordine questa cosa e siamo convinti che invece le risorse vere di cui parliamo sono le risorse umane. crediamo che le energie che persone che hanno creduto e credono in questo ente di rappresentanza purtroppo in questo momento non sono valorizzate. Abbiamo visto più volte che consiglieri circoscrizionali impegnati, qui apro una parentesi, le circoscrizioni sono dei luoghi in cui persone si impegnano in maniera costante, non tutti, perché quando più volte consiglieri circoscrizionali di tutti gli schieramenti si sono trovati davanti a situazioni in cui capivano di non avere la possibilità di modificare qualcosa. Dicevo più volte abbiamo visto che quando una circoscrizione si è dichiarata contraria a un atto dell'amministrazione, comunque era un parere consultivo, non veniva preso in considerazione l'assessore perché cercava di capire il motivo, ma dopo non aveva nessun effetto pratico. Quindi secondo noi questo non valorizzare queste energie, risorse umane, fa sì che le circoscrizioni possiamo dirlo tranquillamente, siano superate. Crediamo che questi consiglieri quindi, e qui passo all'altro termine, la partecipazione, questi cittadini che mettono il proprio tempo per partecipare all'attività politica amministrativa debbano avere una meritata considerazione istituzionale, o mettiamo una maggiore considerazione istituzionale. E per questo noi proponiamo due passaggi. Un passaggio è quello che ho anche già proposto in commissione quando ho presentato questa delibera, e cioè quando, se c'è qualche cittadino che vuole spendersi in maniera costante e partecipare in maniera costante alla vita, alla modifica, alla vita, alle azioni amministrative di questa città, deve trovare spazio nelle liste civiche, di partiti, di tutti gli schieramenti, e quindi trovare spazio all'interno di queste liste per diventare consiglieri comunali, assessori e sindaci. Questo secondo noi è il primo passaggio per dare spazio e energie a questi cittadini. Poi, secondo noi, ci sono persone che la loro energia non riescono ad andare in maniera costante, ma ci sono fasi della loro vita in cui sono convinti che dare una mano all'amministrazione in maniera costante per un periodo, un mese, due mesi, un anno, sia fondamentale. E a quel punto abbiamo proposto ai nostri colleghi consiglieri di ragionare su un altro ente presente dentro il nostro statuto. All'articolo 4 dello statuto comunale si parla di consulte comunali. In specifico, vado a leggere, si dice Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune può costituire le consulte. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento. Ecco, noi crediamo quindi che la partecipazione di cittadini attivi con la voglia di dare un contributo importante alla loro città possa passare quindi anche nella creazione di queste consulte che sono già previste nel nostro statuto. Quindi per concludere, noi oggi presentiamo questa delibera per superare le circoscrizioni. Allo stesso tempo chiediamo a tutti i partiti e le liste civiche di non lasciare queste energie di cittadini in Pordenone, ma di prenderli con sé all'interno delle proprie liste civiche, dei propri partiti e inoltre chiediamo, ma poi questo si spenderanno i miei colleghi del PD in un emendamento, chiederemo all'amministrazione poi di prendere un impegno per creare in questo momento proposte consulte comunali. Grazie. 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 Volevo parlare prima di Bianchini, ma per correttezza ho fatto cominciare l'intervento. In quel documento c'è la mia firma che io ritiro. C'è il fatto personale, sarebbe che lei ritira la firma? Sì. Vabbè, mettiamo agli atti che il consigliere Lopipero ritira la firma. Non so, io ho un emendamento, mi è arrivato adesso dal consigliere Piccinato, a firma Piccinato. Adesso lo esamino e poi lo distribuisco. Non ho altri emendamenti, non ho altri emendamenti io. E poi distribuiremo anche, scusate, scusate, distribuiremo anche un altro documento che ci ha trasmesso la circoscrizione Rorai Capuccini, che è una sintesi, segretario mi aiuti, del lavoro svolto in questi anni. e anche questo verrà distribuito, non è stato inviato a me direttamente, ma comunque è già distribuito. Potete distribuire. Bene, allora è preso ad un emendamento, adesso darò un'occhiata e poi lo distribuirò. Sì, va bene, è vero, c'è anche la fase dei chiarimenti. Qualcun altro deve ritirare? Beh, beh, lo deciderà poi. Allora, per quanto... Il consigliere Piccinato stiamo lavorando, stia tranquillo. Allora, i chiarimenti possono essere richiesti dai consiglieri e ovviamente daranno i chiarimenti, io non posso obbligare nessuno, i consiglieri che hanno presentato la deliberazione, ovviamente. Pertanto, prego. Chiarimenti. Però, scusate, tutti quelli iscritti sono richiesti a chiarimenti o discussione? No, discussione no, devo... Per cortesia, cancellatevi perché vi devo dare io... No, 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 dovete cancellare quella roba lì. Dovete cancellare, adesso ci sono i chiarimenti. No, deve azzerare e ricominciare con i chiarimenti e i ribetti. Consigliere Dalmas. Non ho aperto discorso, perciò chi deve chiedere chiarimenti si scrive a parlare, gli altri devono cancellarsi perché... Quindi questi sono per chiarimenti? Per chiarimenti. Chiarimenti. Allora, consigliere Operfi, consigliere i ribetti, chiarimenti. Prego. Grazie. Volevo un chiarimento, perché ho seguito l'illustrazione del collega Bianchini, il proponente Bianchini. Allora, se non ho colto male, all'inizio ho parlato, appunto, riconoscendo la partecipazione democratica come, diciamo, base alla vita associativa. Poi ha fatto riferimento, se non ho colto male, alla, diciamo, se non ho capito male, che questa delibera dovrebbe portare all'abolizione delle circoscrizioni, però presuppone la partecipazione democratica da parte dei cittadini con la creazione delle consulte. Quindi volevo capire, la domanda è questa, se lo strumento è legato, cioè, se la proposta di libera è aboliamo le circoscrizioni e le sostituiamo con le consulte, e se l'ipotesi è questa, come intendono la partecipazione attiva dei cittadini democraticamente eletti? Perché se non ho capito male il riferimento alle consulte, si parla che il Comune può costituire le consulte, così facendo mi viene difficile capire una partecipazione democratica nel senso di cittadini eletti. Quindi la mia paura, diciamo, il mio timore, o quello che volevo capire è l'auspicio e superare le circoscrizioni per arrivare a degli ulteriori strumenti intermedi che però non siano più di eletti ma di nominati, oppure non c'è nessun tipo di collegamento di questa maniera. E poi, se quello che prevede, se queste consulte, come mia, debbono essere retribuite, non retribuite, cosa intende per... cioè, qual è l'intendimento che ha se collegato? Va bene. Grazie. Non so quante, chi c'è iscritto, perché nessuno si è cancellato. Richieste chiarimenti? Beh, prego. Scusate. Scusi, però, consigliere, lei è uno dei presentatori che chiarimenti chiede. Non c'è la sua firma? No, no, si sbaglio. No, no, scusi. Io vedo il suo nome qua, Giannelli. Ah sì, però è stata emendata quella... No, 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 no. No. Non c'è nessun emendamento. Lei sta chiedendo chiarimenti a chi? No. A se stesso. Allora, io voglio chiedere due cose. esatto, io voglio... Allora, quando... Faccio un breve inciso. Siccome lei mi ha detto che il mio nome c'è. Quando Bianchin ha presentato una mozione per eliminare i quartieri, così come io e i miei amici di gruppo abbiamo chiesto il 25 febbraio 2012 mozione 25 febbraio 2012 firma Giannelli impegna il sindaco e la giunta a procedere alla soppressione delle circoscrizioni. Mi sono reso disponibile. Oggi, ed ecco la mia domanda, chiedo due cose. Primo, il parere del segretario sul fatto che queste consulte comunali indipendentemente da quello che c'è scritto nello statuto possano essere create non di volta in volta in cui il comune ha un problema e decide di consultare alcuni cittadini. Ma il articolo, te lo vai a vedere articolo dello statuto vorrei sapere se è possibile istituire una consulta formalmente in modo stabile permanente e ciò in modo slegato da un problema che so è caduta la campana di San Giorgio il comune chiama 20 cittadini della zona di San Giorgio crea una consulta lì consulta per sapere se vogliono di nuovo la campana oppure qualcos'altro. quindi io voglio sapere il segretario se è formalmente giuridicamente possibile dare una veste fissa e diciamo a questo tipo di strumento e poi voglio sapere da Mario Bianchini con che criterio vengono fatte queste consulte cioè siccome non abbiamo il documento lui l'ha chiamato ordine del giorno non so se sia un emendamento no Mario Bianchini prima mi diceva non è un emendamento è un ordine del giorno noi non lo conosciamo non sappiamo allora vorrei chiaramente quante sono le consulte quanti membri sono fissi dove si riuniscono dall'assessore in consiglio comunale al bar all'oratorio a casa di Bianchini come facciamo a valutare questo? a casa di Giannelli in piazza 20 settembre che ci vanno tutti quindi posso andare quindi ho bisogno di questa informazione altre richieste di chiarimenti? Consiglio De Bortoli prego sì presidente volevo chiedere al presentatore di questo delibero anche però ai firmatari come mai sono fermati soltanto a livello circoscrizionale perché se le cose che ha detto il presentatore rispecchia i firmatari le cose sono cambiate per tutti per cui potevano anche andare oltre prevedendo nel regolamento l'adimmezzamento del consiglio comunale di Pordenone siamo 40 siamo troppi e poi soprattutto vista l'esperienza fatta in provincia che oggi viene governata 51 comuni con due assessori un presidente e governa 51 comuni cosa servono 8 assessori per governare 50.000 abitanti di un comune ma non solo per i comuni di Pordenone ma per tutti gli altri allora io direi di andare oltre presentare anche giustamente in quella linea che vogliono affrontare l'immezzamento visto che andiamo a lezioni tra un po' l'immezzamento del consiglio comunale e mettere il numero di assessori molto più ridotto di quello che c'è oggi questa naturalmente è auspicabile che venga presentata proprio per la volontà e l'impegno di questi nostri colleghi che vogliono affrontare la più funzionalità e tutto ciò che è stato detto a mio avviso un sacco di stupidaggini perché probabilmente non conoscono se la gente si allontana dalla politica è proprio per questo allora dovrebbero calcolare meglio perché la gente e chi è passato lo sa era lì che cominciava ad avvicinarsi alle problematiche delle città a lavorare gratuitamente quasi perché questo è fatto per le città dunque avrei rispettato più questi organi periferici perché coinvolgevano di più e aiutavano più a capire le problematiche territoriali ben precise di una città capoluogo poi l'ultima domanda chiudo come chiarimento volevo chiedere al presentatore se hai mai stato consigliere di circoscrizione grazie grazie consigliere consigliere Pedicini prego sì grazie il mio chiarimento nasce da tutta una serie di questioni però principalmente vorrei capire la delibera però mi pare che in parte è stato risposto così come presentata non è stata emendata dall'amministrazione perché era stato annunciato un emendamento non è stata emendata no gli emendamenti presentati nell'ambito della discussione non contano perché quelli se non sono approvati devono essere prima approvati se no l'amministrazione allora il chiarimento è per il momento gli emendamenti si possono presentare durante tutta la discussione per regolamento quello che vorrei capire quelli poi l'amministrazione dirà se li fa propri o li mette in votazione quelli cambieranno la delibera nel caso ma la delibera da parte dell'amministrazione o dei proponenti c'è un emendamento alla delibera o è quella che abbiamo appena discusso per essere molto chiari no guardate no scusate quelli allegati alla alla deliberazione l'emendamento numero 1 numero 2 numero 3 e numero 4 insisto i proponenti della delibera come quando la presenta l'amministrazione questa non è una delibera presentata dall'amministrazione ma dei proponenti gli emendamenti tutti possono presentare poi se li votano e se sono approvati i proponenti intanto prima vorrei capire esattamente chi sono i proponenti perché ho sentito già alcuni che hanno ritirato la loro firma dalla proposta ho sentito l'opipero ho sentito anche Tavella lei non l'ha sentito ma prego si l'ha dichiarato si è alzato in piedi prima però vedo che non è passato inosservato quindi si l'ha dichiarato a verbale adesso non voglio portare via tempo allora lo rimettiamo lo facciamo dichiarare a verbale di nuovo perché io non l'ho sentito presenti io non l'ho sentito nulla io l'ho sentito perché ero qua va bene allora va bene qual è il chiarimento primo la delibera presentata poi può avere tutti gli emendamenti del corso li discutiamo li vediamo ce li darete prima dell'inizio della discussione spero in modo che si possano negli interventi poterli discutere se non cambia per il momento non è cambiata anche se il partito democratico presenta un emendamento o altre cose sono sempre emendamenti presentati in corso della discussione due se la posta così come è stata formulata chi sono quelli che rimangono gli effettivi proponenti mi farebbe piacere saperlo visto che ci sono state alcune cose ultima questione ciò che viene che è stato detto e la chiedo anche questo della partecipazione popolare in altre forme non sono previste dalla delibera perché la delibera prevede solo la cancellazione delle circoscrizioni ma non propone nulla in sostituzione perché nell'intervento che ha fatto il relatore Bianchini ha detto semplicemente che lo statuto prevede altre forme di partecipazione corretto su questi chiarimenti mi farebbe piacere per poter poi affrontare la discussione nel modo più corretto spero di essere stato chiaro e mi fermo allora andiamo scusate prima di arrivare allora per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'amministrazione sono i quattro emendamenti allegati sì è sempre di un punto beh va bene col visto sì sì è vero no amministrazione sì per rendere coerente con la firma del segretario scusi per rendere coerente l'eliminazione ah no certo stiamo parlando degli emendamenti scusate stiamo parlando degli emendamenti sì no 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 va solo a spuntare la parola circostituzione nei vari punti dello statuto no 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 sì per rendere sì sì allora scusate la delibera allora io qui ho l'originale con le firme adesso vi indico i sottoscrittori allora per il fiume vedo la firma solo di Bianchini pertanto per il fiume devo intendere tutti i componenti del fiume poi vedo la firma del consigliere poi vedo la firma del consigliere Giannelli poi vedo la firma del consigliere Loperfido Piccin Tavella Giust Martino Perrone Manzon Tomasello Rossetto Bonazza Del Santo Bevilacqua Peresson Lopipero Piccinato allora l'unica notizia ufficiale è che il consigliere Lopipero ha ritirato la firma adesso chiedo se c'è qualche altro proponente che intende ritirare la propria firma allora il consigliere Tavella per cortesia lo deve dire a microfono che rimanga Scusa ma è emendata o no questa perché io la ritiro se non è emendata ho detto questa è la presentazione della delibera la proposta di deliberazione originale prego consigliere Tavella ritiro la firma alla proposta di deliberazione chi altri prego se vuole motivare la motiva se non la vuole motivare non posso impedirgli di ritirare la firma se non mi dice le motivazioni ah lei lei deve ritirarla prego al momento sono in grado di parlare solo per me stesso poi per altri grazie presidente guardi sicuramente il tema delle circoscrizioni è un tema che questa amministrazione avrebbe dovuto affrontare era dalle linee programmatiche anche di questa amministrazione nel fatto che si era riproposti di andare a riformare questo questo organo democratico presente nello statuto al momento in cui è stata proposta questa proposta di delibera da parte dei colleghi consiglieri effettivamente c'è stato anche il sostegno da parte del sottoscritto successivamente a ciò ci sono state dei contatti con persone che sono presenti all'interno di questi organi democraticamente eletti e anche persone che non ne fanno parte ma sono comunque vicini al territorio nel quale viviamo e nel confrontarmi con queste persone che hanno continuato ad operare in questi anni all'interno di circoscrizioni mi hanno anche evidenziato tutta la serie di iniziative che hanno fatto durante questi anni il sottoscritto è anche stato consigliato di circoscrizione in passato e mi dimisi proprio perché non riuscivo a dedicare il tempo necessario questo forse era 96 96 quindi per svolgere questo ruolo c'è bisogno del tempo necessario per dedicarsi a conoscere ciò che viene sul territorio documentarsi e poi esprimere anche dei pareri è vero sono pareri di carattere consultivo ma forse proprio pecca da parte di questa amministrazione nella quale in questo caso non parlo soltanto di maggioranza parlo di consiglio comunale che sarà ripromesso di intervenire per dare un ruolo più attivo ed allora nel momento in cui ci sono queste persone che vengono democraticamente elette ci sono queste persone che democraticamente elette rappresentano il territorio e operano per il bene del territorio nel momento in cui sento che forse si può risolvere con comitati ad hoc ecco allora ricordo che la democrazia può avere tanti difetti ma al momento l'unico modo che è stato valutato come adatto a poter governare è la democrazia è stata dal voto popolare che può piacere o non può piacere e visto che il nostro statuto prevede le circoscrizioni come elemento prioritario rispetto agli organi o ai comitati che eventualmente si vogliono creare bene è giusto che le circoscrizioni continuino a svolgere il proprio ruolo all'interno di un comune come quello di Pordenone che è anche comune capoluogo vogliamo dargli maggior potere bene siamo qua pronti a discutere ma non dimezzare o annullarle in cambio poi di qualcosa di indefinito le persone che sono anche qua presenti si dedicano volontariamente visto che non lo fanno di certo per il gettone di presenza alle attività del quartiere come potete vedere anche dal documento presentato dal presidente della circoscrizione Rorai Capuccini sono diverse le attività svolte e così per tutte le quattro circoscrizioni presenti sul territorio e il fatto di avere degli organi democraticamente eletti che riescono a svolgere il ruolo da pungolo essere sempre presenti sul territorio forse è anche una cosa che deve farci pensare e quindi il sottoscritto ha rivalutato la propria posizione in un momento preciso in cui gli organi democratici stanno per essere o sono continuamente depauperati da parte di chi pensa che nominando un organo o una persona si possa tranquillamente governare senza alcun problema invece no noi crediamo che la democrazia abbia ancora il suo peso che sia ancora necessario fare riferimento alle regole democratiche che abbiamo previste dello statuto e soprattutto perché sin da questo punto lo dico verbale nel momento in cui si dice c'è il sol bene io dal sol non riesco più ad avere le stesse risposte che si aveva prima sol è segnalazione online e nello stesso giorno in cui il sottoscritto quando il 29 di dicembre ha chiesto accesso agli atti e siamo al 18 di gennaio ancora non è stata data risposta allora a questo punto che rimangono gli organi democratici a tutela del territorio a sostegno dell'attività dei consiglieri comunali anche per fare in modo che non si vada a delegare ad un qualcuno che poi non risponda a nessuno perché noi siamo democraticamente guardi collega no collega guardi anche io le voglio molto bene ma se mi dicono deve togliere la firma io non faccio quello che togli la firma non dice niente ecco no 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 collega non è assolutamente così tant'è che gli emendamenti che stanno presentando qua sono per venire incontro alle vostre esigenze quindi io dico di fronte di fronte a eventualità indecifrabili in questo momento io faccio un passo indietro tolgo la firma nel rispetto di chi svolge questo ruolo e eventualmente sarà compito della prossima amministrazione risolvere questo dubbio grazie grazie qualche altro consigliere firmatario che vuole fare dichiarazioni no proseguiamo con i chiarimenti consigliere Piccin prego grazie presidente allora io volevo sapere è ben vero che questa è una proposta che viene dal consiglio ma è altrettanto vero che avrà un assessore o il sindaco competente e lei ha l'assessore grazie l'assessore mazza beh lo sentiremo dopo no immagino in fase di replica perché io che non faccio parte della maggioranza non so come la pensa l'amministrazione invece una domanda di tipo tecnico la legge nazionale e il segretario credo volevo chiedere la legge nazionale 148 del 2011 all'articolo 16,17 ha ridotto il numero dei consiglieri comunali volevo sapere se aveva come li aveva ridotti perché ho sentito prima il collega De Bortoli che diceva avete firmato per abolire circoscrizioni potevate anche dimezzare il numero dei consiglieri a parte il fatto che quello lo prevede una legge nazionale 40 per i capoluoghi di provincia volevo sapere se eravamo rimasti 40 o se eravamo stati decurtati grazie consigliere Daniello prego grazie posso parlare prego prego allora volevo capire visto che si è parlato di consulte che c'è scritto anche nello statuto si in effetti rasrizi un po' il microfono per corto dia che magari si avvicina di più si sente? si allora prima il consigliere Bianchini ha parlato che al posto delle circoscrizioni sono proposte delle consulte allora io volevo capire che tipo di organismo è su quale architettura amministrativa si basano come quando verranno eletti o scelti i rappresentanti nelle consulte e in base a quale regolamento va bene grazie consigliere del ben prego grazie allora se non erro ma di solito non lo faccio e questa è una proposta di delibera che deve avere tutti i crismi delle proposte di delibera del consiglio comunale e fra questi requisiti considerando che questa è una delibera che modifica i regolamenti comunali attenenti le circoscrizioni penso che su questo non ci sia nessun dubbio l'articolo 18 della delibera 7.3 2011 numero 30 dice che su questo argomento deve essere sentito obbligatoriamente le circoscrizioni quindi io consigliere comunale ho diritto di vedere su quel fascicolo il parere obbligatorio delle circoscrizioni questo è un mio diritto che non concedo a nessuno di poter derogare dell'articolo 18 e penso che essendo questa una richiesta formale debba essere presente lì dentro perché noi dobbiamo comportarci secondo le regole che magari chi ha deciso 5 anni fa ha messo dentro inoltre le circoscrizioni sono organi dell'amministrazione comunale che hanno avuto la maggioranza cioè che hanno avuto partecipazione più del 51% i consiglieri del comunale hanno il mio status e come mio status hanno dovere di essere ascoltati su questo argomento e io ho diritto di vedere i loro pareri va bene adesso il segretario raccoglie il consigliere dal MAS prego 18 argomento delle scoscrizioni ci sono i pareri non non è derogabile non è derogabile scusate scusate no ma non faccio scusa per un per un per un per un così è dal MAS prego no ma prima sempre sul sul proseguire dei lavori posso toccava dal MAS di la verità va bene no beh non si sente date la parola al consigliere ecco mozione sul proseguio dei lavori riagganciandomi a quanto chiede espressamente il consigliere poi gli rispondete effettivamente sul parere delle circostizioni ma essendo una modifica statutaria tra parentesi sarebbe dovuto andare anche in commissione regolamento perché tutte le modifiche allo statuto e al regolamento passano prima alla commissione regolamento noi non abbiamo mai fatto una commissione regolamento su questo argomento quando l'abbiamo fatta riunita no no sulla sull'argomento specifico quando dammi la data l'abbiamo fatta congiunta qui no congiunta ho presieduto io è stata illustrata no la commissione regolamento che congiunta non è congiunta l'abbiamo fatta presiede mi farete avere il verbale comunque c'ero perciò posso confermare no con le utili abbiamo fatta solo regolamento per queste circosizioni l'abbiamo fatta assieme alla commissione prima con il consigliere salvador alla presidenta delle circosizioni con l'intervento anche dei presidenti non si ricorda forse non so c'era lei forse ha fatto anche l'intervento ai 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 consigliere pedicini non si ricorda no vabbè sto scherzando prego consigliere dalmas no dalmas no consigliere piccinato prego non c'è più grazie presidente io allora sono un attimo in difficoltà a capire tutte queste cose che sono successe nel senso che la mia domanda di chiarimento è ma quindi se alcuni hanno ritenuto di ritogliere la propria firma dal documento di delibera presentato dall'amministrazione poi tutta un'altra parte ha fatto un ulteriore documento di emendamento che va a ma la domanda mia è tutti quelli che hanno tutti quelli che hanno firmato il documento originale che non hanno ritirato la firma votano quel documento anche senza emendamenti o no e alla fine visto che lì i numeri ci sono nessuno li ha ritirati gli altri quindi ci sono mi pare 24 numeri ma scusi consiglio avvicinato anche i sottoscrittori possono non votare il chiarimento è quindi nessun altro ritira la firma ci sono i numeri a posto ma a posto cosa scusi non capisco la domanda quindi no chiedo chiarimento se nessun altro ritira la firma l'ho chiesto prima nessuno nessuno ha fatto la dichiarazione se cambieranno idea ce lo comunicheranno grazie consigliere Cardin prego si era cancellato scusi consigliere Dalmas consigliere Cardin possiamo dare la parola Dalmas prego prego si addirimenti la questione che ha posto prima il collega del Ben sulla quale neanche Picco dalla Mirandola o Calamandrei adesso li tira fuori perché la questione è de plano proprio così poi sulla missibilità dell'emendamento caro collega Bianchini Bianchini credo che hai tu proposto oggi vedo quarto firma non ho agliati non ho agliati un emendamento Bianchini però scusate ma l'ha annunciato questo che modifica cioè che trasforma è del PD esatto è l'emendamento che dà compiuta attuazione alla mozione l'originale mozione Giannelli spiego perché me lo sono visto l'originale mozione Giannelli la quale c'era anche la mia firma ma io non sapevo la birichinata che aveva in mente Giannelli in quel momento è stata è stata modificata nel corso del consiglio comunale del 24 maggio giugno in diversi momenti il testo finale impegna l'amministrazione comunale stiamo parlando di una mozione che poi stiamo parlando di una mozione che a sto punto diventa una delibera straordinariamente quella mozione diceva impegna il consiglio comunale o comunque la giunta l'amministrazione a modificare a superare gli organi di decentramento amministrativo con un'altra cosa che non si sa cosa sia allora questo emendamento e qui chiedo ulteriormente anche il parere del segretario comunale è all'evidenza inammissibile perché è generico mal scritto non ha nessun riferimento modifica lo statuto in virtù di non si sa che cosa attraverso indicazioni generiche ma non puoi scrivere non puoi lo statuto è la legge fondamentale dell'organizzazione del comune e voi presentate un emendamento a questa mozione in cui si dice che i rappresentanti territori cittadini dal punto di vista della visita alla loro omogeneità storica geografica essere appartitiche elettive e confondete sul piano del diritto in modo assolutamente volgare quelle che sono le funzioni delle circoscrizioni sulle quali si può essere d'accordo oppure no della loro esistenza ma non è questo il punto giuridico perché la collocazione delle circoscrizioni quali organi di decentramento amministrativo è cosa ben diversa dalle consulte popolari di cui all'articolo 4 dello statuto non possiamo fare le nozze con i fichi secchi sono due cose ontologicamente diverse ed è offensivo rispetto alla sensibilità di questo consiglio se venite con queste proposte dopo otto mesi che state lì perché non avete trovato l'intesa politica si avvicinano le elezioni e i voti dei consiglieri circoscrizionali vi servono questo è il punto però questa è politica questo è merito io finisco il mio intervento perché voglio che si pronunci aperti sverbi il segretario comunale anche su questo se ha coraggio va bene penso che il segretario non manchi il coraggio prego consigliere Cardin anch'io un chiarimento a prescindere dal fatto che anch'io penso che chi ha partecipato alla redazione di questo statuto rimarrebbe molto sorpreso nel vedere il modo in cui vengono trattate le consulte comunali oggi comunque a prescindere da questo anch'io avevo le stesse domande della consigliera Daniello perché volevo capire in maniera un po' più precisa in che cosa si sostanziano queste consulte e poi volevo capire se questo emendamento era un emendamento che coinvolgeva completamente e stravolgeva la delibera nel senso volevo capire nel momento in cui le consulte non venissero stabilite secondo determinate regolamentazioni e con determinati principi rimarrebbero i consigli circoscrizionali cioè l'idea è quella di stravolgere la delibera dicendo che i consigli circoscrizionali nel caso in cui le consulte non vengano non vengano stabilite o istituite secondo determinati criteri rimangono i consigli circoscrizionali cioè questa era l'idea oppure nel senso altrimenti faccio un po' fatica a capire quale sarebbe la sanzione nel caso in cui il consiglio comunale non portasse a termine questo lavoro anche perché voglio ricordare il consigliere Bianchini che il suo collega Salvador per esempio che era molto interessato al regolamento dei beni comuni l'ha proposto con una delibera di consiglio quindi se era una cosa così importante nulla vietava la lista civica e il fiume di fare una bella delibera di consiglio di soppressione delle circoscrizioni non capisco sì ma questa è una delibera che in realtà arriva come delibera dell'amministrazione quindi questa è una delibera di consiglio proposta da alcuni consiglieri ma il proponente il proponente è l'assessore non capisco no allora no 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 tanto ho capito no no dovete fare il cons il ah non è della mia ah perché ah ok ok allora credevo fosse una delibera ecco non c'entra niente quindi non è dell'assessore è stato indicato l'assessore come ambito di competenza allora resta solo la domanda di chiarimento se permangano le circoscrizioni nel caso in cui non vengano istituite queste consulte nei termini insomma in cui non so se l'assessore o il consigliere Bianchini ci illustrerà va bene grazie consigliere Pedicini solo richiamare l'attenzione del segretario prima che deve dare le risposte sia quanto ha affermato prima il consigliere Dal Ben ma quanto ha espresso anche il consigliere Dalmas che gli ha chiesto di non ritenere legittima questo emendamento il numero 6 volevo richiamare la sua attenzione sul fatto che l'emendamento chiede l'istituzione delle consulte comunali dice proprio così eh sì ma le istituzioni sono già istituite non bisogna bisogna dare attuazione allo statuto ma non istituirle perché sono già istituite attraverso lo statuto perché non esiste questo ci può essere un regolamento non è questo bene chiedo solo che pone attenzione allora bene signori scusate scusate allora abbiamo abbiamo esaurito le richieste di chiarimenti però io farei rispondere prima al segretario che mi sembrano argomenti di rimenti e poi passiamo a i proponenti che vorranno dare delle chiarimenti prego allora sulla sul tema legittimità di di consulte permanenti la domanda del consigliere Giannelli l'articolo 4 dello statuto prevede le consulte non distingue permanenti o puntuali quindi si possono fare e nell'ordinamento italiano ci sono in tanti comuni quindi non essendo vietato dal nostro statuto si possono fare anche consulte permanenti la domanda 2 è del consigliere Piccin con quella normativa nazionale che però non recepita a livello regionale perché noi abbiamo uno statuto di autonomia in materia di autonomia locali se avessimo la norma nazionale saremmo a 32 consiglieri con il 138 convertito in 148 2001 3 il consigliere del ben sul parere delle circoscrizioni allora tecnicamente la proposta consigliare che è pervenuta prevede una modifica dello statuto lo statuto tecnicamente non è una delle materie di competenza delle circoscrizioni è ovvio che di conseguenza viene anche abrogato il regolamento sulle circoscrizioni e quindi su questo allora diciamo che l'emendamento che abbiamo proposto per rendere pulita tutta l'operazione tecnicamente dovrebbe essere dovrebbe essere sentita le circoscrizioni se comunque voi eliminate dallo statuto le circoscrizioni comunque si ottiene lo stesso effetto no se lo eliminate dallo statuto si no ma non sulla modifica statutaria e poi sul resto comunque ripeto nel mese di novembre è stata fatta una commissione congiunta regolamento è la prima con invito a tutte le circoscrizioni che hanno anche potuto sono intervenuti mi pare anche dei rappresentanti quindi quindi di fatto una consultazione una consultazione però non è necessario questa è la situazione sulla domanda di Dalmas sulla legittimità dell'ipotesi di consulta allora rispetto alla coerenza con l'ordine del giorno approvato del consiglio vabbè è una valutazione che lascio al consiglio in termini di legittimità non vedo nessuna legittimità nel prevedere nel prevedere l'attivazione e regolamentazione delle consulte ma mi sembra ma stiamo parlando di questo emendamento presentato non vedo legittimità su questo sì neanche io vedo il contenuto è chiaro ecco adesso chi dà le risposte agli altri richiesti e chiarimenti consigliere le risposte mi sembra di poter ma mi pare sintetizzando mi sembra che dica che è legittimità ha detto che non è necessario ma sento solo io certe cose non so allora vediamo di dare no 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 scusi ripeti adesso parla segretario parla segretario un attimo così chiarisce allora la proposta di una parte dei consiglieri comunali di sopprimere un titolo dello statuto che prevede l'istituzione che prevede il funzionamento che prevede l'esistenza delle circoscrizioni porta a cascata anche la caduta del regolamento quindi non ma non è la soppressione del regolamento è un intervento sullo statuto bene chiaro quindi il parere che diceva non so se ho capito ma forse per fare la sintesi il parere che richiedeva il consigliere del ben è legittimo nel misura in cui un'eventuale deliberazione va incide sul regolamento che disciplina il funzionamento delle circoscrizioni se noi invece andiamo a modificare solo lo statuto per l'eliminazione delle circoscrizioni non è prevista questa richiesta di parere io così ho capito mi sembra anche logico chiedere un parere alle circoscrizioni sulla loro eliminazione mi sembra anche una cosa che insomma ma non è non è previsto nella competenza da quello che ho capito bene questo è il parere del segretario prendiamo atto ma non c'è il parere dove ho io ho il segretario che ho il parere delle circoscrizioni è che è l'articolo di sotto della legge numero del libro numero 30 del setematico di Milano è il mio che è il mio dovere e il dovere delle circoscrizioni presentarlo è il dovere e il dovere che si prepara la regista che è non è vero adesso no scusate consigliere del ben siccome so che lei è anche molto preciso c'è che fosse sfuggito a me qualcosa c'è qualche cioè l'articolo 18 prevede che le modifiche statutarie devono essere dovete scusate fate no 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 sì ma è una delibera che modifica lo statuto questa fate terminare non regolamenti sì ma non regolamenti non è che tutte le delibere vanno a parere delle circoscrizioni quelle ah ecco sì no ma noi aboliamo lo statuto ma non aboliamo regolamento no l'anacaprina va bene sì ma è di conseguenza della modifica statutaria ma non è di conseguenza non è di conseguenza non c'è nessun regolamento della sua parte è tutto fortunato se tu mi dici se è legittimo diremo dritto in modo chiaro e descritto ho dei diritti se qualcuno non gli garantisce questi diritti se ne farà carico bene ho diritto nel mio ruolo di consigliere comunale di pubblico ufficiale di questo e ho diritto che altri pubblici ufficiali qualche anno digano il parere e ho diritto che altri chiedano quel parere e ho diritto che il consiglio comunale senza tolto il suo parere sono miei diritti ai quali non voglio assolutamente rinunciare e chiedono alla dignità del consiglio comunale di essere coerenti su questa condizione di pubblico ufficiale stiamo facendo una funzione dello Stato non stiamo inoltre di rinunciare di rinunciare la tante stiamo dicendo un ottico costituzionale questo è il nostro compito questo è il dovere rispettare almeno le nostre delibere allora scusate sì ma lo è dopo no 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 i pareri ci sono no i pareri delle commissioni ci sono sì delle commissioni sì no 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 perché abbiamo valutato che era era sullo statuto che si interveniva secondo te è legittimo senza pareri sì 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 ma è messa dopo cioè nel momento in cui sopprimo sì no allora io ti faccio dire se mi tieni legittima questa deliberazione così come è stata formulata tu mi dici sì e continuiamo sì ce l'ho già dato posso ce l'ho già dato posso anche aver sbagliato ma il parere di legittimità io l'ho già dato allora non stiamo scusate allora intanto voglio allora consigliere Pedicini allora il segretario non ha la verità in tasca però ha già dato un parere ha già dato un parere legittimità su una delibera di iniziativa consigliare che dice sopprimere le circoscrizioni poi dice e com'è che lo fa questo lo fa rimuovendo una serie di articoli dallo statuto punto 3 ma lo faccia parlare il consigliere Pedicini per cortesia se no siamo qua fino a domanda lo faccia parlare non tema quello che deve dire il segretario lo ascolti e poi replica per cortesia se no non ci capiamo lo faccia terminare lo faccia terminare per cortesia allora tant'è che oggi come oggi come è messa la delibera non la sopprime subito il regolamento non so se mi spiego lo sopprime dal momento in cui cessano le circoscrizioni quindi non è soppresso oggi è soppresso alla fine perché ma è soppresso perché cessano le circoscrizioni per la modifica statutaria va bene allora scusate allora scusate 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 allora io capisco che lo tengo facendo vabbè consigliere Pedicini è vigente oggi e lo sarà fino alla fine se l'ha approvato ma non è modificato no allora bene adesso adesso possiamo chiudere questo capitolo allora sintetizzate no scusate facendo sintetizzando quello quello che ho messo non ci sono i pareri delle circoscrizioni pertanto consigliere del ben non è che non gliele vogliamo sottoporre non ci sono i pareri bene pertanto vorrei precisare che non stiamo giocando a carte non ci sono perciò siamo siamo in una interpretazione siamo in una interpretazione giuridica del dello statuto dei regolamenti delle norme il segretario mi sembra che abbia ribadito senza incertezze che la delibera così come è stata strutturata è legittima pertanto continuiamo i lavori poi farete i vostri mi dispiace il parere del segretario io lo accolgo e non posso discutere prego consigliere Bianchini no 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 consigliere Pedicini non pago niente non si preoccupi non si preoccupi grazie presidente sarà una preoccupazione grazie presidente io credo che io ho seguito attentamente prego consigliere Pedicini silenzio prendo dopo la parola ringrazio prego io ho seguito il l'accorato ragionamento fatto dal consigliere del ben e allo stesso modo io capisco il suo non so come chiamare la rabbiatura eccetera per dei diritti lesi secondo lei ma allo stesso modo sa le dico stiamo discutendo una cosa importante per tutti chi ha un'idea chi è un'altra e soffermarsi su un un passaggio che lei ritiene fondamentale ovviamente dove sa già qual è la risposta delle circostezioni e non è giocare a carta come dice lei però ovviamente spostare questo ragionamento come amministrazione anzi come consiglio comunale perché è una delibera di consiglio comunale noi abbiamo ragionato in commissione prima e in commissione regolamento con le circoscrizioni e con i consiglieri comunali quindi il passaggio con le circoscrizioni e i consiglieri c'è stato dopo lei lo vuole formale potesse che abbia ragione io mi attengo a quanto dice l'amministrazione però in questo momento lei chiede di avere diritto di sapere cosa pensano le circoscrizioni ma lei lo sa già perché in commissione prima e in commissione regolamento si sono espresse bene in maniera molto chiara anche detto questo io non è che ho scritto questa delibera da solo perché come dice più volte il consigliere non ho questa facoltà non ho queste competenze e quindi è chiaro che io faccio solamente da portavoce in questo momento e chiunque degli altri firmatari vuole intervenire lo faccia pure tranquillamente è una delibera di consiglio sì cara consigliera Cardin assessore provinciale è una delibera di consiglio sì ho imparato bene dal mio collega il passaggio è non sono mai stato consigliere di circoscrizione è vero non sono mai stato io Mario Bianchini non sono mai stato uno dei firmatari come quando lei consigliere De Bortoli non voterà il piano regolatore io non gli chiederò se è mai stato ingegnere o architetto dopo sul ragionamento invece del sono risposti i chiarimenti mi sono chiesto se ero consigliere comunale se sono stato consigliere di circoscrizione non ci sono mai stato in circoscrizione grazie dopo l'altro passaggio io credo io credo che tutte le domande fatte importanti sono quelle sul regolamento delle consulte allora io ho solo dichiarato che lo statuto comunale prevede altri strumenti di partecipazione e ho dichiarato che nel breve e in questo momento è arrivato ci sarà un emendamento che proporrà uno di questi strumenti che si chiamano consulte comunali all'articolo 4 dello statuto si dice che il regolamento e quindi tutte le domande che voi avete fatto specifiche sulle consulte in questo momento non hanno risposta perché questo regolamento verrà fatto da tutte quelle persone consiglieri comunali che avranno voglia di costituirle e quindi creare un regolamento ad hoc per le consulte previste dall'articolo 4 è chiaro che nell'emendamento noi chiediamo che sia la giunta che si faccia carico di questo passaggio ma siamo altrettanto convinti che la giunta è ben lieta di ascoltare tutti maggioranza e opposizione su questo per quanto riguarda consigliere Ribetti il discorso della retribuzione questa delibera di consiglio comunale dice alla parte iniziale che si rifà alla deliberazione del consiglio comunale del numero 25 2014 cioè si rifà a una mozione presentata dal collega Giannelli poi emendata dal collega Manzon dove si prevede impegna il sindaco e la giunta di procedere al termine dell'esperienza delle circoscrizioni alla fine dell'attuale mandato amministrativo e a riprogettare forme di partecipazione barra coinvolgimento alternative senza costi per l'amministrazione che consentano al cittadino di prendere parte attiva al governo della città quindi questo è lo spunto che ha dato il via a questa delibera di consiglio quindi la risposta è questa penso di aver risposto alle domande che io ritengo di dover rispondere come firmatario quindi tutte le altre domande specifiche sulle consulte non hanno risposta perché dovremo insieme io chiedo all'amministrazione insieme al consiglio comunale programmarle grazie altri chiarimenti giustamente sentito adesso dietro le spalle ha ragione consigliere non ho risposto e con questa delibera si vanno a cancellare le circoscrizioni e poi e questo è il primo punto con l'emendamento si chiede all'amministrazione di presentare una proposta di consulte comunali ma una non è subordinata all'altra allora i richiesti chiaramente non ce ne sono più chiedo al consigliere anzi chiedo alla segretaria di cancellare i nomi perché devo dichiarare aperta la discussione e poi vi iscrivete ve l'ho detto prego cancellate tutti i nomi io preavviso il ricorso preavviso il ricorso contro questo e nessuno vuole muatare se ce la vuole a vedere o il nuovo avvertimento qui dentro vengono le i miei diritti di pubblico di poter prendere visione come scritto e fare le condizioni ho capito come univocamente va interpretato in questo modo allora ho cancellato tutti la mia domanda è ma l'emendamento viene a condizionare se se non vedono se non si non si non si non non beh l'emendamento non si si non condiziona in quella no mi sembra io leggo l'emendamento mi sembra di no allora silenzio per cortesia cancellate no ma non possiamo fare una non possiamo fare una gazzara per bene silenzio si grazie adesso io dichiaro aperta la discussione invito i consiglieri a iscriversi per prendere la parola adesso potete scatenare mi dice il sindaco non l'ho detto io prego consigliere Ribetti grazie 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 presidente no per cortesia grazie grazie presidente ma l'ho già sono già intervenuto in in commissione dicendo quello che pensavo su su questa delibera io credo che credo che ci sia un punto su cui tutti siamo concordi le circoscrizioni così come sono adesso servono a poco ma non servono a poco per come sono le circoscrizioni ma servono a poco perché non è stata colta e qua mi viene da dire adesso so che il vice sindaco si arrabbierà però non è stata colta l'opportunità l'indicazione chiamiamola così che era uscita alla fine della scorsa tornata amministrativa quando erano già state riformate le circoscrizioni quando si era già chiesto di fare qualcosa in più ci eravano già posti i problemi sulle circoscrizioni avevamo fatto un'opera che era un'opera intesa nel senso di dire è giusto è un caposaldo fermo quello che ci deve essere una partecipazione diciamo che parta dal basso un coinvolgimento da livelli diciamo più periferici per giungere sino al consiglio comunale sino in quest'aula una partecipazione che doveva secondo quelli che erano chiamiamoli dettami le idee che c'erano in quel momento garantire prima di tutto e questo è un caposaldo su cui poi tornerò l'elettività perché era giusto avere un'elettività dovessero essere il meno possibile onerose per l'amministrazione per il comune per i nostri cittadini però se questo si è attuato perché abbiamo ridotto il numero sia delle circoscrizioni sia dei consiglieri a mio modo di vedere dove non siamo andati a colpire dove l'amministrazione poi non è riuscita a travasare in qualcosa di formale io gliene do atto assessore Mazzer io ricordo che lei mi ha contattato mi contattò chiese a me come capogruppo qualcosa un paio di anni fa con il ritardo al cui ci ha abituato l'amministrazione non tempestivamente chiese quella che poteva essere un'idea però diciamo che io mi ricordo una o due telefonate non di più assessore Mazzer non mi ricordo di aver fatto degli incontri non mi ricordo di aver fatto delle sedute dove ci siamo attorno a un tavolo riuniti per dire come rendiamo più effettiva la partecipazione delle circoscrizioni alla vita democratica come la rendiamo più efficace io mi ricordo che ci furono quei tentativi per poi vederli inoffragare bene io già in commissione perché ricordo il passaggio in commissione dove non avete fatto lo stesso errore delle ultime avete fatto la commissione congiunta già quella volta in commissione io chiesi il perché di questa scelta tempestiva tra virgolette da parte di alcuni dei consiglieri perché è una scelta assolutamente improvvida cioè noi arriviamo adesso a fine mandato a dover incidere su qualcosa saranno le amministrazioni che dovrà riguardare l'amministrazione futura cioè vede io ritengo che se delle decisioni vanno prese vanno prese in un arco temporale in un periodo che sia di vigenza di un'amministrazione è vero che spiegheranno i suoi effetti dopo perché andranno al voto però deve essere qualcosa che deve rispecchiare la sensibilità attuale io non ritengo che un'amministrazione che è arrivata agli sgoccioli debba arrivare ad approvare qualcosa io lo so che no la stavo anticipando assessore Mazzer non nascondiamoci dietro un dito perché e noi ci nascondiamo dietro un dito questa è una delibera di consiglio ma una delibera di consiglio dove poi vede anche l'intervento dell'amministrazione una delibera supportata io sto spiegando perché se mi fa finire è una delibera supportata dalla maggioranza che questa amministrazione regge è una delibera a cui l'amministrazione ha partecipato in tutte le vesti e in tutti i modi non è stata un'amministrazione assettica che dice gestitevela come una delibera di consiglio gestitevela come se fosse presentata dal singolo consigliere è stata una delibera dove l'amministrazione ci ha messo del proprio e prima di tutto lei assessore Mazzer perché quando lei vuole fare qualcosa come vice sindaco come assessore lei lo fa quindi se lei avesse realmente voluto cambiare le circoscrizioni lei sarebbe imputato avrebbe chiamato i suoi capigruppi di maggioranza caro Bianchini caro Tomasello venite qua non ci rompete perché questa è una cosa che mi devo gestire io no fresco un altro discorso non te lo dico e lei avrebbe battuto i pugni sul tavolo ha detto questa qua gestisce l'amministrazione quindi l'omettere il non fare significa condividere e appoggiare quindi per me questa è una delibera che coinvolge questa amministrazione questa amministrazione che sta arrivando alla fine e che vuole continuare a lasciare la sua lunga mano sulle amministrazioni future questa qua è una cosa che dovrebbe l'avete fatto su altre cose il piano regolatore ha provato dobbiamo ancora finire di provarlo e state morendo perché morite a giugno lo fate sulla GEA il gabinetto continuate a voler piazzare le vostre cose no non è una responsabilità ma io sto dicendo scusi dove fare un dibattito ma Conficone no ma 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 io dico io cosa cambia lei sa cos'è Conficone lei sa cos'è il semestre bianco lo sa lo sa lei non è arrivato all'esame no se dobbiamo se dobbiamo andare se dobbiamo andare avanti si ma hai fatto la razio la razio che sta dietro veramente non è proprio così non è proprio così comunque comunque mi state facendo perdere il film allora ecco perché ho detto che è una delibera di questa amministrazione ed è una delibera chiamiamo di consiglio di amministrazione di Bianchini che presenta tutta una serie di ipocrisie ed una serie di di etrologie di specchietti per la lodole usate il termine che volete perché vede allora partiamo da lontano è vero il fiume il fiume la lista civica di cui è capogruppo il proponente che ci ha illustrato questa delibera non ha mai presentato almeno che io mi ricordi nelle tornate amministrative le proprie liste dei consiglieri di circoscrizioni è vero però il fiume volenti o non volenti amministra questa città da parecchio tempo il fiume avrebbe avuto gli strumenti di proporla tempestivamente Bianchini prima diceva no io non sono mai stato in circoscrizione quasi se ne vantava grazie per la precisazione Bianchini però vede mi verrebbe da dire qualche volta che un po' di sana palestra in circoscrizione forse avrebbe fatto bene visti certi interventi che fa qualcuno in quest'aula direi che forse la circoscrizione serve anche per questo io adesso vado a spiegare Presidente io capisco di essere molto simpatico a Bianchini però che ogni volta che parlo si gira mi sembra anche perché non è neanche bellissimo da vedere da dietro mi piace già di più allora adesso scherzi a parte vede io adesso sto parlando un po' in generale però io voglio dire quello che penso sulle circoscrizioni io ritengo che le circoscrizioni siano il gradino il primo gradino il primo passo che avvicina i cittadini come ho detto prima a quella che è la vita democratica prima si faceva riferimento alla possibilità dello strumento sol la risposta non noi mandiamo il cittadino ma mandare la richiesta online all'amministrazione bravo sindaco chi per lui si mette là e risponde beh francamente non credo che sia questo cioè ben venga il progresso tecnologico ben venga ben venga questo strumento in più ma vogliamo mettere la partecipazione la dialettica la persona del quartiere che sa chi è il suo punto di riferimento l'andare l'andare a vedere che la domenica mattina chiedo scusa che sabato mattina sabato pomeriggio c'è qualcuno che gli apre la biblioteca che gli dice vai là guarda c'è un problema alla via ecco io credo che sia tutto un insieme di vivere associativo vivere comune che serve e si crei una rete che è una rete importante a mio modo di vedere attenzione ciò va coniugato con un altro aspetto a mio modo di vedere fondamentale io prima l'ho detto scherzosamente tra virgolette scherzosamente al consigliere Bianchini ritengo che sia anche uno strumento utile per chi si approccia che per chi deve avvicinarsi e vuole avvicinarsi vuole mettersi a disposizione della collettività cercando di iniziare quella che può essere un'avventura può essere imparare a parlare imparare a capire cosa è una delibera fare un'interrogazione rispondere dare un proprio voto analizzare capire ascoltare perché il nostro problema è che spesso non ci ascoltiamo in quest'aula arriviamo qua noi con un'idea voi con un'altra facciamo muro contro muro potrebbe essere forse una scuola che potrebbe servire a tanti a molti prima ho parlato di ipocrisia e c'è un perché ho parlato di ipocrisia è una domanda tra le ultime come mi ha risposto il proponente fiero nel dirmi che la delibera parlava di ridurre i costi per l'amministrazione e allora l'ipocrisia adesso ve la tiro fuori io perché se qua dobbiamo prenderci in giro cari signori prendiamoci pure in giro facciamo riempire le pagine ai giornali che si divertono a fare le foto a scrivere finalmente si va a votare aboliamo i costi per l'amministrazione volete sapere quali sono i costi per l'amministrazione ve l'ho già detto quando ho fatto abbiamo parlato della riduzione del numero dei consiglieri i costi sono quando l'assessore Romor si dimette eletto col fiume per far entrare in surroga un altro oppure quando l'assessore Moro si dimette per far entrare un altro oppure quando Conficconi del PD si dimette per far entrare un altro oppure quando Mazzer si dimette per far entrare un altro non eletto oppure quando la Mio si dimette se ne va oppure quando c'è quando c'è Zille quando c'è Zille che si dimette per far entrare un altro Allora vogliamo sapere quanto ci costano 3410, dice il sito, meno la riduzione, 3410 euro al mese. Quelli che hanno fatto entrare questi signori, i nostri assessori esterni, perché sono tanti assessori esterni, hanno fatto entrare delle persone che ogni consiglio comunale ci costano quanto? Lo sappiamo 120, cosa prendiamo noi? 120 lordi. E quanti consigli comunali facciamo signori? Quanti ne facciamo? No, Bianchini, dimmelo tu quanti ne facciamo. Ne facciamo tanti, ne facciamo pochi e noi di cosa andiamo a parlare? Noi andiamo a parlare, noi che siamo in 40, 40, che solo come consiglio comunale siamo come tutte le circoscrizioni, perché le abbiamo già ridotte l'altra volta, sono 10 per 4 fa 40, soltanto che loro 40, loro 40 di tutte le circoscrizioni costano 31 euro e 20 a seduta quando ci vanno. Io prima mi sono preso tutte, ho provato a fare dei conti perché le avevo chiesti all'amministrazione, le avevo chiesti oggi pomeriggio, stamattina all'amministrazione, mi hanno risposto ti diamo il link e vateli a vedere. Guardi, io glielo dico per certo, avevo già preparato l'emendamento, ho già preparato l'emendamento da fare questo, non riesco a trovare dove collegarlo, non riesco a trovare dove collegarlo, non so se lo farò, però io lo dico chiaramente, è una cosa, è una porcheria, quella che è stata fatta, l'ho già detto anche l'altra volta, per me è una porcheria il dimettersi per far entrare i primi di non eletti, è una porcheria, perché soprattutto quando si va poi a giustificare, quando poi si va a giustificare la soppressione di organi democraticamente eletti per risparmi di costi. Evidentemente il consigliere Bianchini non era stato attento, non aveva accolto il perché della mia domanda di chiarimento. Voi volete mettere le consulte, a parte che ci sono degli emendamenti che sembrano fatti veramente con i piedi, e qua per una volta tanto mi tocca dar ragione a Franco Dalmas, che è una cosa che non faccio mai a cuor leggero, è una cosa che non faccio mai a cuor leggero, ti sto dando ragione per una volta. Per una volta che io do ragione a Franco Dalmas, però è vero, sono emendamenti fatti senza capo né coda. Volete fare le consulte, vi richiamate, voi dite aboliamo, aboliamo intanto le circoscrizioni perché è il peggiore dei mali, così risparmiamo costi, perché quando c'è poi da votare la surroga del mio assessore non sono costi, quelli non sono costi, 3.400 euro al mese, invece i costi quali sono i 31,20 euro di ogni seduta di quel poverazzo là dietro. Però, complimenti. Questo no, però poi ci dite, noi intanto aboliamo, poi però faremo le consulte, benissimo, fai le consulte. L'articolo 4 dello statuto è strumento di democrazia popolare, e ci dice il capogruppo Bianchini. Bene, allora, il regolamento... Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione. Peccato che, comma prima, ci dice che è il comune che può costituire le consulte. Allora, noi leggiamo quest'articolo 4, con l'emendamento numero 6. Allora, il comune può istituire le consulte, cosa significa? Che può scegliere, perché può istituire, però quell'altro mi dice essere elettive, però a partitiche, quindi facciamo un'elezione, un'elezione che deve essere a partitica, quindi riservata, credo, ai partiti, non possono essere presenti. Se vuoi le consulte a partitiche, però la vuoi elettiva. E quindi fai solo delle consulte di liste civiche. Una genialata. È veramente una cosa... È una genialata, no? Ecco, io credo che basti solo questo, perché far capire come è stato fatto l'emendamento e soprattutto far capire l'ipocrisia di questa cosa. È terminato il tempo. Sono stato interrotto più volte e vado a concludere. 15 secondi. 15... Ecco. Allora, io concludo e mi riservo per il secondo intervento. Io ritengo che sia veramente, ma proprio una debolezza dell'amministrazione, perché ripeto, è una delibera dell'amministrazione, Assessore Mazzer, andare ad abrogare le circoscrizioni senza prima aver fatto, aver adempiuto il mandato che era stato dato nella scorsa amministrazione. Quindi fare delle circoscrizioni esistenti qualcosa che sia veramente utile per i nostri concittadini. E non nascondiamoci dietro i costi, che i costi non esistono. I costi sono ridicoli e risori. I costi li fate voi dimettendovi, prendendo lo stipendio e facendo entrare gli altri. Bene, grazie. Consigliere Giannelli. No, è uno scherzo? È stato cancellato il consigliere Pedicini? È venuto qua a schiacciare, dai. Sì, sì, ero iscritto io a parlare. Ma come l'ha fatto a cancellarla? È venuto qui e ha schiacciato il pulsante. Come a scuola? Vabbè, ci credo perché voglio sperare che non siamo a livello goliardico di scuola media. Perciò, credo, quello che mi dice, prego. Credo io, ma credo... Già 23 secondi, guardi, che stiamo discutendo di questo. Gli riconosco i 30 secondi in più. Grazie. Guardi, Presidente, le dico molto e anche lo dico a tutta l'amministrazione. Sono molto amareggiato di quello che è successo qui questa sera. Perché al di là del merito, si può essere favorevoli o contrari, ci si può dimenticare, si può cambiare opinione, non ha nessun problema. Il problema è che però, se non si rispettano le regole fondamentali della convivenza, diventa difficile e bisogna essere molto severi nel rispettarlo. E così come è stato trattato il consigliere del Ben questa sera qui, in questo Consiglio Comunale, come per dire, sì, sì, va bene, non importa, andiamo avanti, poi vedremo. E lui ha anche detto che farà ricorso. Non mi pare un bel gesto, non mi pare che stiamo lavorando in conclusione di questo mandato amministrativo nel migliore dei modi. Perché un atto di prepotenza e di forza nel dire si va avanti a prescindere e dando anche dei pareri, mi dispiace, segretario, ci conosciamo da tanti anni, ma un parere così equivoco, dicendo che sì, va bene, però, perché poi lo aboliamo e quindi, ma in realtà è vigente, e quindi, ma sì, ma la delibera lo va ad abolire. No, non lo va ad abolire, finché non sarà approvata la delibera, è vigente, e quindi qui per approvare la delibera il parere obbligatorio ci voleva, e qui non c'è. Quindi detto questo, mi dispiace però il metodo, il modo come siamo arrivati a questo e anche la forzatura che si fa nei confronti del consigliere. Io l'ho detto tante volte, chi legittima la maggioranza è l'opposizione, una maggioranza senza opposizione non è neanche maggioranza. Il più delle volte, però mi accorgo che si tende tante volte a cascare in questa forma così anche di prepotenza, si tende a dire, va non mi interessa, andiamo avanti, votiamo, portiamo avanti la delibera, non ha importanza cosa dice la minoranza. Ma in realtà è la minoranza che va a legittimare il vostro operato. Perché senza una minoranza che è qui, che rimane ai banchi, che discute, voi non avete titolo per andare avanti in questo modo. e questa delibera è già viziata da questo, che se ne dica. Perché manca di quei che sono dei pareri obbligatori. Quando io prima facevo riferimento alla Commissione Statuto e Regolamento, è vero, c'è stata quell'assemblea su cui abbiamo messo dentro un po' di tutto, ma le circostizioni non si sono espresse nei termini e nei modi previsti dal loro regolamento per dare un parere. Quindi non hanno espresso un parere in quella riunione e la Commissione Regolamento, che è diventata congiunta con la prima, in realtà, sul verbale di quella Commissione, non abbiamo esaminato le conseguenze sull'articolato dello Statuto e del Regolamento nell'andarne a abolire una parte. Perché dico questo? Noi farò un discorso politico, non voglio fare un discorso semplicemente tecnico. Vedete, la delibera che viene presentata questa sera, la posso anche capire da parte del fiume, è sempre stato contrario, non la posso capire da parte del Partito Democratico. Perché il Partito Democratico ha partecipato alla stesura delle circostizioni così come sono oggi. Il Partito Democratico ha riformato queste circostizioni. L'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto qui, in questo Consiglio Comunale. Perché davanti alla legge nazionale che le aboliva, e vi voglio ricordare che il sindaco Bolzanello le aveva sospese, proprio le aveva sospese, è intervenuta la Regione, il primo di Venezia Giulia, con una sua delibera votata anche dal Partito Democratico a livello regionale, perché se no non ce la potevamo fare, perché era l'opposizione e la Forza Italia che allora ha presentato la legge regionale, e l'ha approvata, e l'ha proposta il Partito Democratico a livello regionale, ha fatto la riforma che dava potere ai capoluoghi di provincia, di questa regione, di dotarsi, se lo ritenevano, delle circoscrizioni. Pordenone ha dibattuto in Consiglio Comunale questo, e il Partito Democratico ha votato e ha scelto di tenere circoscrizioni, riducendole nel numero, da sei portate a quattro, riducendole nel numero dei consiglieri, riformandole. La parte che si doveva fare, quindi questo è stato fatto, però è una riforma monca, perché cinque anni fa, si doveva con questa amministrazione Pedrotti, si doveva fare, riformare anche il regolamento delle circoscrizioni, e attuare lo statuto, perché le circoscrizioni, così come sono previste dallo statuto, sono organi di decentramento, titolo sesto. Cosa abbiamo decentrato sulle circoscrizioni? Quei poteri gli abbiamo dato? Se dovevamo decentrare il potere amministrativo, dovevamo dargli dei poteri alle circoscrizioni, dare la possibilità alle circoscrizioni di svolgere delle funzioni decentrate dell'amministrazione comunale, lo prevede il nostro statuto. Siamo inadempienti nei confronti dello statuto e di una riforma che abbiamo fatto. E questo la maggioranza, se lo deve dire, non può far finta che questo non esista, non è vero. Poi per carità si può cambiare, però siamo inadempienti. Siamo inadempienti nei confronti dello statuto, non è neanche stato applicato lo statuto, perché se al titolo sesto sono organi di decentramento, bisogna decentrare qualche cosa, non è stato decentrato nulla. Quali sono le funzioni che svolgono in modo decentrato? Le proposte c'erano. Nel 2000, ben 16 anni fa, abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia di all'epoca una riforma organica delle circoscrizioni. Nel 2000, 16 anni fa, e abbiamo continuato a giocare su questa cosa senza poter... e c'è, perché ecco, ce l'è lì, ma è depositata anche presso gli uffici comunali. E la riforma è totale. Cosa erano questi organi? Cosa gli decentravamo le circoscrizioni? Delle funzioni utili nei quartieri. Potevano svolgere determinate funzioni, non avevamo bisogno che per esempio, ormai si fanno, parliamo di, stiamo parlando di 16 anni fa, quindi dobbiamo capirci anche su questo. Oggi un certificato glielo potete mandare anche a casa, se hanno internet, possono tranquillamente. 16 anni fa non era così. Però 16 anni fa parlavamo di creare all'interno delle circoscrizioni degli uffici dei centrati dell'anagrafe. Perché obbligare tutti a dover venire qui, in centro a Pordenone, quando nei quartieri di questa città si poteva tranquillamente svolgere e avere determinati servizi da parte del comune? Oggi, 16 anni dopo, quei determinati servizi li puoi avere direttamente a casa, ma non tutte le persone anziane hanno un computer, hanno una stampante, si possono stampare i certificati. Si può fare ancora oggi, 16 anni dopo, presso l'ufficio della circoscrizione e il certificato possono andarselo a ritirare in piazza Torre, quelli di Torre, a Rorai, quelli di Rorai, e così via, a Valenoncelle. E non c'è bisogno di dover venire per un certificato, si può richiedere, e poi venirlo a prendere direttamente in circoscrizione. Ma queste sono una delle centomila cose che si possono fare. Però bisogna avere una concezione, che è quella di dire che i cittadini hanno dei servizi decentrati. Il problema, voi confondete, quello che è la gestione amministrativa del comune con quella che è la partecipazione popolare. Qui mi dispiace per il consigliere Bianchini, scusami Sonia, mi dispiace per il consigliere Bianchini che mischi le due cose. Lo statuto comunale si è già posto il problema della partecipazione popolare. Lo ha già fatto. E lo fa, come è stato ampiamente citato, e voi, confondendo le due cose, fate l'emendamento, col capo secondo del nostro statuto, che prevede le consulte comunali, ma prevede anche l'albo delle forme associative, le riunioni e le assemblee, le consultazioni, il referendum consultivo. è pieno di possibilità di partecipazione popolare di istanze e di contatto con l'amministrazione, se l'amministrazione lo volesse, per carità di Dio. E potrei andare avanti, perché si parla delle petizioni e proposte delle istanze e dell'azione popolare all'articolo 11. Il nostro statuto dedica ben dal 4 all'11 di articolo, ben 9 articoli, alla partecipazione popolare. Ma non c'entra niente con le circoscrizioni. la circoscrizione non è la partecipazione popolare, che è già prevista. E poi non ho capito, fate l'emendamento per istituire le consulte, che sono già istituite, per regolamentarle, se volete, quando poi non lo fate per tutto il resto. Perché in questo comune non abbiamo fatto un regolamento, per esempio, per il referendum? Perché su alcuni temi importanti di questo comune non abbiamo chiamato i cittadini al referendum, magari sull'ospedale, cioè, che ne abbiamo discusso tanto, perché su altri temi importanti non abbiamo chiamato i cittadini a partecipare con un referendum e non abbiamo voluto sentire la voce di tutti i cittadini su un determinato argomento piuttosto che un altro. Non l'abbiamo fatto. Quindi non è che manchino gli strumenti per la partecipazione popolare. E non è solo attraverso le consulte che abbiamo risolto un problema. Non abbiamo risolto proprio niente. Perché tutti gli altri previsti da questo statuto nostro non vengono attuati. e non li abbiamo attuati. Però oggi ci mettiamo una foglia di fico e diciamo, vabbè, facciamo le consulte. E allora perché non il referendum? Perché non tutto il resto? Le circoscrizioni sono un'altra cosa. È un decentramento amministrativo. Allora voi dovete essere chiari qui e dire ai cittadini di Pordenone che l'amministrazione comunale, perché anche qui interventi, ho sentito, il cittadino può venire qui a parlare con l'assessore. E quella è sempre, sono sempre la partecipazione. Ma non è la gestione amministrativa. Un ufficio, per esempio, decentrato per spiegare come funzionano le tasse comunali nel quartiere è utilissimo. Piuttosto che venire al terzo piano a fare la fila. Oppure determinati pagamenti, eccetera. Ma ce ne sono centomila. Il vigile di quartiere si è perso per strada e così via. Che sarebbe stato bello che il vigile di quartiere facesse riferimento alla circostituzione. Scusate un attimo. Allora, noi dobbiamo dire in modo chiaro che l'amministrazione in modo centralistico non intende decentrare nessuna funzione ai quartieri di questa città. Ma perché lo statuto prevedeva un decentramento dell'azione amministrativa? Per andare incontro ai cittadini. Per cercare di dare ai cittadini dei servizi migliori sul proprio territorio. E chi svolgeva queste funzioni? Le avrebbero svolte i consiglieri di circostituzione perché intervenendo e partecipando non solo alla forma di partecipazione ma alla gestione amministrativa il loro parere doveva servire a farvi gestire meglio il comune non a creare un fastidio. Perché su determinati argomenti sicuramente vivendo il quartiere si ha la possibilità di avere una cognizione migliore di quello che è il problema. Ma questa è una concezione che bisogna avere. Questa forma di gestione amministrativa di questo comune che è centrale all'interno del comune ma nello stesso tempo ha la sua rimificazione su tutto il territorio. Perché tornando al territorio comunale di Pordenone non è vero che noi non abbiamo guardate che è già una forzatura averle ridotte da 6 a 4 perché la circoscrizione sud per esempio è una circoscrizione talmente vasta ma anche complessa che non è paragonabile Villanova non è Borgomeduna Borgomeduna non è Vallenoccello sembrerà una cosa strana sì sì ma no vabbè ma tra le Vallenocce allora scusate il fatto di avere quella volta con una forzatura una volta erano separate le abbiamo unite insieme in un'unica circoscrizione per cercare di ridurne il numero ma a mio avviso era meglio mantenerle separate perché sono talmente vaste e sono anche diverse delle loro problematiche e del loro modo di essere come per esempio la circoscrizione nord è stata smembrata in due tra Rorai-Cappuccini e una parte la centro e una parte torre sì è stata in tre anzi non in due in tre addirittura ma voi vedete per esempio il costo della circoscrizione è un costo che in realtà è molto come è stato sottolineato molto ridicolo è un costo marginale per quanto riguarda l'amministrazione comunale però di fondo c'è un problema e lo ribadisco il problema è come si tende immaginare un'amministrazione una gestione della parte amministrativa di questa città il passo che stiamo facendo questa sera e spero che questa sera non si faccia primo stasera non si farà perché dubito che abbiate 28 voti ma mi auguro che non ne abbiate neanche 21 la prossima volta il problema vero di questo su cui si dovrebbe aprire una discussione e non quella della partecipazione popolare che ripeto non c'entra niente è già ampiamente citata all'interno del nostro statuto ma anche regolamentata il problema è che tipo nel 2016 come immaginiamo questa amministrazione come pensiamo di voler amministrare questa città vicino ai nostri cittadini possiamo farlo in modo virtuale possiamo farlo tutti quanti che si devono collegare attraverso il computer al sito del comune e ricevere o interloquire col comune attraverso questo perché potremmo anche tranquillamente far a meno di stare noi in questo consiglio comunale sicuramente in numero minore non sarebbe niente male ma il problema è come pensiamo di rapportarci con i nostri cittadini come pensiamo che tipo di amministrazione vogliamo dare a questi cittadini ecco l'esempio che stiamo dando questa sera consigliere Bianchini mi rivolgo a lei perché è il firmatario e il promotore della delibera non è un bel segnale per il semplice motivo che chiudiamo le circostrizioni proponiamo di abolirle e ripeto le aboliamo per nascondere un nostro fallimento lo voglio ribadire che è quello che non abbiamo fatto in questi c'eravamo impegnati a farlo Bianchini ed è anche nel vostro programma elettorale e amministrativo come il nostro il problema è non abbiamo svolto una funzione che c'eravamo impegnati a svolgere non solo non corriamo i ripari e quindi risolviamo il problema ma le aboliamo in cambio di cosa di nulla e quindi abolire questa funzione che oggi giorno invece di dire facciamole funzionare diamogli un significato e ripensiamo la nostra forma amministrativa perché io non sono convinto che all'interno del consiglio comunale del comune scusate di Pordenone l'organizzazione il sindaco ha avuto più mode di dirlo ho letto qualche sua intervista si ho finito 30 secondi ma anche secondo intervista vogliamo chiedere un parere al segretario perché i termini di tempo sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio di previsione al conto consuntivo al piano regolatore generale relative varianti in materia di particolare rilievo urbanistico nonché allo statuto dell'ente e ai regolamenti qui ha ragione no non vi beccate allora andiamo a 30 minuti no no finito finito mi ero programmato per i 15 minuti quindi non avevo neanche pensato ci penserà Giannelli adesso a fare mezz'ora quindi concludendo non è una bella figura io spero ancora che si possa ripensare a questo tipo di operazione fatta in modo maldestro lasciatemelo dire ed è fatta anche mi dispiace che si porta il consiglio comunale a scadenza di mandato in una discussione così come la stiamo formulando qui questa sera senza avere delle proposte concrete senza immaginare una proiezione di nuova amministrazione perché avrei capito se fossimo venuti qui questa sera consigliere Bianchini a dire noi abbiamo una nuova visione della gestione amministrativa di questo comune stiamo pensando in modo nuovo stiamo ripensando completamente stiamo formulando un progetto che magari porteremo anche all'attenzione dei nostri elettori e cercheremo di far capire che forse così come è stata amministrata una città fino ad oggi con le regole i modi che sono stati amministrati oggi sono superati oggi noi ci proponiamo in modo nuovo e all'interno di questo progetto i quartieri le circostizioni parte importante di questa città avranno un loro ruolo in un modo o nell'altro e allora presentiamo un nuovo progetto questo potrebbe essere un discorso interessante al quale uno si può appassionare e può anche cercare di aderire ma venire qui a dire non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare ci eravamo impegnati a riformarle non le abbiamo riformate adesso sa che di nuovo le aboliamo benissimo in cambio nulla ma facciamo le consulte ma le consulte sono già previste perché non le abbiamo fatte in questi cinque anni le consulte o in questi ultimi 15-20 anni perché non abbiamo fatto un referendum insisto allora vedete che forse questa cosa non sta in piedi allora però si può ancora uscirne da questo tipo di situazione e si può uscirne non cercando di dire siamo stati contrari alle circostizioni sempre non le vogliamo possiamo io a mio avviso invece di essere negativi possiamo provare ad essere positivi e allora forse nel tempo che ci rimane fino alla scadenza di questo mandato amministrativo forse si può lavorare per costruire un nuovo progetto e costruire qualcosa di più concreto quindi concludendo mi auguro che questa delibera non abbia stasera i 28 voti che gli servono per essere approvata ma che non abbia neanche la prossima volta i 21 voti per essere approvata ma tutti insieme maggioranza e opposizione lasciamo qualcosa a conclusione di questo mandato amministrativo lasciamo almeno a chi verrà dopo un progetto di riforma della nostra gestione amministrativa che non sarebbe niente male e che forse ne avremo tra parentesi anche bisogno grazie grazie consigliere Pedicini e allora tempi dopo ha ragione mi sono dimenticato di dirlo mi era passato di mente perciò lei ha ancora 15 minuti per il secondo intervento prego oltre i 10 prego consigliere Giannello allora noi allora non me ne devono volere gli amici delle circoscrizioni chi mi conosce sa che io da sempre sostengo che per certi versi siamo ammalati di troppa democrazia vi faccio un esempio nel 2008 niente po' di meno che Norman Foster il numero uno degli architetti al mondo viene incaricato di fare un progettino per lui minimale la minimale un piccolo progettino la riqualificazione del Trafalgar Square cioè dei pavimenti delle panchine e questo grande progettista vi garantisco comincia a presentare un progetto che io ho visto straordinariamente bello ebbene si loro non hanno i quartieri hanno comunque delle specie di consulte più o meno cominciano a riunirsi e dopo due anni questo povero architettino ok Norman Foster non riesce a venirne fuori ognuno diceva avete presente l'assemblea di condominio peggio ok allora noi siamo ammalati di troppa democrazia vi faccio un esempio pratico 20 giorni fa un gruppo di cittadini di piazza duca d'aosta vanno dall'assessore Bruno Zille in 10-12 Zille li accoglie in sala giunta c'ero anch'io come testimone li accoglie questi arrivano e dicono la rotatoria di piazza duca d'aosta e bing e bong a patapang e pataping capisci Thomas glielo ha detto di tutti i colori l'assessore li ha ascoltati un tecnico verbalizzava hanno preso nota e questi 20 cittadini di piazza duca d'aosta cosa hanno fatto però dopo sono arrivati i ritardatari vedo che stai attento non come Bianchini che adesso sta pensando ai cazzicoli ok per caso non abito in piazza duca d'aosta allora questi cittadini questi cittadini si sono incontrati in ufficio dall'assessore per promuovere una modifica di quella rotatoria dai ripeti stavo ditemi voi in una città di 50.000 abitanti tra l'altro i quartieri sono previsti in città sopra i 250.000 abitanti ditemi voi se in una cittadina come la nostra dove l'identità dei quartieri è difficile è difficile da ravvisare capito l'identità storico geografica le seghe mentali che leggo qua dopo dopo vengo da te Bianchini con l'identità storico geografica tra piazza duca d'aosta borgo colonna e torre o san valentino mi dici tu qual è il passaggio identitario allora ditemi voi se in una cittadina come Pordenone un qualsiasi problema dal pozzetto al progetto urbanistico non possa essere risolto dagli assessorati competenti con una struttura comunale di primissimo livello guardate che noi abbiamo 500 dipendenti circa e io che frequento questo comune da 5.000 anni no un po' meno però insomma siamo lì guardate che abbiamo una struttura in grado di risolvere qualsiasi problema e noi siamo ancora qui dopo 5 anni dalla promessa fatta all'inizio delle elezioni quando abbiamo cominciato riformiamo i quartieri niente io due anni fa nel 2012 faccio una mozione sì e la mozione certo è chiaro io se fosse per me abolirei anche il consiglio comunale abolirei caro Marcello il consiglio comunale allora hai capito Marcello perché io non ho non ho paura degli elettori non ho paura di questi amici che potrebbero dire ma quel Giannelli è un cattivaccio ci voleva andare a casa le balle voi non avete avuto il coraggio di dire le circoscrizioni in una cittadina come Pornelone sono buttare via tempo denaro risorse perché non c'è un problema che non possa 40.000 euro all'anno che non possa essere risolto dagli assessori competenti Bruno Zille vi ho fatto un esempio tangibile di dieci giorni fa Bruno Zille ha accolto 30 cittadini sono aumentati sono aumentati ha accolto ha accolto serenamente ha fatto portare il caffè i pasticcini a 30 cittadini sperando di raccogliere i voti e poi ha promesso che avrebbe spostato la rotatoria cosa che non farà mai ve lo dico noi abbiamo bisogno casomai di meno apparato meno burocrazia più web più telematica non c'è guardate che se voi andate nei siti dei comuni anche più grossi del nostro ci sono delle finestre dove potete avere risposte su tutto e potete promuovere tutto quindi meno apparato i quartieri le circoscrizioni sono apparato siamo una cittadina di 50.000 abitanti la partecipazione del cittadino è fondata sul fatto che ogni 5 anni si costruisce una lista di 40 nomi poi abbiamo un'enorme difficoltà 5 giorni prima di presentare la lista mi mancano 5 amici ti gatto qualche dunque vuol venire in lista quello sarà il momento di chi vuole partecipare alla vita pubblica amministrativa di entrare in consiglio comunale dove si discute di tutto anche del sesso degli angeli di tutto giustamente io lo ripeto lo abolirei però finché c'è bisogna tornando a bomba io quando ho proposto di eliminare i quartieri ho fatto un'operazione semplice e anche voglio dire non mi nascondo dietro un dito so che se dobbiamo vincere le elezioni questo è un discorso pericoloso il mio amico Cabibu ma anche Pedicini ma anche qualcun altro a 5 mesi dalle elezioni dice oh guarda che dopo non ci votano sono coerente continuo a dire io credo che non abbia senso che ci siano e non ha senso quello che hai fatto tu Mario e non solo Mario mi meraviglio di personalità di altissimo spessore avete se vi siete arresi ai diktat del PD che è molto più sensibile alla questione elettorale ha cominciato a dire beh se non è zuppa è pambagnato lo facciamo uscire da questa porta e rientrare dall'altra è vero perché voi e adesso vado alla vostra al vostro emendamento non siete andati Mario non mi convinci dicendo come si chiama quello delle scarpe che vada no dai quel grande industriale che che crozza imita della valle facciamo cose che dopo viene gente che dopo ci riuniamo quando le abbiamo sono valle quando fai un progetto dici quante sono il tuo emendamento eccolo qua ce l'ho sotto gli occhi per fortuna ho qualche minuto in più eccolo qua quante sono le consulte lo devi dire quando no no quando fai un progetto devi dire quante sono le consulte che materie trattano le fognature allora sono consulte cioè i cittadini quando c'è un problema vengono consultati vengono consultati quindi l'assessore non può mandare fuori una locandina a Rorai e dire abbiamo un problema vogliamo fare la base di atterraggio per extraterrestri a Rorai i cittadini di Rorai devono saperci dire qualcosa vanno dai consiglieri comunali di Rorai e gli dicono oh sono matti no questo non si può fare ci vuole il quartiere e con che modalità Mario con quali modalità della formazione e della funzione sono tutte alchimie voi avete fatto un emendamento che è risibile e io non credo che l'abbia fatto un ragazzo intelligente vivace come Salvador non posso crederci mi sa una cosa più di vi siete voi del fiume che avete sposato la mia causa perché credo di poter vantare il diritto di progenitura e poi non avete avuto le palle per resistere a quel diktat e dire o sì o no adesso la città sa che Gennelli dice che le circoscrizioni non servono molta gente è convinta adesso sta tornando un po' sui suoi passi per motivi elettorali vi garantisco che non c'è uno ma un problema che non possa essere risolto da quei signori laggiù vi sfido a darmene uno in una cittadina come la nostra Roma capisco c'ha cinque municipi quanti ne ha quindi perfetto magnifico 15 ecco per passare a Riccardo Piccinato dove è andato? dove? no vabbè cittadini della convocazione itinerante anche questo è eccezionale è come la rotina che passava per i quartieri si faceva sentire e dice chi ha bisogno di affilare il coltello Piccinato Cucciolo dov'è? no vabbè lascia stare questa è una cosa che non funziona allora vi scongiuro dobbiamo dare ai nostri cittadini meno apparato meno burocrazia abbiamo una struttura comunale di eccellenza in quasi tutti i reparti abbiamo degli assessori e avremo dei nuovi assessori che sono pagati per stare lì assieme alla loro gente ai loro tecnici per andare in giro per le piazze per le strade per vedere se sono luride impresentabili oppure sono spazi decorosi puliti tenuti ordinati gli assessori con la loro gente prendono e li vedete girare assieme ai cittadini vanno per i bar e chiedono com'è la situazione qua questo è il ruolo allora ce l'abbiamo già perché noi tutti e loro che governano sono pagati per fare questo è impensabile è come quando vai all'assemblea di condominio che dopo due ore che tutti chiacchiano io no io sì io qua vai dall'amministratore e dice ma scusi lei che è pagato possiamo venirne fuori no impossibile e l'esempio è l'assemblea di condominio io vi sfido ad andare alle assemblee di condominio chi è che ci va ancora? nessuno allora sono partito da Norman Foster che è il primo architetto credetemi è il numero uno al mondo per dirvi che l'unica vera cosa che potrebbe mettere in allarme i cittadini sono le nuove costruzioni cioè i famosi progetti che vanno in circoscrizione per un parere consultivo cioè che non conta niente l'unica vera grande situazione nella quale insomma il cittadino dice Dio ma se mi fanno un grattacielo alto 100 metri qua non mi va bene come posso fare? vai dall'assessore all'urbanistica edilizia privata e dici guarda che non è possibile perché comunque il quartiere non può fare nulla chi può negare un permesso di costruzione un piano attuattivo una qualsiasi cosa che cambia l'aspetto della città e il consiglio comunale basta se c'è da cambiare l'insegna in quel bar dico vai dall'assessore quindi vi prego siamo tutti amici mettetevi una mano sulla coscienza dobbiamo fare meno burocrazia meno carta abbiamo il web possiamo contattare chiunque abbiamo gli assessori sfruttiamo i banchi del consiglio comunale facciamo in modo che partecipi la gente qui stasera c'è un po' di gente no voi ci siete sempre ma dico normalmente non viene nessuno nessuno viene nessuno segue il consiglio comunale come mai una volta veniva perché infatti e questo sono d'accordo non sempre scegliamo il colore giusto della cravatta o magari non capiamo che non può essere dello stesso De Vortoli dice che il consiglio comunale non è più seguito allora per chiudere io sono totalmente contrario a quell'emendamento aveva un senso deciderci di chiudere questa tornata amministrativa facendo una cosa di spessore eliminando un centro di voti clientelare fatto di brave persone che si dedicano a questo ma senza nessun risultato con pareri consultivi non esiste si va dall'assessore e si pretende o si va dai consiglieri comunali che devono fare mozioni interrogazioni che sono gli strumenti formali autentici per raggiungere un risultato cioè l'approvazione o meno di una delibera quindi io addirittura non parteciperò neanche al voto per non togliere cioè perché non ci sia imbarazzo su questo però invece forse potrei anche votare il contrario non lo so sta di fatto Bianchini che ti esorto visto che ho ancora un paio di minuti ti esorto ti esorto a rivedere quello che hai scritto perché non è del tuo spessore non rappresenta le tue grandi capacità perché hai buttato là una cosa come dire vabbè togliamo le circolazioni però mandiamo dentro comunque qualcosa che state tranquilli voi consiglieri che tornerete dentro no se volete vivere la vita amministrativa mettetevi nelle liste per ce ne saranno miliardi perché ci sono 300.000 candidati simili eh allora se l'ha detto vuol dire che non serve assolutamente niente Bianchini se hai detto che si possono mettere in lista vieni te cosa se non le consulte quindi è un errore aboliamo le circoscrizioni io sono a favore di quella delibera anzi forse nemmeno no perché si è dimostrata incapace di chiudere un ragionamento e credo che sbaglieremo strada daremo ai nostri cittadini un'indicazione falsata di quello che è il buon amministrare che è fatto da quella parte col nostro controllo amministrare vuol dire che loro comandano e noi controlliamo quello che fanno basta è già tantissimo ma tanto per carità grazie consigliere Giannelli consigliere Piccin prego grazie presidente ma intervengo in questo dibattito qui delle circoscrizioni per l'ennesima volta e mi sembra di come dire di partecipare di assistere ad un film già visto ma che è sempre ma che è sempre lo stesso allora la posizione mia e del mio gruppo pur parlando io da componente di questo gruppo ma non come esponente del partito ma comunque del gruppo e mia e della collega per son perché poi immagino che il collega Piccinato farà un intervento a sé è molto semplice ed è molto lineare ed è lo stesso da sempre da quando c'è stata la normativa nazionale che ha modificato il testo unico sugli enti locali e ha previsto che le circoscrizioni ci siano per i comuni superiori ai 250.000 abitanti eccetera 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 che cosa è accaduto e questa è una cosa del 2010 che cosa è accaduto poi con la legge numero 1 del 2000 legge regionale numero 1 del 2011 della quale il consiglio regionale come dire si è occupato in tutta fretta proprio perché si stava per chiudere l'allora la precedente tornata amministrativa comunale e si sentiva da una parte politica la necessità di preservare queste strutture queste circoscrizioni ancora una volta e quindi noi che abbiamo come dire competenza primaria in questo abbiamo deciso in qualche modo di stabilire che i comuni con abitanti con numero di abitanti superiore ai 50.000 o capoluoghi di provincia continuassero questa tradizione delle circoscrizioni e quando poi la legge regionale è stata approvata e io dico la posizione è chiara è sempre la stessa ed è coerente allora fui relatore di minoranza di quel provvedimento essendo nonostante quello fosse un provvedimento proposto dalla maggioranza della quale facevo parte ma la posizione del partito allora era quella io sono venuta via da quel partito ma la mia posizione la mia coerenza non cambia nella convinzione che e faccio mie le parole che ha detto poco fa il collega Giannelli nella convinzione che queste strutture fossero una sorta di appesantimento a quello che era l'azione amministrativa del comune e che se le strutture e sottolineo il lavoro che viene fatto presso le circoscrizioni dalle persone che ne fanno parte è un lavoro sicuramente che va rispettato esattamente come tutti coloro che si impegnano per la comunità e per il bene pubblico ma se dobbiamo andare verso una forma di semplificazione sbandierata trasversalmente da tutti questo credo sia un passaggio che non ci deve in alcun modo scandalizzare la situazione che poi si era venuta a verificare il 7 marzo del 2011 era la stessa di questa sera in medesima identica chi c'era qua se lo ricorda bene con la caccia all'ultimo voto per dare la possibilità a questi mini parlamentini o insomma chiamiamoli come vogliamo queste queste riunioni di persone democraticamente elette certo di mantenere e di continuare ad esercitare la loro funzione io rispetto a questo non per la funzione ma per l'utilità e per ciò che viene svolto all'interno ero come dire non ero favorevole allora e continuo a non esserlo oggi mi spiace aver sentito prima da parte di qualche collega di opposizione toni come dire poco consoni rispetto a quella che è la filosofia di questo provvedimento apro un inciso una parentesi nel dire che io ho sottoscritto questo provvedimento e perché come ho detto ne sono convinta senza aver seguito specificatamente l'iter per la sua formazione e fidandomi un po' di quello che di chi era come dire in testa o primo firmatario insomma di chi l'aveva proposta da chi era partita per cui ancora una volta insisto sul fatto che se abbiamo la garanzia da parte del segretario generale che questo è un atto legittimo io lo voterò certo è che evidentemente e questa è una mia mancanza io non ho verificato che all'interno ci fosse scritto che c'erano i pareri delle circoscrizioni obbligatoriamente espressi attraverso la votazione allora prego da questo punto di vista di valutare veramente che siamo insomma che questo sia un provvedimento legittimo perché siccome ho sentito prima il collega del ben giustamente ha evidenziato questa criticità come dire facendo presente anche che ci sarà un ricorso sarebbe spiacevole indipendentemente dalla appartenenza maggioranza opposizione che poi le cose come dire andassero in fumo finissero in un nulla di fatto allora da questo punto di vista lo dico finora io mi fido di chi mi dà la garanzia qui in aula della legittimità e seguo da questo punto di vista per continuare invece l'altro ragionamento che avevo lasciato un attimo sospeso dico che indipendentemente dalla appartenenza partitica o politica credo che qui in un confronto molto pacato e molto tranquillo non valga la pena alzare i toni per utilizzare parole come specchietti per le allodole o cose di questo tipo io sono invece convinta che una semplificazione e dico fin d'ora io sono d'accordo con l'abolizione voterò il documento sono un po' più perplessa rispetto alle consulte comunali che più che l'istituzione bisognerebbe prevedere l'attivazione perché se sono già nello statuto non le istituiamo ma le attiviamo allora io da questo punto di vista vi dico la verità sono poco propensa a venire dietro rispetto a questa nuova riformulazione capisco e comprendo perché nessuno di noi qui come dire è nato ieri capisco che ci sono delle necessità delle forme di mediazioni rispetto a posizioni politiche di altro capisco che ci sono delle posizioni politiche che devono essere no nessun problema che devono essere mediate che devono coincidere però ripeto io sarei per una posizione chiara lineare così come la collega Peressone vi invito ad una riflessione di questo tipo anche se non è perfettamente sovrapponibile mi rendo conto rispetto a questo però guardate questa maggioranza regionale così come che ha lo stesso colore politico di quella nazionale non ha battuto ciglio non ha battuto ciglio rispetto all'abrogazione di un'istituzione prevista nella Costituzione le province c'è stato qualcuno che ha detto che le province bisognava mantenerle alzato le barricate allora con tutto il rispetto per le circoscrizioni e per il lavoro che queste svolgono credo che anche la provincia e io la conosco abbastanza da vicino perché sono dipendente di quella struttura credo che anche quella sia dal punto di vista democratico per un'elezione sia dal punto di vista dell'azione sovracomunale o di area vasta come a qualcuno piace dire svolgesse dei compiti importanti per la comunità dal trasporto pubblico locale alla viabilità a quelli che erano i grandi progetti della viabilità a cose che adesso al lavoro per esempio per un certo periodo all'ambiente alle autorizzazioni ambientali insomma a molte molte cose che avevano un interesse di ampio respiro che sono state sostituite da una nuova formulazione che come ho già avuto modo di dire io non condivido allora guardate se in quella fase il qui come dire il PD ha trovato la quadra a Roma è in regione e qui in regione ancora prima che a Roma per dire per la provincia di Pordenone non si fanno più le elezioni e si abroga poi strada facendo adesso aspettiamo tutto ciò che deve fare certo nazionale successivamente non vedo perché ci si dovrebbe scandalizzare di una forma di razionalizzazione di semplificazione che riguarda come dire la la struttura amministrativa del comune io dico fin d'ora che poi quando arriveremo al momento del voto chiederò indicazioni io sono per il voto alla delibera il voto agli emendamenti tecnici presentati dall'amministrazione che sopprimono le parole circoscrizione che coordinano sono elementi di coordinamento non sono favorevole a quell'emendamento sulle consulte ma non perché non sono favorevole alle consulte perché le consulte sono previste possono essere sostituite non deve passare il messaggio a mio modo di vedere che le consulte vanno a sostituire le circoscrizioni deve essere chiaro questo non non le condivido ne parlavo prima fuori microfono con il segretario ci sono state esperienze in altri comuni che sono come dire tra virgolette fallite alla quale è partecipato il 4% nelle elezioni allora io di queste cose io veramente non le voglio vedere questa è la nostra la nostra idea concludo dicendo che concordo rispetto a ciò che è stato detto da qualcuno che mi ha preceduto che l'amministrazione che ha la responsabilità di governo della città e quindi la maggioranza il sindaco gli assessori i consiglieri che in questo comune sono 40 di maggioranza ma anche quelli di opposizione basta che alla mattina vadano a bere il caffè al bar vadano a comprare il latte o vadano a comprare il giornale nell'edicola del proprio quartiere credo che qui abitiamo tutti nel comune di Pordenone trovano spunti per venire incontro all'azione di miglioramento della città continui poi alcune per chi sta dalla parte dell'opposizione rimane la possibilità di presentare un'interrogazione o una mozione o una mozione e magari non sempre di avere risposte adeguate o che soddisfano difficilmente di farsi approvare una mozione è capitato ma insomma molto di rado per chi invece sta dalla parte della maggioranza ha la possibilità se è del caso di risolvere le problematiche credo che in una città di 50.000 abitanti dove non dico che ci conosciamo tutti ma quasi comunque all'interno del proprio quartiere sicuramente abbastanza la rappresentanza che siede in consiglio comunale composta da 40 persone più gli esterni come qualcuno ha citato prima siano sufficienti a dare risposte in questo senso se ci saranno delle manchevolezze da questo punto di vista beh delle consulte ad hoc ma su determinati argomenti non general generiche su determinati argomenti possono sempre essere costituite così come esistono così come esistono le forme di partecipazione come le petizioni un po' cadute in disuso adesso io non so se in questa durante questo tornata amministrativa forse una è arrivato qualcosa in più ma nell'altra tornata amministrativa ne è arrivata sicuramente più di una un'ultima chiosa rispetto alla tempistica di questa delibera è vero per quanto mi riguarda questa delibera doveva essere approvata il 7 marzo del 2011 ma i numeri sono numeri quindi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda noi credo questo è il momento può essere il momento buono anche se siamo a fine legislatura perché non impegna la futura amministrazione grazie grazie consigliere Piccin consigliere Loperfido prego grazie presidente il mio intervento sarà molto breve anche perché ho avuto prima l'opportunità di poter spiegare il motivo per cui ho tolto la firma da questa proposta di delibera io ripeto ci sono state diverse volte in cui la circoscrizione ha portato all'attenzione delle tematiche che forse non erano state analizzate a fondo da parte dei consiglieri presenti e la riprova è proprio dal fatto che da parte degli stessi promotori della delibera che poteva anche avere sicuramente la sua validità poi viene emendata riproponendo praticamente le circoscrizioni perché nel momento in cui si dice ci saranno la giunta comunale si impegna a presentare entro la fine dell'attuale mandato amministrativo una proposta di istituzione delle consulte comunali così come previste dello statuto quindi le consulte ci sono già previste nello statuto però in più il consiglio comunale la giunta comunale si impegna a presentare queste consulte che dovranno attenersi alle seguenti linee guida rappresentare i territori cittadini dal punto di vista della loro omogenità storico-geografica quindi le circoscrizioni porre particolare attenzione i bisogni sociali rilevati a quelli emergenti cosa che le circoscrizioni fanno già essere appartitiche questa cosa non si capisce perché debbano essere appartitiche e soprattutto non si capisce chi dovrebbe stabilire chi può entrarci visto che si dice che deve essere la giunta comunale stabilire che queste consulte debbano essere appartitiche allora sulla base di chi sulla base di cosa si stabilisce chi debbano essere i membri di queste di queste consulte ed essere elettive ed essere elettive cioè quindi le circoscrizioni cioè praticamente si dice non servono le circoscrizioni però sappiamo che se vengono annullate le circoscrizioni sarà comunque necessario far sì che il territorio venga presidiato da parte di persone che si dedichino una volta elette non si capisce come a presidiare il territorio e fare in modo che venga prestata attenzione alle esigenze che quel territorio che deve essere rappresentato in modo omogeneo e quindi probabilmente si dirà di nuovo Villanova Valenoncello Borgomeduna Rorai Grande San Lorenzo Nord un'altra zona poi si mette dentro anche Cappuccini poi si fa Torre quindi praticamente si rifanno le circoscrizioni allora mi chiedo che senso ha dire le circoscrizioni non servono quindi le vorremmo abolire però forse abolendo circoscrizioni ci sarebbe un vulnus e allora andiamo a costituire queste consulte lasciatele lì come sono e se ne parlerà con la prossima amministrazione perché ripeto le regole della democrazia possono essere fastidiose possono essere burocraticamente lunghe e difficili da sopportare ma come disse Churchill è il male minore al momento qualcosa di meglio non l'hanno inventato e allora inutile che fate un pasticcio minestrone soltanto perché non si riesce più a capire come uscirne lasciamole lì come sono circoscrizioni democraticamente previste dallo statuto democraticamente con una possibilità di essere di rispettare la democrazia visto che danno a tutti la possibilità di essere eletti invece secondo questo emendamento non si capisce chi potrebbe prendere parte o meno all'interno delle consulte quindi invece di fare un pastroccio della democrazia anche da parte di un partito che dice di essere partito democratico lasciatele lì come stanno e se ne parla tra sei mesi grazie grazie consigliere Palmisano prego grazie presidente io inizio col dire che da quando ho l'onore di far parte di questo consiglio comunale non ho mai chiesto di intervenire sui vari argomenti che di volta in volta venivano trattati oggi invece sulla deliberazione 43 soppressione delle circostizioni desidero esprimere il mio modesto ma sincero parere quello che dirò scadurisce dall'esperienza maturata in tre mandati in cui ero presente nelle circostizioni infatti è da poco più di un anno che siedo fra i banchi di questo consiglio di tale esperienza ne sono orgoglioso e durante il quale ho rivestito per un certo periodo anche il ruolo di presidente della circolazione sud ho sempre creduto nel ruolo di tale istituzione di decentramento impegnandomi al meglio delle mie capacità e di aver istituito un mio blog personale dove riportare le proposte che di volta in volta presentavo il consiglio oggi invece mi trovo in questo consiglio e mi viene proposta la cancellazione di quella istituzione di cui ho fatto parte e in cui ci credevo fortemente io penso che eliminare le circostizioni è un grosso errore significa allontanare ulteriormente la politica dai problemi reali e quotidiani della gente comune le circostizioni oltre ad avere un contatto diretto con il territorio sono una palestra di democrazia e servono anche per formare amministratori locali attenti ai bisogni della città le circostizioni rappresentano l'anello di congiunzione tra il cittadino e l'amministrazione comunale svolgono un importante e insostituibile ruolo di connettore di sinergie fra le varie realtà presenti sul territorio a esse sono costantemente segnalate situazioni di criticità riguardanti grandi e piccoli problemi il limite a mio avviso semmai delle circostizioni consiste nel fatto che spesso le richieste sono prese in considerazione non sono prese in tempi brevi pur trattandosi a volte di questioni facilmente risolvibili un esempio per tutti capitato a me personalmente nella circostazione sud in via nuova di corva c'è un attraversamento molto pericoloso e come circostrizione più volte abbiamo richiesto di metterli in sicurezza solo che purtroppo questo è stato fatto dopo l'ennesimo incidente a causa del quale è morta una persona il ruolo che il consiglio di quartiere svolge tra l'amministrazione e la porzione di territorio su cui insiste non può essere sostituito da altro organismo che sia democraticamente eletto infatti in sua assenza è possibile facilmente costituire comitati fatti sorgere come funghi incapaci però di operare per un bene comune no alla strada no al cassonetto no a ciò che disturba i comitati poi non hanno funzione propositiva come invece hanno contro distingue le disposizioni se è vero che le disposizioni non servono a niente sono inutili per una città come la nostra abbassata bastano 40 consiglieri comunali a rappresentare il territorio e a rappresentare le necessità dei cittadini se così fosse come si spiegherebbero le continue segnalazioni di servizi le richieste di intervento e le lamentele che quadri di una mente vengono avanzate ai presidenti ai consiglieri delle quattro circosizioni si badi bene richieste di ogni genere che riguardano tutta la vita sociale di una comunità e non solamente alcuni beni comuni come aree verdi parchi eccetera per non parlare di tutte le collaborazioni con le varie associazioni le scuole le varie istituzioni presenti sul territorio in particolare le circosizioni mantengono i rapporti con le parrocchie le aziende sanitarie gli istituti scolastici l'ARPA le associazioni presenti sul territorio sia sportive sia culturali e comunque con tutta l'associazione di volontariato in genere hanno competenze come da regolamento articolo 22 su viabilità e trasporti sull'inquinamento e diciamo che in merito a questo ricordo di aver promosso io personalmente un'assemblea pubblica con i responsabili dell'ARPA con un professore universitario con l'azienda sanitaria sulla parrocchia delle Grazie proprio sull'inquinamento dovuto al traffico in quella zona inoltre con la gestione delle biblioteche circosizionali giardini pubblici spazi verdi eccetera come mai questi compiti non li svolgono i consiglieri comunali perché spesso i consiglieri comunali sono dei perfetti sconosciuti ai cittadini comuni e quindi non vivono il contatto diretto con la comunità non ho mai visto un consigliere comunale organizzare un'assemblea pubblica per dibattere di problematiche avanzate nel territorio sono i consiglieri circosizionali i loro presidenti specialmente nelle zone periferiche il vero occhio e il vero orecchio del territorio inoltre parlando di regolamento dei beni comuni recentemente approvati in consiglio comunale c'è da dire che per quanto riguarda le competenze esse non hanno niente a che vedere con i compiti istituzionali assegnati alle circosizioni mentre i primi dovrebbero interessarsi della gestione manutenzione rigenerazione di beni comuni come aree verdi parchi eccetera i presidenti e i consiglieri circosizionali invece si interessano di salute pubblica inquinamento viabilità rapporti con le associazioni le scuole le aziende sanitarie e comunque tutte le problematiche relative a una comunità e quindi rappresentano per la propria natura istituzionale un decentramento amministrativo dell'amministrazione come ben specificato nell'articolo 22 del regolamento anzi io propongo che dato la complessità della materia e cioè del regolamento dei beni comuni che comporta necessariamente la perfetta conoscenza del territorio per arrivare alla stipula di accordi tra l'amministrazione e i cittadini chi meglio dei rappresentanti dei quartieri siano esseri circosizionali o altre forme alternative di rappresentanza istituzionale decentrata che conoscono più da vicino il territorio la comunità e quindi che sono l'articolazione istituzionale appropriata per lo sviluppo e il governo dei processi di cittadinanza attiva e gestione condivisa dei beni comuni pertanto ritengo che questi rappresentanti di quartiere potrebbero diventare il vero braccio operativo per l'attuazione del regolamento dei beni comuni quantomeno nella prima fase di sperimentazione riprendendo il tema delle circosizioni anch'io sono d'accordo che sicuramente così come sono adesso non vanno bene e tutti siamo d'accordo ma eravamo anche tutti d'accordo a inizio mandato di riformarle infatti con la delibera numero 30 del 7 marzo 2011 il consiglio comunale di Pordenone ha modificato il regolamento tra l'istituzione e l'istituzione e il funzionamento dei consigli circosizionali riducendo il numero delle circosizioni da 6 a 4 il numero dei consiglieri da 16 a 10 e al presidente veniva riconosciuto un gettone per ogni consiglio pari a quello del consiglio comunale i consiglieri comunali che hanno votato a favore di detta delibera e che ancora oggi siedono nel consiglio comunale sono Giuseppe Pedicini Andrea Gabibbo Emanuele Roperfido Francesco Ribetti Francesco Giannelli Elio Rossetto Walter Mazzon Marcello Passoni Francesca Cardin e Bruno Zille la cosa che colpisce negativamente non solamente gli addetti ai lavori ma anche la gente comune è che una parte di quelle persone in modo traversale è precisamente il consigliere Emanuele Roperfido salvo stasera ritirato la firma Francesco Ribetti Francesco Giannelli Elio Rossetto Walter Mazzon che il 7 marzo del 2011 non hanno votato per sopprimerle ma per mantenerli in vita in vita con il preciso impegno di riformarle oggi a distanza di 5 anni le vogliono cancellare infatti purtroppo oggi invece di una qualsiasi buona allora infatti infatti purtroppo oggi invece di una qualsiasi bozza di riforma più volte richiesta ci viene presentata una delibera per la loro cancellazione senza alcuna forma alternativa come peraltro prevista nel testo della stessa delibera di cancellazione infatti nel primo periodo della delibera di cancellazione è scritto per poter proseguire a mantenere sul territorio una rappresentanza dei cittadini democraticamente eletta senza prevedere in futuro chi svolgerà tutti quei compiti che finora hanno svolto le circoscrizioni alcuni consiglieri comunali ritengono superata l'esperienza delle circoscrizioni e che bisogna andare avanti bisogna andare oltre ma io ricordo che il termine andare avanti andare oltre solamente per gli alpini vuol dire una cosa sola che tutti voi sapete passare a miglior vita mentre per me significa sedersi attorno a un tavolo come più volte hanno chiesto sia Presidente delle circoscrizioni che anche i consiglieri d'opposizione e studiare analizzare e confrontarsi su nuove forme democratiche che diano nuovi impulsi e nuovi stimoli allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla scelta e decisione amministrativa del territorio come fra l'altro previsto dal primo rigo dello statuto del oggi purtroppo assistiamo a un continuo aumento grazie Presidente oggi purtroppo assistiamo a un continuo aumento di cittadini che non vanno più a votare io penso che sia doveroso per la politica interrogarsi su questo quanto sta accadendo scusate forse dobbiamo interrogarci se in una società dove chi non va a votare si avvicina in alcuni casi quasi alla metà degli aventi diritto da costituire il maggior partito cosiddetto degli asserzionisti qualche motivo ci sarà non penseremo certo che a tutti quei cittadini il giorno delle votazioni viene impedito loro di uscire di casa per andare a esercitare uno dei fondamentali diritti riconosciuti nei paesi democratici io penso invece che questi cittadini non si sentono più rappresentati dalla politica perché la sentono sempre più lontano dalla vita quotidiana uno fra i tanti ruoli che la circosizione svolgono è proprio quello di evitare l'allontanamento dei cittadini dalla politica attraverso il loro costante impegno al fine di incentivare la democrazia partecipata la soppressione delle circosizioni significa ridurre e limitare ulteriormente gli spazi di democrazia partecipata proprio oggi che il partito degli estensionisti aumenta sempre di più e che servirebbe casomai ampliare tali spazi e non comprimerli o ancora peggio cancellarli infine ritengo che non sarebbe giusto disperdere l'importante esperienza storica politica all'identità territoriale che questo tipo di decentramento ha generato sul territorio ed è pezzuto sociale io a questo punto vorrei se mi è consentito leggere una piccola relazione per quanto riguarda anche per spiegare che cosa fanno le circoscrizioni per quanto riguarda l'attività della circoscrizione sud allora la circoscrizione sud è la più estesa di Pordenone 18 chilometri di estensione ricordo infatti che all'interno della stessa abbiamo quattro quartieri Villanova Valenoncello San Gregorio e Borgomedune ben rappresentata all'interno del consiglio ogni quartiere ha il suo consigliere di riferimento il nostro lavoro in questi cinque anni di mandato è stato notevole oltre ai consigli circosizionali che si tengono con cadenza più o meno mensile abbiamo intercettato diversi comitati spontanei di cittadini che grazie al nostro intervento hanno potuto confrontarsi con l'amministrazione comunale ne ricordo brevemente alcuni incontro con gli abitanti di via Buozzi del quartiere delle Grazie per problemi di allagamenti incontro con i genitori scuola elementare di Valenoncello per problematica relativa alla scuola incontro con gli abitanti di via del Passo Valenoncello per valenoncello per assondazione incontro con i cittadini di Borgomeduno interessati dagli espropri per la bretella sud incontro con gli abitanti di via Pra e via Pra Longo per problematiche di traffico incontro con i cittadini interessati della nuova rotonda di Vaudine incontro a Villanove abitanti via Grazia dell'Edda e via Negri per problematiche derivate dall'apertura della nuova scuola materna incontro con i genitori e gli insegnanti della scuola primaria di Valenoncello per problematiche relative ai servizi igienici incontro con i cittadini di Valenoncello per problematiche causate da alberi siti di fronte al bar Naonis di Valenoncello questi confronti avvenuti con l'emmediazione della circoscrizione sono stati risolutivi e molto apprezzati dall'amministrazione comunale ma soprattutto dai cittadini la circosizione richiede l'azione sud su richiesta degli assessori ha promosso inoltre diverse assemblee pubbliche ne ricordo solo qualcuna per esempio quella per promuovere il progetto comunità protagonista quale la presentazione del progetto Smart City o quella per le sondazioni essendo la circosizione vasta ogni richiesta va moltiplicata per quattro quartieri che la compongono infine mensilmente su ogni quartiere la circoscrizione sud rappresenta l'amministrazione comunale al tavolo del progetto Genius Loci Genius Loci è uno strumento attivatore di sinergie che ha permesso di connettere cittadini associazioni e istituzioni al fine di far fronte agli effetti conseguenti alla crisi del legame comunitario della nostra società che porta inevitabilmente all'emarginazione l'isolamento la mancanza di dialogo tra generazioni gli obiettivi di questi incontri sono capire invitati rappresentanti una sorta di piccola unità di ricerca sul proprio territorio che devono fare un'analisi del quartiere una lettura dei suoi bisogni individuare le sue criticità imparare dalle varie esperienze coinvolgendo persone di età diverse portare avanti storie tradizioni punti di vista personali creare uno scenario di idee e di proposte sulla situazione e sui problemi del quartiere interagire creando le sinergie necessarie tra i cittadini le associazioni le istituzioni questi incontri periodici ci permettono di portare nei quartieri diverse iniziative di tipo intercontinuare coinvolgendo serate informative convegni nonché ci ha consentito di affrontare delle criticità di tipo sociale non indifferenti criticità dei quartieri vale noncello scuola elementare riqualificazione delle aule occupate fino al precedente anno scolastica e sistemazione dei bagni lavori eseguiti nelle strade 2015 innalzamento strada via passo via del passo per contenere i disagi dovuti alle frequenti sondazioni lavori bloccati dal patto di stabilità potenziamento di drovie pulizia dei rughi e realizzazione di persone di emergenza lavori finanziati dalla regione in fase di attuazione pista ciclabile inutilizzabile nessun intervento previsto disagio giovanile è sorto un comitato di cittadini che sta creando cercando di organizzare delle attività specifiche in collaborazione con i servizi sociali la polizia municipale monitoraggio costante alta concentrazione di case ater abitate da famiglie extracomunitarie per lo più disoccupate continuo monitoraggio con l'assistenza sociale di quartiere e servizi sociali il 18-10-2015 in collaborazione con Genius Loci è stata organizzata una castagnata per facilitare l'incontro degli abitanti San Gregorio periodicamente difficile convivenza con la fiera la realizzazione del nuovo parcheggio appena ultimato servirà a mitigare tale problematiche Villanova alta velocità via Levade fatti diversi sopralluoghi con l'assessore Mazzer e Conficoni nessun intervento previsto e sondazione con finanziamento della regione si stanno eseguendo i lavori di pulizia di rughi e volte a contenere le piene statale 251 sono ripresi definitivamente i lavori limitazione velocità in via Pirandello prevista limitazione del traffico con apposita segnaletica Borgo Meduna deposito Giordani difficile convivenza dei cittadini confinanti attualmente le problematiche si sono placate nessun intervento previsto Bretella Sud in attesa che iniziano i lavori scontento generale dei cittadini interessati all'esproprio Rotondo di via Udine petizione popolare contro la realizzazione sono stati fatti un paio di incontri tra i vari parti per trovare delle soluzioni che vedono bene che vadano bene a tutti malcontento soprattutto dei cittadini che abitano nel condominio confinante con la Rotonda mi permetto di far notare che tutte le attività che esulano i consigli circosizionali sono svolte a titolo volontariato con un impegno di tempo e di forze non indifferenti con il nostro operato pensiamo di rispecchiare in pieno le finalità dichiarate con cui sono state le circoscrizioni cioè quella di promuovere la più ampia partecipazione concludo col dire che nell'incontrare i vari quartieri è richiesta una giusta attenzione e una qualificazione di queste zone periferiche per troppi anni oscurate dal centro la centro città questa maggiore attenzione alla periferia è stata promessa in campagna elettorale e inserita nel programma dell'amministrazione comunale ecco io ringrazio per la lungaggine di questi interventi ma sembrava doveroso perché spesso quello che le circosizioni fanno non viene conosciuto in questo consiglio e mi è sembrato doveroso leggere quanto è stato descritto dalla Presidente della circosizione sud grazie 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 chiedo scusa chiedo scusa sono io che devo dare la parola quindi ringrazio il consigliere Palmisano e ha chiesto la parola al sindaco grazie a tutti 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 ecco abbiamo scoperto un segreto anche della console bene volevo chiedere visto che sicuramente il dibattito si prolungherà se non fosse il caso di rimandare al prossimo consiglio la discussione del delibere che riguarda GEA con un impegno e questo che volevo diciamo che rimanesse che il prossimo consiglio che sarà il 25 che questo che la delibere GEA sia la prima così evitiamo ancora una volta di metterla in coda non so se questo debba essere passato per una votazione come un ordine del giorno o altro ma è una richiesta che mi sento mi sento di fare ma vedendo grazie bene allora no chiedo scusa prego in giro no 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 ma sospendiamo per sentire basta tutto qua si va a concludere questa delibere il consenso era di chiudere questo argomento e poi siccome lo finisciamo vabbè bene allora allora c'è ecco cambiamo buono allora proseguiamo i lavori con questa delibere e l'amministrazione la giunta e il sindaco decideranno quale sarà l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che su indicazione del sindaco sarà la delibere della GEA chi è adesso della GEA bene allora si è prenotata la consigliere Francesca Cardin prego grazie presidente sono sono un po' solitamente io intervengo perché sono arrabbiata perché qualche consigliere comunale ha detto qualcosa che ha suscitato la mia attenzione questa sera intervengo e non sarà sicuramente un intervento lungo sarà un intervento brevissimo però intervengo piuttosto amareggiata non tanto e non solo per la vicenda che riguarda il consigliere del Ben che a mio parere aveva perfettamente ragione è vero questa delibera richiedeva sicuramente il parere delle circoscrizioni ma insomma questi sono pareri di legittimità il segretario ha dato il suo poi se ci sarà un'impugnazione insomma qualcun altro la valuterà però veramente l'amarezza più grossa è legata alla visione elitaria che non solo il consigliere Bianchini credevo sarebbe rimasto un caso isolato invece si è aggiunto il consigliere Giannelli questa visione elitaria che voi avete della città voi dite l'ha detto il consigliere Bianchini ma l'ha detto anche il consigliere Giannelli voi pensate che sia semplice per tutti accedere a tutti gli assessori a tutti i consiglieri il consigliere Bianchini ha detto ma insomma siamo una città di 50.000 abitanti è così semplice avere a che fare con gli assessori con il sindaco tutti possono accedere al sindaco agli assessori beh guardi è talmente poco vero questo che quando ero consigliere circoscrizionale a me più persone hanno chiesto tu che conosci l'assessore Conficoni puoi dirgli e io credo che qui di accessibile quanto il consigliere Conficoni non ci sia praticamente nessuno e il secondo più accessibile ha un distacco enorme dall'assessore Conficoni eppure nemmeno lui è accessibile a tutti ma non perché non è accessibile ai vostri amici perché non è accessibile alla gente che voi manco vedete per strada ci sono delle persone che voi non conoscete nemmeno perché siamo talmente abituati a vederci tra di noi a parlarci tra di noi a leggere gli articoli dei giornali sperando di trovare il nostro nome che neanche ci accorgiamo che la gran parte degli articoli dei giornali che parlano di noi ce la leggiamo solo noi solo noi perché c'è un'enorme fetta di città che non sa nemmeno chi siamo e questo è testimoniato dal numero di persone che ci sono qua dietro non c'è nessuno non sanno chi siamo non ci vedono i ragazzi del liceo che hanno 18-19 anni non sanno neanche distinguere un assessore da un consigliere da un consigliere circoscrizionale a me dicono tu che sei in comune ma cosa vuol dire tu che sei in comune c'è gente che non sa distinguere un magistrato da un avvocato ma chi frequentate beati voi beati noi che abbiamo amicizie e cerchie di persone che appartengono a un livello diverso da quello di un'enorme fetta di popolazione e quindi questo essere accessibile a tutti non è così vero i consiglieri circoscrizionali avevano una grandissima funzione di raccordo perché erano persone che magari nemmeno pensavano di candidarsi per il consiglio comunale perché ritenevano che il loro ruolo potesse essere più efficacemente svolto all'interno del loro quartiere magari perché conoscevano più persone ecco questo devo dire che in tutta questa serata forse è la cosa che mi ha colpito di più detto questo io vabbè faccio una precisazione al consigliere Bianchini prima è vero ho pensato che questa fosse una delibera di giunta ma perché ho fatto un po' di confusione nel senso io quello che avevo colto all'inizio di questo mandato è che l'amministrazione avesse un preciso compito di riformare le circoscrizioni un compito che era stato demandato dall'amministrazione precedente con la quale questa era in continuità allora a questo punto poiché questa amministrazione nelle persone degli assessori non dava corso a questa cosa ho pensato che efficacemente questa riforma poteva essere fatta con una delibera da parte dei consiglieri comunali che non accontentandosi della visione dell'assessore Mazzer o della visione della proposta dell'assessore Zille potevano fare con una maggioranza solida e granitica una loro proposta che poteva essere anche la proposta delle consulte comunali ma possibilmente non a 4-5 mesi dalle elezioni tutto qui ecco questo io volevo dire dopodiché se con proposta di consiglio semplicemente vi limitate all'abrogazione delle circoscrizioni e il PD strappa un emendamento dove cerca l'istituzione delle consulte comunali sì va bene questi sono giochi per tenere legate le maggioranze ci possono anche stare però francamente io mi aspettavo ecco che se c'era effettivamente questo impegno e questa volontà di riformare le circoscrizioni perché è vero anche a mio parere devono essere riformate ma devono essere riformate potenziandole dando ulteriori compiti oppure anche semplicemente rivedendo i compiti perché vedete io perché sono contraria a questa delibera ma ero profondamente contraria anche all'abrogazione delle province perché sono profondamente contraria a tutta questa rivisitazione degli organi amministrativi non solo perché sono profondamente contraria all'abolizione di un organo elettivo perché vedete ci sono talmente tanti enti inutili che partire dalla demolizione di organi elettivi a mio parere francamente non ha nessun senso ma non è solo ed esclusivamente questo io sono contraria a una riforma che vede una rivisitazione dei contenitori e sono contraria perché proprio non la capisco cioè non capisco perché si devono rivisitare i contenitori quando a questi contenitori può semplicemente essere data una struttura e un'operatività diversa e allora mi chiedo e non è una critica al PD al PD io riconosco al PD di governo di aver fatto un'opera su alcuni totem perché possiamo solo chiamarli così come per esempio il fine vita le unioni civili ma anche quando parlo non so io penso anche alla riforma dell'avvocatura il PD sui contenuti qualche cosa di importante l'ha fatta però questa rivisitazione dei contenitori per me è davvero incomprensibile perché dà quasi l'impressione che si possa pensare che rivisitando il contenitore cambi il materiale umano il materiale umano sarà sempre quello ci saranno i dipendenti che hanno voglia di lavorare i dipendenti che fanno il lavoro di cinque e i dipendenti che non fanno il lavoro di nessuno ma che si chiami provincia o città metropolitana sarà esattamente la stessa cosa avete dei contenitori sono stati creati con una costituzione fatta dai padri costituenti sui quali qua non ci stiamo a dilungare prendete questi contenitori e cercate di valorizzarli perché non è che cambiando l'ordine dei fattori cambierà il risultato sì le uti non so a me ha fatto molta impressione vedere che l'uti avrà il gonfalone ma come avrà il gonfalone l'uti perché l'uti deve avere il gonfalone il gonfalone ha un significato suo preciso perché mai una uti creata per legge che riunisce dei comuni cioè deve avere un gonfalone perché pensare diffondere i comuni scorporarli per quale motivo per un risparmio di spesa ma per un risparmio di spesa che in uno stato centralizzato a prescindere dal fatto che non sono sicura del risparmio di spesa ma questo risparmio di spesa come andrà destinato ma come stiamo destinando le nostre risorse ma a prescindere dal fatto che ci possa essere o meno siamo sicuri che noi saremmo in grado veramente di destinare in maniera proficua un risparmio di spesa di questo tipo ecco io non aggiungo altro sono assolutamente contraria a questa delibera per i motivi che ho illustrato e spero davvero che i consiglieri comunali presenti qui possano qualche volta cercare di tenere a mente che non ci siamo solo noi che ci sono tantissime altre persone e che noi non siamo così accessibili come pensiamo di essere grazie grazie alla consigliera Cardin è iscritto a parlare il consigliere De Bortoli Walter prego ti ricordi bene il mio nome perché abbiamo fatto circoscrizione cinque anni insieme veramente caro presidente e colleghi beh io penso che questa sala proprio per questa sala qua meriterebbe argomentazioni molto diverse e molto più importanti di quelle che stiamo esaurendo questa sera io francamente questo nuovo corso politico del nostro paese faccio sempre più fatica a capirlo perché immaginavo sempre la partecipazione del mio popolo del popolo italiano dei nostri cittadini italiani che vivono in questa parte del mondo che partecipassero per migliorare il proprio paese per portare nuove idee per portare il loro apporto di tempo gratuitamente più delle volte per poter dire come volevano essere governati ultimamente invece sarà forse il corso di questo paese siamo governati dal terzo governo non eletto da questo paese non eletto però lo considero come eletto dunque questa è una grande precarietà e l'Europa ce la sta facendo pagare anche per questo perché non ha l'autorevolezza di rappresentare questo paese totalmente questo paese poi siamo scesi giù come diceva prima la collega se vogliamo dei risparmi basta tagliare al 50% tutte le municipalizzate le prebende i doppi posti gli incarichi ci sono i modi per risparmiare che non è sicuramente proibire alcuni cittadini a partecipare alla vita politica del proprio paese perché qua di questo si sta parlando si sta parlando se le prossime elezioni noi avremo 200 e passa cittadini che si impegnano nel proprio quartiere e cominciano a esercitare i primi passi nel mondo della politica per il bene della propria comunità o no questo è un dato di fatto non ci sono altre cose qui perché se voi pensate di abolire un organismo che ha sempre funzionato perché basta andare a vedere i verbali di queste circoscrizioni cosa riescono con pochi euro cosa riescono a fare in un anno e se andate nelle sede circoscrizionali troverete più gente là che qua che segue i lavori delle circoscrizioni e questo ha un grande senso della praticità sul nostro comune capologo di provincia se ancora si può chiamare capologo di provincia perché ancora una volta mi trovo configurazione sulla collega Cardin con il confalone con i sette comuni che poi io ho sempre detto forse oggi è praticabile questo percorso lo vedremo quando saremo tre di centro-destra e quattro di centro-sinistra o viceversa come gestiremo le UTI perché avete fatto gioco facile con questa riforma adesso ma il vento potrebbe cambiare comunque la storia ci insegna che può cambiare per cui è un altro pastrocchio che non sapete gestire che costerà molto di più che mai mantenuti i comuni su questo è senza dubbio allora torniamo alle circoscrizioni che fastidio davano dei cittadini che si impegnavano nel loro territorio impegnandosi intanto sottoponendosi a un giudizio perché chi si candidava era già nella storia che partecipava già alla proloco alla parocchia alla società sportiva perché nessuno si è candidato a circoscrizioni venendo così la mattina si alza tutti noi abbiamo lavorato nelle nostre quartieri Rossetto Valeroncello Iovinanova chi è a Borgomeduna chi è a Madonna delle Grazie tutti abbiamo prima lavorato e poi siamo sottoposti al giudizio della nostra agenda di quartiere chi ci ha premiato per quello che abbiamo fatto a uno a uno non è che ci ha premiato dicendo andate lì e prendete i soldi andavamo lì per fare il lavoro e ascoltevamo la nostra gente e eravamo portavoce rispetto a livello centrale perché se è vero come è vero che qualcuno in questa sala dice e afferma che oggi si vengono gli assessori allora gli assessori devono fare a tempo pieno e alcuni non lo fanno perché altrimenti quel cittadino che ha quella precarietà quella problematica non trova l'assessore che sta lavorando presso ancora la ditta si dovrebbero eliminare i doppi incarichi perché chi viene eletto e prebendato su un posto non potrebbe fare il doppio incarico parliamoci chiaro non dovrebbe fare il doppio incarico avete visto se un consiglio di circoscrizione può fare il consiglio comunale no non può farlo allora non capisco perché un regionale può fare il comunale il comunale può fare la provincia se è pagata può farlo a livello senza essere prebendato ma se uno ha un incarico prebendato deve scegliere quale prendere non può prendere i carichi dove va in regione in comune in provincia non può non può esserci questa cosa qua cominciamo da lì che sono dei risparmi anche quelli lì altro che circoscrizioni allora io dico perché andiamo a risparmiare su un organismo che fino ad adesso ci ha soddisfatto ha lavorato è stato propositivo è stato anche magari sottovalutato perché è vero quello che si dice che sono soltanto consuntive ma noi avevamo in questa ci sono dei progetti che prevedono la riforma delle circoscrizioni dunque le circoscrizioni come abbiamo già tolto da 6 a 4 e da 16 a 10 consiglieri circoscrizioni si poteva vedere di rendere operative e utili alla comunità dicendo che potevano venire il presidente si veniva in circoscrizione in comune e portava le problematiche del proprio territorio avevamo previsto anche il vigile di territorio perché oggi una cosa che non sottovalutiamo è ad esempio che ci sono un sacco di furti periferici l'abbiamo visto anche ieri l'altro ieri perché qua sembra che siamo su un'isola felice ma ogni giorno apri il giornale quando non c'è un morto sono quattro furti allora c'è qualcosa che non quadra perché siamo in città sicura non è vero perché ieri ho detto il giornale sono stati quattro furti assessore allora non so dove dove sono questa sicurezza con il quartiere voi dovete capire che quando corrono 100 persone su un quartiere alle prossime elezioni alcune vengono votate e fanno il consiglio di circoscrizione quelle che sono state votate stanno vicini al gruppo perché sono vincolate e sono incentivate da chi è stato eletto ad essere vicino e queste fanno anche vigilanza nel quartiere perché si sentono come si dice gratificate dal fatto che partecipano a una vita pubblica altrimenti invitiamo me ne freghisti nessuno guarda quello che succede nella porta vicino allora voi in questo momento qua le prossime elezioni comunali saranno elezioni povere nel senso che avremo soltanto i candidati ai consiglieri e chi dice venite tutti quanti dentro dice una stupidaggine grande come una casa perché è un conto uno che si impegna con la sua vita lavorativa scusate lavorativa con la sua vita familiare a fare il consiglio di circoscrizione perché lavora nel proprio quartiere circoscritto e uno che si impegna invece a fare il consigliere comunale che deve guardare e conoscere tutta la città che non sempre questo può succedere perché abbiamo vero visto qua in alcune tornate amministrative è arrivata gente con tre preferenze quest'aula ha ospitato gente con tre preferenze che andava poi a votare impegni da 10 miliardi 10 miliardi alle due di notte arrivando in pigiama questo è quello che voi volete riportare in questo comune in questa sala quest'aula merita diverso merita gente che lavora e tu lo sai Elio lo sai abbiamo anche fatto quasi a botte per quelle cose lì perché qua si votavano 30 miliardi di intervento così avendo tre voti e conoscendo soltanto il proprio condominio allora io dico non è così semplice il fatto che uno venga a fare politica c'è un inizio uno comincia come ho detto prima nel proprio territorio con l'associazionismo va con l'associazione di coscrizione poi arriva in consiglio comunale e poi chi non ama proprio solo la sua città così come l'abbiamo fatta io Elio può anche lanciarsi oltre ma molti rimangono qua 30 anni anche se qualcuno mi dice che dobbiamo andare a casa perché qualcuno si permette anche in quest'aula di dire dopo che è servito 30 anni la tua città che dovresti darti a casa perché forse gli dà pastidio il novismo cioè non sopporta magari quelli che hanno tirato la caletta anche in tempo meno migliori di oggi dove magari la gente ti prendeva per il codo pink ti diceva al bar non hai fatto il tuo lavoro io ti ho votato oggi non succede più questa roba qua no scusa franzo per cui dico è questo perché anche questo la gente il consiglio circunzionale lo vede proprio vicino lo trova al bar lo trova in parrocchia lo trova nella situazione sportiva ed è meno meno timoroso di oh bambino guarda che non ti ha fatto la luce è spenta non ti ha visto metterla a posto quell'altro questo è quello che succedeva nelle circoscrizioni e succede nelle circoscrizioni ecco perché io dico che è assolutamente assurdo oggi fare tutta questa pantomina per abolire le circoscrizioni che sono 4 che costano una pipa di tabacco costa molto di più il consiglio comunale dei ragazzi che far gestire 4 circoscrizioni che fanno questo grande lavoro poi una cosa sindaco io capisco che questa è una deliberazione che arriva da un gruppo politico della sua maggioranza ma queste cose sindaco si fanno all'inizio di legislatura queste cose si fanno all'inizio di legislatura perché dopo lei le può gestire correggere aiutare e condurre non si fanno a 4 mesi dal voto non si fanno a 4 mesi dal voto queste modificazioni così importanti sul territorio sulla gente a mio avviso si fanno all'inizio di legislatura dunque lei era autenticato era nel vostro programma avevate una forte maggioranza forse più forte di oggi potevate metterlo in cantiere e anche buttare solo addosso oggi questa cosa non vi è permessa perché voi non potete modificare lo statuto di questo comune e soprattutto sopprimere un ente che noi riteniamo così importante democratico assolutamente democratico perché avete deciso di fare queste cose in fondo e guardate che ne state facendo molte in modo inappropriato io non voglio richiamarvi anche l'assessore ci sono dei posti dove non si vede io gli ho già fatta un'interrogazione le mie interrogazioni assessore sia sui furti sia sulla segnaletica non hanno soddisfazione su questo non parlando poi quelle del scommercio sindaco io comprendo che lei pensa di aver fatto tutto quanto bene ma guardi che la città non so sta morendo anche il centro ormai prima c'era il ring adesso sta morendo anche il centro perché è sotto la vista di tutti tutto chiuso io non so ho visto Udine ieri sono andato in altre città a me non sembra che ci sia molte cose in affitto in centro nel centro storico se vuole andiamo a fare un giro insieme se vuole andiamo a Udine insieme e vediamo se sul centro storico vediamo vendersi affittesi negozi con vetrine in disuso magari da qua andiamo non è un problema non è un problema e comunque se poi noi non vogliamo e diamo la colpa ai commercianti perché questo succede io penso che questa città perde molto perde molto ogni giorno ogni giorno magari non voluto da lei ma di una trascuratezza a livello regionale perché questo poi è andato di fatto trascuratezza a livello regionale ma veramente come città stiamo arrivati quasi ultimi in questa regione che prima non eravamo ultimi proprio anche col prodotto interno lordo lei sa bene Pordenone quanto aveva contribuito poi magari noi facciamo anche finta di non sapere niente quello c'è dell'idastanda abbiamo sentito qua pastere di gente che aveva risolto tutti i problemi oggi ci troviamo 400 dipendenti che staranno a spasso i problemi non sono risolti e tutti quelli che sono venuti fuori non sono stati risolti non sono stati risolti perché fra poco vedremo come risolverete questa grande mercanizzazione che avete fatto esterna al centro pordenonese aprendo tutto il mondo in periferia e sta morendo Pordenone era la palestiano questo discorso qua che si è detto anche in quest'aula sulla prima tornata del sindaco Sergio Bordeno si è detto guarda che quando doveva aprire ancora Smart Moda quando apri la cintura pordenonese tu chiudi il centro perché se mi distruggi il centro commerciale naturale di Pordenone che sono i due corsi centrali tu hai finito su questa città tornando per la circoscrizione io devo dire che l'ho sperimentato personalmente e capisco il fatto che questa gente qui è qua fino a quest'ora a vedere che fine dovranno fare ma purtroppo io penso che stasera non avrete la maggioranza per approvarla questa delibera sicuramente però la prossima volta a maggioranza minimale la provete per me fate un grande errore primo perché lo ribadisco perché rimanga ben impresso quello che diciamo lo fate a fine legislatura per me è un errore madornale non si modifichino le cose come io ho ritenuto anche anche sull'unificazione delle case di riposo queste cose qua si fanno all'inizio perché lei ha fatto un progetto che potrebbe non essere condiviso da chi arriva dopo e dopo chi lo gestisce chi gestisce il quadro delle modificazioni dell'unificazione dell'ASP lei no ne viene un altro non lo pensa non lo sente e lo abbandona e quel abbandono qualcuno pagherà poi sempre i nostri vecchietti pagheranno sempre i nostri vecchietti io avrei preferito che queste cose si facessero all'inizio della legislatura compreso la modifica delle circoscrizioni non parlo di soppressione la modifica delle circoscrizioni perché per quello che costavano contro quello che davano si potevano semplicemente modificare ricalibrare ristrutturare creare la sede come abbiamo sempre voluto fare e dando anche gli strumenti per operare nel territorio io mi sarei sentito più sicuro per Pordenone perché avrei avuto ancora altri amministratori che invece di chiudersi all'interno del palazzo a ricevere la gente erano tutto il giorno a contatto con la gente sono cose molto diverse queste e ce ne accorgeremo e non pensate che questi qua vengono qui dall'assessore o vanno dal consigliere comunale fanno più fatica a farlo qua dall'assessore vengono stavolta se sono organizzati con a capo qualcuno che poi gli prende la parcella questo è poco ma sicuro e sul territorio devono proprio conoscere bene il consigliere comunale che è lì ma quello che è dall'altra parte potrebbe anche non avere neanche un consigliere comunale nella via e dunque fa ancora più fatica pertanto noi esortiamo ancora a ripensare su questa soppressione e sicurizioni e è così un progetto di dire si fa c'è la commissione statuto si studia ci sono dei progetti in atto si modificano andiamo a portare le prossime elezioni sicuramente anche perché se questa è una legge regionale noi siamo svincolati alla legge nazionale abbiamo visto che la regione è previsto che ci siano nei capogli di provincia le circostrizioni e adesso qua mi sembra che nella costituzione delle UTI potrebbe essere questo l'almo T perché voi volete sopprimerla non ci sono altre soluzioni perché altrimenti rispetto ai comuni accorpati all'UTI del noncello saremo l'ultima a avere un organismo in più perché lo prendete nel nostro statuto e allora siccome volete parificare che qua già sento i discorsi che poi si faranno gli uffici territoriale uno a Zoppola uno a San Quirino l'altro io ancora mi aspetto a vedere come funzionano questi UTI per me preferirei che non partissero e che se c'era da fare dei risparmi e ottimizzare il servizio che fanno i comuni si poteva a mio avviso lasciare anche la provincia che era un altro organo elettivo che non viene più eletto se non tra di noi come si suol dire e dimezzando probabilmente le spese si poteva fare perché tutto ciò si può fare guardate le grandi pecche che noi vedremo nei prossimi tempi sarà l'abolizione del Senato che sarà un pastrocchio che non si capirà mai considera sarà l'abolizione delle province perluti che saranno ingovernabili ingestibili perché si intersecheranno poi con l'effusione dei comuni perdendo l'identità provvisodomini insegna provvisodomini sono dei comuni molto compatibili siamo stati bocciati su tutta la linea bocciati su tutta la linea allora io vorrei che il mio comune almeno questo comune che io partecipo rivedesse questa delibera la portasse in commissione statutaria la si rivalutasse si andasse al nuovo voto con una delibera si condivisa da tutta da tutto il consiglio comunale questo vuol dire governare prendendo tutti gli spunti che noi abbiamo dato e facendo un progetto articolato per mantenere e incentivare e portare vicino al voto tutte le persone adesso c'è la Lega che sta mettendo d'accordo con la lista civica qua non so probabilmente con Salvador è appiccinato va bene facciamo 5 minuti di sospensione va ragazzi vedo che il paziente non le chiama si si tocca fare 5 minuti di sospensione qua ti ho messo d'accordo non ho trovato la quadra vedi presidente no no ma io finisco perché penso che sono molto importante quello che stanno facendo sì nella direttura soprattutto poi capigruppo di peso questi qua avete la nuova alleanza della Lega stasera non vedete della Lega o della lista cambiare si può non ho capito bene come è il discorso ancora ma c'è qualcosa che sta bollendo in pentola ecco sindaco io penso che lei abbia capito bene il mio intervento alcune cose non le faccio non le permetta di farla mi creda lasci un bel ricordo a questa città qua che ha fatto qualcosa di buono ha fatto qualcosa di sbagliato ma le circoscrizioni le ha mantenute magari riformate e le mantiene io penso che Elio Rossetto anche lui su questa posizione potrebbe concordare perché chi ha lavorato nelle circoscrizioni chi è stato anche seppur 5 anni vicino alla sua comunità sa quanto importanti sono e quanto servono le circoscrizioni soprattutto quanto serve per abituare la gente a entrare vicino alla politica perché adesso ci guardano lontano ci condannano quelli che vengono vicino ma non dico solo eletti basta candidati perché cominciano a correre a parlare con la gente a chiederle consenso fare capo a un consigliere comunale avere sedi partito maturano crescono anche culturalmente io sono convinto che questo è fondamentale su questo altrimenti penso che per fare qualcosa poi dovranno andare a scuola dai professori che hanno proposto questa deliberazione io chiudo qua solo così potranno imparare cosa vuol dire fare politica andare a scuola da coloro che hanno proposto questa deliberazione che gli inseriranno tante cose ma staranno ben attenti di non inglobare tra loro gente che possa fargli le scarpe perché lo devono confermarsi in quest'aula noi questo problema non lo abbiamo sindaco e questa è la mia esaltazione grazie grazie consigliere De Bortoli consigliere Dalmas prego io capisco che anzi non c'è mi spiace il presentatore della il presentatore della mozione ha cercato di individuare di delineare declinare divisare poi possiamo andare avanti per 15 minuti ecco sei qua e sei scuggente 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 ma sinare come giustificare questa scelta che appartiene un po' mi pare alla storia della lista il fiume che da sempre non non vede insomma non ritiene fondamentali il ruolo delle circoscrizioni diversamente nell'ambito del partito democratico meglio di una parte del partito democratico nei settori importanti della maggioranza di governo del comune ci sono opinioni diverse secondo le quali evidentemente le circoscrizioni hanno una funzione sono articolazioni della vita democratica di questo comune potremmo riformarle ma sostanzialmente quanto ho letto anche nei giornali in questi giorni insomma anche con coraggio rispetto alle posizioni espresse pareva insomma da un po' dalla maggioranza al suo complesso hanno cominciato a dire beh ma insomma noi non è che siamo proprio così favorevoli all'eliminazione delle circoscrizioni e quindi insomma la questione di battito così giustamente anche con argomenti ragionevoli quella ragionevolezza che invece non ho visto io sono uno dei firmatari della mozione per la soppressione di circoscrizioni preso stremato dalle richieste esistenti del mio collega ed amico Franco Giannelli mi ha chiesto in un momento di buonismo che mi capita raramente gli ho detto ti do la firma salvo poi non l'avrei mai data se avessi immaginato non avessi immaginato che mi sarei trovato a mezzanotte passata a discutere grosso modo insomma di queste cose dalle 6 dalle 18 e 30 su un tema che non mi appassiona sul tema che non mi appassiona ma non lo dico guarda rappresentante di circoscrizione sono già andati via non mi appassiona non per le circoscrizioni in sé non mi appassiona per il modo in cui è stato presentato è stato risposto e poi perché comunque la soppressione delle circoscrizioni è una modifica della legge primaria del comune cioè lo statuto che non è una norma intangibile anzi modificabile ma gli argomenti che avete utilizzato sono pochi sono un po' deboli non capisco qual è il problema le circoscrizioni costano troppo quanto costano capisco 16 mila euro all'anno 18 mila euro all'anno quanto costa il consiglio comunale dei ragazzi 22 quindi voglio dire è un problema reale di costo delle finanze del comune 16 mila euro all'anno questo è il problema è un problema di efficacia efficienza delle funzioni delegate no perché non abbiamo delegate neanche una spiegava molto bene prima il consigliere più vicino cioè l'attuazione del statuto non c'è stata perché le circoscrizioni sono a tutti gli effetti degli organi di decentramento amministrativo e hanno queste funzioni così li ha concepiti il legislatore così il legislatore nazionale nel 2011 ha detto sotto i 250 mila abitanti sotto i 250 mila abitanti non servono le circoscrizioni il più di Venezia Giude ha fatto allora una legge diversa io la votai per disciplina di partito sempre perché non ero comunque interessato a questo argomento ma ben comprendevo che l'assetto del nostro territorio è diverso in termini demografici dal resto del paese e comunque c'era questa idea secondo la quale le circoscrizioni potevano stare nel quanto meno nei capiluoghi di provincia ripeto organi di decentramento amministrativo così ribadisce il legislatore così lo dice esplicitamente anche il legislatore nazionale quando interviene sull'argomento il decentramento non c'è stato le circoscrizioni però sono abitate da persone che non solo pensano alla politica in termini di scambio e qui ho sentito troppe volte in questo consiglio anche da parte di diversi consiglieri utilizzare argomenti sconvenienti si dice nelle comparse sconvenienti rispetto a coloro i quali partecipano alla vita del comune e nelle circoscrizioni evidentemente ci credono perché portano un loro contributo perché partecipano alla vita dell'amministrazione però ci ho detto caro Bianchini il problema è che voi oggi approvate una mozione che ha il carattere proprio quello che il sindaco ha detto all'inizio della seduta replicando l'intervento di Ribetti cioè chiedeva chiarimenti sul carattere omertoso di ciò che stava facendo omertoso ma e voi sostanzialmente state operando un nascondimento di quello che state facendo perché da un lato chiudete le circoscrizioni perché le abrogate approvando questa delibera e poi rinviate ad un qualcosa che non si sa cosa sarà e sono i cosiddetti comitati di salute pubblica come richiamate le forme di consultazione la consulta che già è prevista dall'articolo 4 che è cosa diversa dal come detto dalle funzioni delle circoscrizioni ma questo è un metodo che voi conoscete perché lo avete applicato nella riforma del titolo quinto lo avete applicato nelle leggi costituzionali che state facendo togliete il senato ma non lo togliete chiudete il senato però insomma il senato rimane ma in altro modo e l'insieme di tutte queste riforme è avvenuto così così per la provincia di Pordenone che in 15 giorni è stata chiusa senza che nessuno si agitasse più di tanto dal presidente della regione Serracchiani unica nella regione più di Venezia Giulia mi spiegate perché la provincia di Gorizia ha motivo di esistere ben superiore alla provincia di Pordenone perché è zona di confine non so per questo spiegate cioè c'è un atteggiamento per cui queste riforme vengono fatte sul solco dell'apparente necessità che qualcosa debba necessariamente cambiare eppure nulla cambia voi pensate di o chi pensa di realizzare una riforma dei cosiddetti parlamentini che cosa produce dal punto di vista finanziario in questa con questa mozione risparmia forse 16.000 euro ma quello che mi spaventa di più è quello che potrete fare o potreste fare dopo cioè peggiorare ancora le cose perché voi chiedete oggi avete l'arroganza la supponenza la tracotanza di cancellare quattro norme dello statuto sulle quali posso anche essere d'accordo ma siccome dovete giustificare in prossimità delle elezioni anche ai vostri quello che state facendo li avete illusi e cercate di trovare un'intesa illudendole che forse le ripresenteremo attraverso forme di partecipazione nuova e più articolata e quindi togliete però le rimettete così ha fatto il senato la Boschi il DDL Boschi e così questo è il metodo con il quale procedete alle riforme io non so se il segretario comunale ha ragione non c'è segretario comunale non c'è non so se ha ragione rispetto all'obiezione del collega del ben che ha portato degli argomenti insomma fin dei conti siamo chiamati poche volte a decidere sulla modifica dello statuto questa è una di quei casi cosa costa all'amministrazione acquisire il parere nell'iter di un procedimento delle commissioni sono quattro e dice ma sarebbe come chiedere al tacchino di preparare il pranzo di Natale in questo caso sì avremmo dovuto farlo sarebbe stato corretto avreste dovuto farlo magari avreste perché voi ci avete privato della possibilità di comprendere che magari dalle circoscrizioni stesse sarebbe avvenuto un risultato diverso che poteva essere anche quello sì le togliamo o le modifichiamo o come le possiamo modificare ecco quindi questa grande riforma caro Bianchini produce un risparmio di 16.000 euro quindi tu che sono compensati esattamente dai costi dei consigli comunali per togliere le circoscrizioni perché io non costo in questo consiglio comunale però tutta questa gente che si è mobilitata per essere qui dalle 6.30 che tornerà probabilmente entro 30 giorni per la seconda lettura hanno già compensato almeno il 50% dei costi del consiglio comunale perché o tirate fuori degli argomenti veri altrimenti il vostro discorso è fallace politicamente inconsistente oggettivamente inesistente perché di questo parliamo di questo parliamo parliamo del risparmio di 16.000 euro togliendo le circoscrizioni benissimo si comincia dal piccolo per approvare delle contenimenti di spesa più grandi ma il resto non l'abbiamo visto e quindi rimane a me solo questo dato anche se ripeto posso in linea generale essere d'accordo sul principio essendone uno dei firmatari della mozione mi dispiace che l'amico Giannelli non sia qui a resistere alla sofferenza di dover discutere di queste cose perché volete restare qui quindi resteremo qui resteremo qui anche per la delibera dopo se volete non è necessario domani mattina alle nove e mezza andiamo in tribunale disparti vabbè cosa cambia nessuno nota soprattutto nel mio caso la differenza quindi 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 no ma mi dispiace che non ci sia la Picin chi ha ragione anche la Picin insomma le cose che ha detto in effetti perché tanto penare quando ben altri enti li abbiamo tolti in minor tempo però è qua eccola qua cioè in effetti in effetti questa è la questione ma anche lì anche lì il tema rimane sempre lo stesso io sono veramente veramente chiudo anche sono imbarazzato in un certo senso anche mortificato mortificato perché non c'è molta serietà in quest'Aula può esserci della buona volontà anche il sindaco buona volontà ma la sua maggioranza non ha altrettanta buona volontà ci sono delle note al suo interno di dissidenza che manifestano un disagio profondo una non condivisione di aspetti non banali della vita di questa amministrazione che segnano questa amministrazione non lei dal punto di vista personale io ripeterò sempre questa cosa la dirò dal primo all'ultimo giorno in cui starò ancora per poco dentro questo consiglio sono mortificato perché il livello della preparazione è molto basso gli argomenti che utilizzate come maggioranza sono inconsistenti in questa delibera ne abbiamo l'ulteriore riprova non me l'avete portato uno che mi convincesse sulla bontà del metodo che avete utilizzato avete nascosto la mano anche qui perché siete pavidi non avete il coraggio di dire ciò che volete fare se dovete chiudere le circostazioni chiudete punto e basta non ci sono altre cose non ci sono altre cose da fare si chiudono non illudete chi invece crede che le circostazioni abbiano o hanno un senso e possano rappresentare o rappresentino qualcosa nella vita del comune ultima cosa chiosa signor segretario lei probabilmente ha ragione qui modifichiamo lo statuto non modifichiamo i regolamenti di conseguenza l'incidenza delle cose che andiamo ad approvare probabilmente 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 dico non richiede ma a prescindere da questo mi stupisco che dentro la maggioranza non ci sia una voce autorevole che sappia governare questi dibattiti sappia gestire il consiglio comunale dando anche e valorizzando il ruolo dei consiglieri comunali per cui la richiesta dell'amico dottor Delben era una richiesta sacrosanta che poteva tranquillamente essere superata semplicemente ricorrendo ad un paremio si faceva quindi si chiudeva si ascoltavano le circosizioni e di conseguenza avremmo potuto acquisire tranquillamente con più serenità una decisione magari inaspettata questo non l'avete fatto perché non avete il senso della politica non siete autorevoli siete semplicemente avete gestito in modo prettamente ragioneristico tutte le questioni di questa amministrazione non che la ragioneria non può non importi è importantissima soprattutto in questi tempi ma viva Dio un po' di virilità un po' di decisione non l'abbiamo vista non l'abbiamo vista ho visto della buona volontà da parte sua ma non l'abbiamo vista nella sua maggioranza prima l'abbiamo sentito l'assessore Toffolo ha fatto il compitino per casa rispetto alle obiezioni di Giannelli ha fatto il compitino per casa un cittadino che viene qui non capiva niente di quello che lei stava dicendo ma non perché lei abbia detto cose sbagliate semplicemente perché non comunicate non sapete dire cosa avete fatto così sul piano regolatore non si è capito il livello del pasticcio del quale vi siete infilati anche lì alla fine della legislatura e non della legislatura e non all'inizio l'ora è tarda andiamo a Cagli grazie al consigliere Dalmas e la consigliera Sonia Daniello prego sì grazie il collega del fiume quando ha presentato la delibera in commissione ha iniziato a dire che base di questa delibera di consiglio c'era un ragionamento politico e la delibera era semplicemente squisitamente tecnica sostenendo appunto che motivando questa cosa dicendo che ci volevano solo 28 consiglieri per approvare questa delibera per portarsela a casa il fatto che questa sera non ve la porterete a casa ha secondo me un valore politico invece autovotarsi la prossima volta questa delibera ha un valore politico non di buona politica la delibera che è stata presentata dal fiume è direi coerente con la linea politica del fiume molto molto meno invece è con la linea politica del PD ma comunque è in contraddizione con quello che è stato sottoscritto come programma di maggioranza elettorale cinque anni fa andatevi a vedere la 5 fatto in campagna elettorale e riportava che le circoscrizioni dovevano essere riformate non soppresse e questo era un compito che era stato affidato proprio al PD occasione persa secondo me per l'ennesima volta da parte del PD che cinque anni fa quattro anni fa voleva dar gambe voleva incoraggiare i consiglieri di giustizione presentando appunto una propria lista come le hanno presentate le altre liste politiche le circosizioni con i propri eletti devono essere rappresentative dei cittadini e questi i consiglieri circoscriziani devono essere eletti dai cittadini perché questo è il senso democratico delle elezioni dirette e non possono essere come piace un po' spesso un po' troppo spesso al PD essere nominati qui presentate un emendamento delle consulte con le elezioni dirette però mi sembra una toppa su un buco ormai su una lacerazione ormai troppo ampia quindi anche secondo me le circoscrizioni andavano cambiate i regolamenti delle circoscrizioni andavano cambiate proprio per dar gambe a e dar importanza e valorizzare tutta l'attività che i consiglieri hanno dimostrato di avere e di avere una buona dose di coraggio anche nel portare avanti cose che non le erano proprie quindi le circoscrizioni andavano modificate e non soppresse bene in qualche cassetto assessore Mazzer tra lei e qualcun altro ci sono ben tre o quattro modifiche di regolamento assessore lei aveva il compito prima di portare e di approvare degli emendamenti a questa delibera il compito politico di presentare questi regolamenti a tutti noi in commissione regolamento aveva il compito e il dovere politico e uno è uno che ha presentato un ampio e importante cambio di regolamento sulle circoscrizioni è stato proprio un rappresentante del PD Marigliano assessore anche dieci anni fa in questa dieci no sì non questa dieci anni fa dodici vabbè di questa di questa parte politica bene questa è la dimostrazione che non c'è stata né la volontà politica da parte del PD e nemmeno la voglia politica ma c'è stato un accordo di maggioranza tu mi voti la cancellazione dei consiglieri e io ti voto la soppressione delle circoscrizioni questo c'è stato quindi è mancata la volontà la coerenza politica e la voglia di cambiare effettivamente le cose perché la soppressione non vuol dire cambiare vuol dire cancellare tutto quello che c'è stato fino adesso con una semplicissima delibera ma quindi non si cambia niente c'è una soppressione per l'amore di Dio di una parte di qualcuno che ha lavorato per l'amministrazione non per questa amministrazione per questo colore politico ha lavorato secondo me le circosizioni i presidenti tutti i consiglieri hanno lavorato per la città che è un valore diverso da lavorare per questo tipo o per il colore che questa maggioranza rappresentava perché i consiglieri quando si ritrovano in circoscrizione non fanno differenze politiche se qualche cittadino va a raccontargli o a chiedergli qualche cosa quindi è mancato anche una specie di non una specie è mancato il rispetto per il lavoro non solo per il lavoro svolto dai consiglieri ma anche per proprio per le persone che sono i consiglieri manca il rispetto anche per i cittadini che hanno votato le circoscrizioni perché non avete spiegato a nessuno e qui non c'è nessuno che ci ascolta non avete spiegato a nessuno perché dobbiamo o dovete o volete sopprimere le circoscrizioni c'è una specie di disprezzo politico per chi ha lavorato effettivamente anche per questa amministrazione anche per voi per non farvi arrivare le valanghe di problemi e penso alla sud per esempio le valanghe di problemi in capo all'assessore ma cercando di smussare alcuni angoli e cercando di portare alcune istanze ma un po' lavorate con la pazienza con la costanza e con la costanza di ascoltare tutti i cittadini del luogo secondo me c'è anche poco rispetto per chi sussurra guardate non non sì avete lavorato bene ma venite nelle liste delle liste civiche o venite nelle liste dei partiti sono due cose diverse sono due cose due mondi completamente diversi sono esigenze bisogni rappresentazioni completamente diverse essere eletto per il consiglio comunale è una cosa essere eletto per il consiglio di circostruzione secondo me ha un altro valore io lo dico tranquillamente non ho provato a fare il consigliere di circostruzione ma ho visto come i colleghi della Rorai Capuccini hanno lavorato che è un modo completamente diverso da lavorare come consigliere comunale la circostruzione fa parte di un'architettura del decentamento amministrativo ed è sopprimerle è un esproprio secondo me alla forza democratica che i cittadini convinti hanno eletto sono andati ad eleggere i consiglieri di circostruzione perché questi voti non gliela ha regalati la singola lista civica o il fatto di essere iscritti ad un partito se li sono guadagnati loro come se li sono quando ci siamo guadagnati noi ma non perché perché hanno presentato dei progetti perché hanno presentato la loro faccia perché hanno presentato come volevano ascoltare come volevano portare avanti delle istanze del territorio non sono solo anelli di congiunzione ma sono forme efficaci ed efficienti se gli avessimo dato la forza di partecipazione attiva sopprimendoli ancora una volta fate capire che non non amate proprio non siete in sintonia con la partecipazione partecipazione attiva ma con il termine di partecipazione attiva dei cittadini i consiglieri di circostruzione tutti hanno dato un contributo a far crescere e a far rispettare le persone tutte le persone e i loro bisogni e hanno cercato di portare le periferie e di congiungere le problematicità delle periferie al centro e portando alla vostra attenzione alcune problematiche non sempre ci sono riusciti a portare a casa un risultato però ci hanno tentato e sono riconosciuti e questo lavoro è riconosciuto da tutti gli abitanti del luogo non ridicolizziamo che sopprimiamo le circostruzioni per il loro costo è veramente ridicolizzare il senso della politica 23.000 euro non sono un'enormità 23.000 16.000 qua si sentono parlare si sente parlare di vari costi ma 23 16 18 anche 40 non è un costo per la politica se la politica è quella politica con la P maiuscola se la politica è partecipazione dei cittadini si fa tutto veloce Assessore Mazzer oggi senza pensare velocizzando tutto quanto disumanizzando tutto quanto e altrettanto velocemente potevate semplicemente proporre qualche cosa per cambiare effettivamente le circostruzioni e per dargli un'importanza l'importanza che doveva essere riconosciuta loro presentando un progetto alternativo almeno non la soppressione e lei e lei né gli altri due assessori che mi aveva nominato nella risposta scritta all'interrogazione che le avevo fatto si sono prodigati per fare questa cosa i quartieri e le circostruzioni mi spiace che non ci sia il collega Giannelli non sono e non fanno parte dell'apparato sono persone che lavorano per la città e hanno garantito una continuità sul territorio e hanno garantito che non si aprissero delle voragini problematiche che potevano andare nei giornali amplificate nei loro problemi hanno garantito che tutto fosse ricondotto all'umanizzazione e al rapporto umano che molte volte i consiglieri per molte cose che hanno da fare gli assessori altrettanto non riescono ad avere non per non volontà ma non riescono ad avere potevamo migliorare efficacemente un progetto che era quello della circostizione e il valore della circostizione il valore politico dando un senso alla politica e dando un senso anche al fatto che c'era un assessore preposto a questa cosa lei me l'aveva scritto nella risposta all'interrogazione certo ribadisce il fatto che però può ribadire quello che vuole ma lei non mi ha detto che toglieva le circostizioni invece qui sì ma lei aveva un altro compito rispetto al consigliere e al consiglio lei aveva il compito di portare e di cercare una mediazione di proporre una soluzione alternativa cosa che non ha fatto perché c'era scritto nel loro nel loro programma elettorale poi i programmi si scrivono poi i programmi poi le persone dimenticano certo va bene e concludo il mio intervento dicendo una cosa forse banale però vi prego di di non di non chiamarvi ancora liste di centro-sinistra o liste del PD democratico o altro perché i valori della democrazia i valori della sinistra i valori del centro che sono rappresentati appunto dalla partecipazione attiva dei cittadini dal rispetto delle persone forse non li state rappresentando grazie consigliere Daniello consigliere Passoni prego signor presidente cari colleghi e colleghe ma a quest'ora è tutto più complicato ma comunque anche nonostante quest'ora mi dispiace ho appunto preso schiacciato il bottone in modo da essere al di fuori diciamo della colpa di andare al secondo gettone che però non faccio ricadere certamente ai colleghi che mi hanno preceduto proprio per dire che insomma su questa questione abbiamo discusso molto e in diversi luoghi dispiace che ci troviamo di fronte a una cancellazione senza riforma perché il nostro compito che ci eravamo dati nel programma amministrativo signor sindaco lei l'ha firmato come tutti noi e invece oggi cancelliamo una cosa che abbiamo promesso ai cittadini di riformare e lei l'ha promesso anche nel febbraio di qualche anno fa a tutti i consiglieri circunzionali presenti in sala rossa questo impegno non lo abbiamo ottemperato non l'abbiamo ottemperato e mi dispiace perché noi siamo nel centro-sinistra fautori di un riformismo efficiente che renda più funzionante l'attività amministrativa e penso che se dovesse passare non stasera certamente ma fra qualche tempo è una colpa che si porteranno quei consiglieri che decideranno di fare questa cancellazione senza una riforma attiva e organica che è nelle cose di chi si professa riformista e a disposizione del paese di questa città di questa comunità quando invece si fa qualcos'altro secondo me non siamo più di quel partito ma siamo un'altra cosa e questo mi dispiace molto mi dispiace molto lo dico con franchezza perché noi abbiamo fatto una battaglia all'interno del partito per una discussione aperta e c'è stata una votazione chiara e limpida dove si è deciso alla fine all'unanimità di portare avanti un organismo intermedio che fosse di carattere elettivo e anche in congiunta con le elezioni amministrative proprio per evitare costi aggiuntivi e invece adesso noi ci troveremo con una riforma che avrà un costo aggiuntivo di una elezione che sarà diversa da quella del Consiglio Comunale una cosa che non sta secondo me in piedi rispetto a quello che è stato un deliberato che abbiamo avuto nel nostro partito ma al di là del nostro partito che per me rimane tale e importante e quindi ha sempre il tempo di rivedere le cose e di riflettere soprattutto se questa è la strada giusta se questa è la strada coerente con quello che è sempre stato il partito democratico per la partecipazione attiva e cancellando non si fa partecipazione attiva anche il regolamento beni comuni che hanno presentato i colleghi del fiume e che noi buonariamente senza magari confrontarci sul discorso delle circolazioni riformate come avevamo messo nel nostro programma sottoscritto anche da loro forse avremmo potuto dirgli che quella cosa si poteva votare se mantenevamo seppur riformate le circolazioni perché avrebbero aiutato la cittadinanza attiva ad avere un supporto sul territorio e tenendo conto che le circolazioni non si interessano solo della cittadinanza attiva ma della cittadinanza anche passiva quella che ha difficoltà che vive dei disagi ma io non voglio dilungarmi su questo perché hanno parlato benissimo i colleghi che sono intennuti in precedenza in particolare mi riferisco a Pedicini a Vito Palmisano alla Francesca Cardin che hanno delineato esattamente cosa sono le circolazioni oggi e noi avevamo solo il compito di efficientarle dalle funzioni definite non fargli fare dei pareri che poi non vengono completamente incisattesi come quello di stasera che mi permettono di dire per me è una vergogna e mi dispiace perché ho una grande stima del segretario generale ma ogni volta ci viene a dire che non è importante che non è vero che non è necessario il parere delle circolazioni anche quando si modifica un loro regolamento addirittura si vengono cancellate ma io non so comunque ci sarà il ricorso di un onorevole collega nella figura di Delben e a me dispiace che tutto ciò accada tra l'altro sotto elezioni normalmente c'è questo buon costume che queste cose così importanti così delicate non vengano riformate sotto elezioni come siamo già oggi noi e mi dispiace che sia il mio partito a dare una mano a quelli che vogliono cancellarla io capisco Bianchini che si vuole mettere la medaglia che è stato lui a cancellarle ma che lo faccia il PD il mio partito che è sempre stato come primo valore la partecipazione la partecipazione è una cosa che non si può cancellare e quelle istituzioni di base che io ho avuto il piacere e l'onore di frequentare sono utili ma non a noi stessi sono utili per il comune sono utili per l'amministrazione certo quando danno dei pareri negativi su tutto quello che ci può essere è chiaro che non servono però se noi riuscivamo a riformare le funzioni a definirle nel campo del loro territorio tutta questa cosa qua non serviva qui stiamo abbiamo stiamo perdendo del tempo il costo di questa seduta permettetemi a chi lo a chi lo imputiamo noi stasera dovevamo avere una riforma che ci dava il nuovo organismo e invece abbiamo un supposto ordine del giorno anzi emendamento che tra l'altro non so chi voterà perché ho visto uscire prima il mio capogruppo Tomasello con Bianchini e con Piccinato non so c'è un icciucio c'è un accordo sul voto no io spero di no perché sarebbe sarebbe una cosa veramente scandalosa comunque io spero io spero che il tempo che abbiamo da stasera alla prossima votazione che ci sia una grande riflessione io direi prima di tutto del mio partito perché deve rispettare quelle che sono le votazioni dei propri organismi e non ci sono alternative perché gli organismi sono chiamati a esprimersi e quando si esprimono non possiamo rivoluzionare il tutto per far piacere a qualcuno o qualcun altro anche perché questa delibera la cosa più grave è che non si capisce il motivo perché le cancelliamo perché se voi la leggete non c'è nessun motivo fa riferimento alla delibera del maggio del 2014 e poi dopo qua ci dicono ma non è un problema di soldi non è un problema di non è un problema di là però qua siamo venuti siamo stati chiamati a luna di notte no? a votare per cancellarle io non so io spero io spero che ci sia il tempo da qui alla prossima votazione per la presentazione di una riforma vera perché allora altrimenti sarebbe il fallimento di questa amministrazione e del mio partito mi dispiace dirlo pubblicamente ma è la verità perché non possiamo fare un programma amministrativo promettere di fare le riforme e poi qua ci troviamo solo con la cancellazione e mi dispiace a me non disturbano i pareri anche se sono negativi delle circuzioni hanno dato un contributo alla nostra comunità che che se ne dica e molti di quelli che parlano non hanno mai frequentate allora prima di parlare bisogna frequentarle anche le cose per capire la valenza che hanno dal punto di vista sociale per la prossimità che hanno a fianco dei cittadini soprattutto quelli che hanno più disagi ma ve lo hanno detto soprattutto le persone che hanno avuto la fortuna di rappresentare i cittadini in quelle istituzioni di base che io ancora oggi non capisco perché vogliamo cancellarle quando ci eravamo messi d'accordo e ci eravamo ripromessi nei confronti dei cittadini di riformare le funzioni per rendere più efficienti di quello che sono oggi ma quello che fanno oggi l'hanno detto tutti qua in quest'aula sono cose che servono o vogliamo farci rappresentare dell'associazionismo l'associazionismo mi risulta che sta lavorando bene con le istituzioni certo soprattutto dove ci sono persone che hanno voglia di fare perché la cultura di questo territorio è fare e se nelle istituzioni ci sono persone che vogliono fare caspita si fanno tante cose poi certo ci vuole un'amministrazione che abbia la capacità anche di rispondere alle sollecitazioni che vengono dal territorio e tante volte questa risposta non è venuta mentre in altre sì e abbiamo visto anche risultati per cui francamente quando tu non trovi nessuna motivazione per poter approvare una cosa di questo tipo purtroppo sei qua a cercare di far riflettere i colleghi del tuo partito e i colleghi consiglieri tutti perché questa cosa non succeda in futuro grazie grazie consigliere Passoni consigliere Tomasello prego grazie presidente signor sindaco ho ascoltato attentamente tutti gli interventi dei colleghi si può dire che quasi tutti concordiamo nel fatto che le circoscrizioni oggi così come sono non vanno non vanno bene però la prima cosa che io vorrei evidenziare per togliere qualsiasi dubbio è che per noi del partito democratico per noi del gruppo del partito democratico certamente da un punto di vista politico amministrativo le circoscrizioni sono state certamente uno strumento importante di collegamento tra l'amministrazione e i cittadini amministrati così che hanno potuto partecipare in questo modo certamente ha consentito tantissimi cittadini di poter partecipare suggerire delle scelte per il miglior governo del territorio sia come consiglieri eletti all'interno delle circoscrizioni ma anche all'interno come consiglieri non eletti all'interno anche delle commissioni delle commissioni consigliari riconosciamo che le circoscrizioni hanno avuto sono state una risorsa anzi democratica che è stato un luogo di partecipazione in quanto hanno contribuito alla costruzione in questa città fino ad un certo punto della coesione sociale della cittadinanza del senso civico dell'identità comunitaria quindi certamente le circoscrizioni hanno rappresentato e questo concordo anche con quello che ha detto il consigliere Ribetti e altri colleghi un laboratorio politico importante per la funzione dei futuri amministratori però la volontà di voler oggi dire sì a questa delibera consigliare che prevede appunto io non vorrei parlare di soppressione ma prevede un superamento di questi organismi è sorta a seguito di un progressivo deterioramento dell'azione politica amministrativa delle circoscrizioni i motivi sono diversi in parte possiamo dare colpa all'esilatore nazionale all'esilatore regionale che non ha determinato bene precisamente quali erano le deleghe di competenza della circoscrizione non ha determinato qual era l'ammontare del loro bilancio di gestione l'attribuzione delle funzioni quindi le circoscrizioni hanno svolto l'attività nei limiti previsti solo degli statuti comunali e dei consigli comunali e delle giunte municipali la prassi amministrativa anche qui nel nostro comune ha evidenziato che nel tempo sono state sempre minori le deleghe che sono state date alle circoscrizioni gli strumenti i fondi economici ed il personale anche il personale tecnico amministrativo affidato alla circoscrizione con evidenti conseguenze in ordine alla fatica amministrativa di questi organismi quindi l'efficacia amministrativa come ha ricordato anche qui qualcuno nel tempo si è così basata non sull'efficienza della struttura organizzata bensì è stata delegata all'attivismo e dalla rappresentatività di certi presidenti e di certi consiglieri inoltre un ulteriore elemento di indebolimento delle circoscrizioni colleghi è stato quel dualismo che si è creato tra amministrazione comunale e circoscrizione iniziato con l'introduzione della legge quella che ha visto che riguarda la lezione diretta del sindaco mi sembra la legge 8193 che ha provocato il progressivo indebolimento dell'azione amministrativa della circoscrizione spogliando nel tempo di potenzialità e di risorse questa norma questa legge infatti ha introdotto certamente maggiore stabilità politica nei livelli amministrativi locali ma anche ha centrato la responsabilità e le capacità decisionali in poche persone nei sindaci nella giunta a discapito dei consensi elettivi anche quello del consiglio comunale la denuncia che ho fatto anche quando ho parlato della richiesta della riduzione dei consiglieri comunali perché in teoria anche un consiglio comunale così numeroso non serve per il poco potere che ha il consiglio comunale a seguito anche di questa riforma ciò ha provocato quindi questa valorizzazione delle forze dell'esecutivo ha provocato un'efficace deterrente al concretizzarsi di azioni politiche di formi a quelle degli esecutivi soprattutto per le forze politiche che avevano sostenuto in fase elettorale l'elezione del sindaco lo scarso o il mancato adeguamento normativo della struttura delle circoscrizioni alla legge appunto che prevede l'elezione diretta del sindaco ovvero la mancata rimodulazione di questi organismi agli obiettivi politici amministrativi della legge ha reso questo istituto un residuo del passato che nel tempo è stato sempre meno tollerato sia dalla diretta espressione di questo modello politico derivato dall'applicazione della legge e da chi ha voluto anche questo tipo di modello quindi tutto questo ha minato la funzionalità ed anche il comune riconoscimento delle istituzioni in questo contesto quindi si è resa necessaria e più pressante la richiesta di istituzioni più maggiormente efficienti e funzionali e anche più snelle le circoscrizioni quindi colleghi nonostante rappresentassero ribadisco che all'inizio negli anni 70 fino agli primi anni 90 erano delle importanti realtà comunali ed uno straordinario esempio di decentramento amministrativo ma con la nuova legge non viene riconosciuto quel giusto ruolo che meritano sono state relegate attualmente inevitabilmente ad un ruolo di doppione partitocratico della maggioranza di governo di questa città di qualunque colore se sia tale situazione ha fatto venire meno l'anello di collegamento tra cittadini del quartiere e del comune e non poteva trovare epilogo migliore e meno escuso se non che con la loro obrogazione ma anche per raggiungere a nuove forme di partecipazione che troviamo all'interno del nostro statuto comunale noi non è che vogliamo adesso introdurre qualcosa di nuovo noi vogliamo e chiediamo vogliamo chiedere l'attuazione di qualcosa che c'è già all'interno dello statuto perché noi riteniamo signor sindaco necessario che il buon amministratore deve essere in grado di raggiungere come giustamente detto tu anche l'ultimo cittadino del proprio territorio perché la politica non deve essere elittaria ma deve essere a contatto di tutti deve essere al contatto e possibile accessibile a tutti in coerenza con quanto da me appena detto appunto per quello noi oggi del partito democratico in sostituzione che diamo appunto abbiamo voluto questo emendamento l'emendamento numero 6 che prevede nient'altro che è l'attuazione dell'articolo 4 dello statuto comunale quello delle consulte che disciplina le consulte comunali diamo dell'indicazione quindi alla giunta delle linee guida queste devono essere delle consulte che dovranno rappresentare i territori cittadini dal punto di vista della loro omogeneità storico-geografica porre particolare attenzione ai bisogni sociali già rilevati e a quelli emergenti essere appartiti perché devono essere composte da liste di cittadini perché non dobbiamo fare i mini parlamentini come ci sono adesso essere elettive non possono essere in coincidenza ma questo lo prevede la legge che non possono essere in coincidenza con le elezioni amministrative non possiamo fare nessun tipo di provvedimento o quantomeno di delibera che prevede la coincidenza dei due tipi di elezioni perché sarebbe contrario alla legge noi riteniamo che quindi l'emendamento che andiamo ad approvare consentirà il superamento delle circoscrizioni e che avrà come conseguenza la consultazione delle consulte e che sicuramente si dovrà concretizzare entro la fine di questo mandato con l'approvazione del regolamento istitutivo delle consulte comunali per noi questo è signor Sindaco un passaggio fondamentale grazie grazie il consigliere Tomasello prego consigliere Loro grazie devo dire che siamo ufficialmente entrati anche se è una tendenza insomma che non è solo da noi a livello locale ma è un fenomeno che appunto ha anche altri aspetti nella vita democratica della società in cui viviamo ossia il periodo del riflusso quelle che sono state le conquiste almeno a mio parere della partecipazione democratica dei cittadini e che vengono si vedono riflessi sono stati riflessi nella legge del 76 che appunto da cui appunto è derivato il decentamento amministrativo di cui le circoscrizioni sono figlie il cui obiettivo era quello di permettere la partecipazione democratica dei cittadini nel gestire e risolvere le problematiche del territorio ecco quello è stato il periodo di espansione come una marea e vedo che adesso siamo arrivati al culmine e siamo nel periodo di riflusso dove in tutti i contesti si cerca di far ritrarre e di comprimere gli spazi di partecipazione democratica e dispiace che una dimostrazione l'abbiamo avuta anche stasera quando è stato chiesto secondo me in maniera ragionevole di allegare la delibera il parere delle circoscrizioni è stata posta attraverso un'interpretazione il rifiuto di questo passaggio come se si avesse paura di allargare un processo decisionale che vede ad oggetto le circoscrizioni stesse fatta questa premessa io sicuramente sono contrario all'abolizione delle circoscrizioni non ho ascoltato nessuna ragione che mi abbia convinto della bontà di questa scelta nonostante io abbia cercato di essere recettivo e soprattutto non riesco a capire il vero motivo insomma per cui si vogliono abolire questi enti se non quello di ridurre la partecipazione e accentrare il potere alla faccia del potere amministrativo alla faccia di quella che dovrebbe essere a mio avviso l'ideale della nostra società ovvero una democrazia il più possibile orizzontale perché ovviamente altrimenti sforceremmo nell'anarchia però comunque ci possono essere prese queste istanze di partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e secondo me le circoscrizioni per me che le ho vissute erano un bel esempio e sono infatti perché non ne abbiamo ancora abolite sono un bel esempio di partecipazione democratica e di democrazia diffusa quindi mi sento di dire che le circoscrizioni sono state tradite due volte sono state tradite due volte la prima volta quando non si è non si è voluto o non si è saputo dare loro e attribuire le funzioni delegate che le erano proprie quindi svilendone il loro ruolo e secondariamente si vogliono svilire stasera decretandone la loro fine a me dispiace che questa cancellazione venga dal mio partito del partito democratico che come ha detto il collega Passoni ha una lunghissima tradizione politica di democrazia civica e quindi non riesco a capire e anzi mi dispiace perché il partito democratico aveva chiesto accanto alla soppressione anche la contestuale riforma delle stesse quindi non riesco a capire come mai le decisioni di quello che è l'organo di indirizzo del PD vengano prese a delibitum cioè a giorni alterni quando fanno comodo si usano altrimenti quando non fanno comodo si possono pure ignorare quindi visto che qui abbiamo anche come collega la segretaria del circolo cittadino io chiedo le chiedo faccio un appello affinché proponga il rinvio della delibera perché siamo ancora in tempo proponga il rinvio della delibera della cancellazione e la prossima volta proponga attraverso sempre una delibera di consiglio quella che è una riforma delle circoscrizioni ma non una riforma che come è stata chiamata preveda il superamento pure semplice perché per me quando c'è una cancellazione non si può parlare di superamento si deve parlare insomma di un altro tipo di un organismo di una specie diversa allora il problema qual è? è quello che noi vogliamo fare e secondo me mi dispiace perché appunto anche questo proviene dal mio partito questa istanza quando viene proposto un emendamento in cui si propone appunto come riforma la non la creazione perché sono già esistenti appunto ma la potenziamento ecco esatto grazie così no perché vogliono essere preciso insomma l'istituzione delle consulte comunali ecco secondo me questo non ha nulla a che vedere con quello che è il decentramento amministrativo ma è semplicemente uno strumento statutario che è già previsto e per cui insomma non ha alcun tipo di attinenza con quello che dovrebbe essere l'oggetto che noi dovremmo secondo me portare avanti ossia la riforma delle circoscrizioni pertanto concludo il mio intervento facendo anche un'osservazione sul modo con cui è stata presentata la delibera di cancellazione delle circoscrizioni perché è stato posto l'attenzione su un particolare aspetto cioè il fatto che i cittadini nel momento in cui hanno un problema possono rivolgersi direttamente all'amministrazione è stata molto chiara la collega Cardina quando appunto ha spiegato le difficoltà perché le difficoltà che poi le persone incontrano nell'accedere insomma a quelli che sono gli organi dirigenti del partito ma secondo me si fa del comune scusate tardi ma quello che a me preme sottolineare è che noi qui non stiamo parlando di solo e semplicemente di risolvere i problemi del cittadino che sono importanti stiamo parlando di uno strumento che dovrebbe consentirgli di condividere quelle che sono le scelte amministrative è uno strumento molto diverso cioè uso un termine spiacevole un conto è risolvere il singolo problema che può essere che può anche degenerare in una pratica di clientelismo è un conto è dire al soggetto guarda tu qui hai uno strumento una cassetta degli attrezzi con cui tu puoi operare e partecipare attivamente alle decisioni della città è una cosa molto diversa pertanto concludo dicendo rinnovando l'appello al rinvio e dicendo che mi dispiace molto se dovesse mi dispiacerebbe molto se dovesse essere scritta una pagina di questo tipo nell'amministrazione della città grazie al consigliere loro consigliere Cabibbo prego grazie presidente ma vista l'ora e visto anche che qui noi parliamo ma alla fine spariamo a salve nel senso che sappiamo tutti che questa sera questa delibera non verrà approvata cercherò di essere il più possibile stringato quindi non entrerò poi tanto nel merito di quello che può essere il ruolo delle circoscrizioni o quello che può essere anche le motivazioni che ci inducono come Forza Italia a dire come sempre abbiamo fatto che le circoscrizioni sono un elemento utile per l'amministrazione comunale di Pordenone rilevo solamente questo per per introdurre il mio ragionamento e cioè che ancora una volta questa amministrazione perde l'occasione per poter in qualche modo e ha perso l'occasione per poter in qualche modo portare avanti delle riforme condivise noi qui siamo stati fermi praticamente per quattro anni e mezzo adesso nell'ultimo semestre che precede le elezioni amministrative stiamo assistendo a tutta una serie di delibere di proposte di riforme di nomine nei vari settori e di puntellamenti di quello che può essere il territorio che e nulla hanno a che fare con una buona amministrazione che non sono pensate che non sono programmate in modo direi completo e che vengono sostanzialmente dettate dalla fretta di chiudere una serie di cose io lo so perché apprezzo sicuramente quella che può essere stato anche l'impegno che l'assessore Mazzer ci ha messo quando ha tentato di trovare una quadra su questo discorso delle circoscrizioni telefonando coinvolgendo dicendo ma vediamo voi come la pensate voi cosa però onestamente cioè si poteva fare qualcosa di più si poteva creare un tavolo si poteva trovare un punto di incontro in cui ciascuno poteva dare un contributo fattivo invece siamo qui con una delibera che poi sentiremo se anche il sindaco ha qualcosa da dire su questa cosa delle circoscrizioni perché ovviamente come sempre il sindaco tace durante i consigli comunali e ogni tanto sarebbe anche bello pensare che cosa ne pensa lui ma vedremo voglio dire è una delibera innanzitutto che ci si è affrettati dalla giunta a dire che è una delibera consigliare proposta dal consiglio che viene dal consiglio allora probabilmente viene dal consiglio perché non c'è una maggioranza perché qui si vuole portare a casa un risultato con le stampelle di qualcun altro noi a queste stampelle non ci stiamo ma non ci stiamo non solo per una motivazione politica che è quella che ho appena detto e cioè che non siete in grado di proporre una riforma organica dell'amministrazione pubblica nel comune di Pordenone ma perché non ci siamo mai stati lo diceva anche il consigliere Pedicini che Forza Italia già nel 2000 aveva presentato all'allora assessore Pagliaro una riforma organica una bozza di 13 pagine in cui dicevamo quali potevano essere i ruoli le modalità operative delle circoscrizioni poi siamo intervenuti nel 2011 nel 2013 da ultimo e alcune cose sono anche state fatte sono state ridotte le circoscrizioni da 6 a 4 i consiglieri delle circoscrizioni non sono più 96 sono 40 è stato ridotto il compenso dei presidenti delle circoscrizioni questo anche per andare incontro a quella che era effettivamente e forse lo è ancora un'esigenza di razionalizzazione però scusatemi io veramente come molti anche altri hanno detto non ho capito perché c'è questa fretta questa ansia di abolire le circoscrizioni come se le circoscrizioni fossero il cancro di questa macchina organizzativa del comune di Pordenone sembra che adesso tutti i mali dipendano dalle circoscrizioni allora ancora una volta ancora una volta una maggioranza che poi è quella del partito democratico ma anche quella della lista civica dell'ex sindaco e vice presidente della regione Bolzonello schizofrenica che parla di principio di sussidiarietà che parla di gestione dei beni comuni dell'importanza della sussidiarietà orizzontale della sussidiarietà verticale e che poi invece che cosa fa va ad abolire uno degli organismi più importanti di vicinanza della pubblica amministrazione rispetto ai cittadini facendo poi che cosa dicendo beh effettivamente forse la soppressione così sic et simpliciter non è proprio corretta potrebbe in qualche modo dare adito a l'idea che noi siamo come Renzi troppo verticistici troppo accentratori perché qui non dimentichiamoci che c'è un disegno ben preciso in questo momento che parte dal livello nazionale che è un disegno accentratore cari amici della Lega che vuol dire togliere la possibilità agli organismi più vicini ai cittadini ai problemi dei cittadini e verticalizzare tutto verso nel nostro caso Trieste e verso nel caso nazionale Roma ma detto questo quale sarebbe l'alternativa questo foglio firmato improvvisato durante una pausa di dieci minuti credo in cui si parla di istituire le consulte comunali che già tra l'altro sono previste dallo statuto e quindi qui non si capirebbe quale sarebbe la novità con un elenco di quattro punti che più che una riforma organica dell'amministrazione pubblica di questo comune sembra la lista della spesa del salumiere un etto di mortadella due etti di prosciutto cotto e tre di prosciutto crudo mi raccomando San Daniele perché che cosa vuol dire che le consulte devono essere apartitiche cosa vuol dire che devono essere elettive ma tra parentesi attenzione non in coincidenza con operazioni operazioni elettorali provinciali comunali allora aveva ragione il consigliere Dalmas prima quando diceva che certe cose scusate non è per supervio cosa però offendono anche l'intelligenza di chi è qui a luna di notte a cercare di fare le cose seriamente scusatemi ma questa delibera e soprattutto questo emendamento per me non è una cosa seria io ringrazio voglio veramente ringraziare il consigliere Passoni perché ha dato a noi consiglieri un'ottima lezione di come si fa opposizione guardate non è una battuta ma so qui guardo la collega Giust quanto anche è difficile esporsi all'interno di un partito strutturato e è vero come il partito democratico per dire no io non ci sto io non sono di questa opinione allora veramente l'appello che è stato fatto anche da ultimo dal collega Matteo Loro potrebbe trovare uno spiraglio nel senso che veramente io credo che qui si può raggiungere un punto di incontro sulla modifica del ruolo che in questo momento hanno le circoscrizioni perché probabilmente è vero che le circoscrizioni in questo momento non stanno svolgendo una funzione per esempio di decentramento amministrativo come ricordava anche il collega Pedicini probabilmente hanno funzionato e funzionano le circoscrizioni che hanno avuto che hanno dei presidenti che in qualche modo si impegnano sul territorio io ho detto che non sarei entrato nel merito però consentitemi ad esempio di ricordare che tanto proprio per fare un esempio la circoscrizione Rorai Capuccini gestisce in modo volontario due biblioteche circoscrizionali in due rioni molto delicati della nostra città come Largo Cervignano e Via Pontinia allora non è solamente la partecipazione democratica la democrazia il principio di sussidiarietà tutte queste belle parole e anche proprio una questione di quale può essere un ruolo rinnovato all'interno della nostra città sia in ambito amministrativo quindi per l'erogazione ad esempio di servizi nei confronti dei cittadini ma anche quello che può essere il ruolo nel territorio sul territorio in aree sensibili di chi rappresenta una risorsa pubblica e che può essere punto di aggregazione fra le scuole i cittadini i centri di aggregazione giovanile le associazioni e quant'altro come ad esempio ha fatto e sta facendo in questi anni la circoscrizione erorai cappuccini così come anche le altre circoscrizioni la sud della centro e quant'altro e torre allora se noi riuscissimo per una volta per una volta a dare veramente il buon esempio ai nostri cittadini ma anche a chi in questa amministrazione per troppo tempo in questi anni è sempre stato sordo alle richieste dell'opposizione se riuscissimo per una sola volta a dire guardate rimandiamo questa decisione proviamo a fare qualcosa insieme nella prossima all'esito della prossima tornata elettorale perché non vogliamo fare riforme demagogiche fine a se stesse io vi ricordo che Udine ha sette circoscrizioni Gorizia ne ha dieci Udine ecco Trieste ne ha sette allora voglio dire mi allora io quello che voglio dire ma guardate a me non me ne importa nulla di quello che fa Udine potrebbero anche averle soppresse tutte sto dicendo che noi non dobbiamo fare delle riforme demagogiche noi dobbiamo pensare a che cosa può essere utile per il comune di Pordenone per tenere i cittadini vicini non alla politica perché non è questo il ruolo delle circoscrizioni ma per tenere i cittadini vicini all'amministrazione e per gestire meglio il territorio perché a me guardate io ho sentito dire ma se uno ha la lampadina rotta vada l'assessore e parla a me questa cosa non è che piaccia molto francamente perché io cittadino se ho diritto di avere un determinato servizio non devo andare a chiedere un favore all'assessore posso però per esempio andare in circoscrizione dove qualcuno che mi ascolta ce l'ho non è detto che sia qualcuno del partito perché spesso le circoscrizioni sappiamo che sono fatte partecipano in circoscrizione persone che possono avere un percorso politico ma anche no che comunque però sono persone in grado di ascoltare e ricordo in questo che tante volte le circoscrizioni approvano dei libere pareri consultivi eccetera a maggioranza assoluta non a maggioranza assoluta ma all'unanimità quindi vuol dire che c'è anche un clima di collaborazione ecco allora se questo lo possiamo fare sarebbe anche bello eventualmente farlo insieme ma farlo in maniera seria e non in questo modo come è stato proposto quindi siccome ho detto che avrei parlato poco ho parlato anche troppo adesso spero vivamente ecco che questo appello a ripensare in modo serio ad una riorganizzazione della amministrazione nel senso di garantire un livello intermedio fra il comune e i singoli cittadini possa appunto trovare in qualche modo un ragionamento serio un ragionamento fatto bene al di là di quelle che possono essere le bandierine politiche che ciascuno tenta di piantare ma che servono a ben poco grazie consigliere consigliere fresco consigliere giusto prego grazie presidente bene io rispondo interpellata dal consigliere loro quindi nel mio duplice ruolo di consigliere e segretaria del PD circolo cittadino in questo caso segretaria del PD la valutazione di un eventuale ritiro dell'emendamento dovrebbe passare attraverso una considerazione su tutto quello che è avvenuto nel nostro coordinamento ovvero io sono fermamente convinta che questo emendamento risponda in tutte le sue parti a quello che è stato dato come mandato dal nostro coordinamento cittadino ai consiglieri per arrivare qui questa sera quindi io credo davvero che la richiesta del consigliere loro non possa essere accolta grazie consigliere giusto consigliere del ben la proposta di delibera sostanzialmente vuole cassare dallo statuto gli organi del decentramento amministrativo domanda è scelta giusta o scelta non giusta diciamo che lo statuto per il tempo che è efficace per come è stato utilizzato la nostra collettività ha un suo equilibrio per cui se noi ne togliamo una parte ne perdiamo l'armonia di quello che è fatto questo regolamento oggi parla delle consulte parla delle circoscrizioni in una sorta di concorrenza per fare migliore l'amministrazione verso le aspettative di cittadini un'altra cosa la modifica di uno statuto è un argomento di molto peso e che interessa tutta la collettività è ragionevole quindi che il destino di uno statuto passi attraverso una proposta che viene fatta in campagna elettorale con degli impegni con delle persone che sottoscrivono e poi una richiesta di parere agli elettori se questo non è stato fatto è ragionevole dire che casomai lo proponiamo quando ci si presenta la prossima volta in modo che ci sia anche una condivisione vissuta ragionata condivisa di un percorso è chiaro che se andiamo a cambiare adesso lo statuto eliminandone un capo forse non siamo nella correttezza dei rapporti politici con il nostro elettorato poi andiamo a esaminare alcune cose di queste intanto sono molto debitore di tanti che sono intervenuti ma in particolare a Vito Palmisano come abbia portato all'attenzione del Consiglio Comunale la concretezza e l'operatività delle circoscrizioni e la capacità anche di far muovere intorno al Consiglio circoscrizionale un volontariato una vita sociale una vita dei quartieri che poi si fondono nelle circoscrizioni io penso che questo sia doverosamente da riconoscere alle circoscrizioni a tutte le nostre circoscrizioni magari qualcuno sarà passato a voti pieni qualcuno sarà passato a voti meno pieni ma nessuna ha avuto il sei politico perché tutte se lo sono guadagnate sul campo e questo mi pare un elemento molto importante che dà senso anche ad un mantenimento di questi organi di decentramento amministrativo ed è nelle cose se io tolgo il decentramento che le cose Andrea diventino accentrate è proprio nelle cose nelle parole che questo accade e io mi meraviglio che ci siano per dire alcune forze politiche che cadano in questa sorta di tranello di aboliamo questo senza magari far finta di accoggersi che si sta facendo l'accentramento preparandomi all'argomento di questa sera sono andato a spulciare cosa era accaduto nell'anno 2011 quando in pratica si è approvato questo regolamento e c'è questa delibera del 7 marzo del 2011 che vede una separazione fra i contenuti di una parte che proponeva l'adeguamento delle circoscrizioni alla nuova legge regionale virgola mantenendole e 17 persone che qua dentro hanno votato contro questa proposta di fare le circoscrizioni ovviamente questi aspetti di diversità di opinioni hanno fatto sì che magari alcune cose non fossero scritte nel programma elettorale e nel programma elettorale era scritto di dare una riforma una ridefinizione non alle circoscrizioni agli organi di decentramento amministrativo che qua da noi chiamiamo circoscrizioni ma il principio era quello di mantenere vivi organi di decentramento per cui questo passaggio di mantenerli vivi ha fatto sì che magari ci fosse stata poca attenzione nel realizzare quello che il regolamento del 2011 diceva ne faccio solo tre esempi che trago dal regolamento quello che abbiamo detto prima approvato nel marzo 2011 intanto c'è l'incipit allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle scelte e decisioni amministrative il territorio di città di Pordenone è suddiviso in circoscrizioni l'attività degli organi rappresentativi della circoscrizione è disciplinata dal presente regolamento eccetera inoltre il secondo comma dice il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del consiglio comunale previo parere o proposta dei consigli circoscrizionali una ragione in più per insistere su quella impostazione iniziale che il loro parere previo parere o proposta debba essere nella discussione che si fa questa sera non prendiamoci in giro nel dire che cassare è più che modificare e siccome io casso non devo pormi il problema di chiedere il parere delle scoscrizioni che voglio tanto asfaltare per usare una parola che è entrata nel linguaggio politico recente per cui questo mi pare sicuramente una non condivisione di interpretazione sulla necessità che questi organi rappresentativi eletti eletti che sono stati proposti da Forza Italia da Vivo Pordenone da IPD all'elettorato di Pordenone nel 2011 e insieme all'elettorato del Consiglio Comunale hanno avuto voti di preferenza un programma un impegno qual era questo impegno che insieme all'organo maggiore Consiglio Comunale Giunta Sindaco mettessero in pratica i programmi elettorali questo era il fatto che fossero appartenenti a quelle espressioni non solo dei partiti tradizionali ma anche di lista civica ha creato un tessuto importante per questo cos'è che avrebbero dovuto fare per esempio queste circoscrizioni se il loro regolamento fosse stato adottato bene allora vediamo concretamente l'articolo 22 in cosa concretizzava questo decentramento deliberativo delegato a loro per esempio servizi sociali e loro localizzazione lavori di manutenzione ordinaria lavori pubblici con particolare riguardo a quel di realizzarsi con un'onio di urbanizzazione e controllo nell'esecuzione anche controllo nell'esecuzione perché il buon padre di famiglia non è solo bastiano contrario ma vede che le cose che devono essere fatte lì mentre tutti si hanno fatto bene quindi elementi importanti biblioteche e altre attività culturali e sportive traffico e viabilità vigilanza circoscrizionale giardini pubblici e spazi verdi chiediamoci questa amministrazione questo consiglio comunale questa giunta ha realizzato questi indirizzi regolamentari approvati nel 2011 e che noi abbiamo avuto in carico per essere fatto domanda la risposta ognuno la sa però vediamo anche come queste circoscrizioni potevano avvicinarsi al consiglio comunale perché se fra i miei interlocutori vedo anche circoscrizioni lo sento parte sussidiaria contivisa cioè concorrente in senso positivo per fare la migliore amministrazione allora è bellissimo quello che era previsto dall'articolo 36 dove dice rapporti con il consiglio comunale il consiglio comunale può invitare il presidente o suo delegato di una o più circoscrizioni a partecipare alle sedute con diritto di parola è assicurata la presenza delle circoscrizioni in occasione della discussione del bilancio comunale dove il presidente o suo delegato svolgerà una sintetica relazione sui problemi e le proposte di circoscrizioni in merito all'attività amministrativa con un intervento non superiore a 15 minuti questo è quello che dice l'articolo 36 del vigente regolamento chiediamoci quante volte abbiamo visto il presidente delle circoscrizioni durante il bilancio per essere ascoltato mai domanda perché non hanno fatto un blitz e si sono presentati domanda perché in un'organizzazione spetta all'amministrazione più elevata di adempiere a questi obblighi regolamentari questo è per dire che non possiamo fare critiche al funzionamento delle circoscrizioni comunque positivo perché noi non siamo stati senza peccato cioè questa amministrazione tutti non ha fatto il massimo perché questi organi di decentramento fossero chiamati a svolgere i loro compiti ma io aggiungo anche i loro diritti perché ai fin di conti erano persone che sono state proposte sono state votate hanno un loro funzionamento fanno parte degli organi dell'amministrazione comunale a pre-decentramento per cui si doveva assolutamente concentrarli mi fa pena considerare che questo non fatto sia figlio della legge che ha creato le lezioni dirette di sindaci siamo sufficientemente adulti e nonostante l'ora tarda non siamo imbecilli poi mi viene proposto una bozza di emendamento migliorativo e al numero 6 perché probabilmente nel primo 1,2,3,4 l'amministrazione ha fatto alcune integrazioni forse forse manca un riferimento sull'egge elettorale circa le competenze dei presenti dei commissioni per autenticarle firme ma forse tante altre cose così che sono meno importanti ma questo dice il PD riconosce se stesso la sua identità almeno questo così è quello che mi pare di aver capito con alcune scelte importanti allora queste scelte importanti mi dicono che la giunta si impegna a presentare entro la fine io direi che il consiglio comunale impegna la giunta visto che questa è una delibera consigliare ma l'italiano è optional come è optional anche la corretta interpretazione dei regolamenti e allora proposte delle consulte comunali che sono già nello statuto dello statuto consigliare no non è lo statuto consigliare è lo statuto comunale e chi scrive questo fa un lapsus cosa vede non vede il comune in questa attività dopodiché queste consulte dovranno tenersi a rappresentare i territori cittadini dal punto di vista loro omogeneità storico-geografica domanda se questa rappresentatività legata al decentramento lo statuto vigente la riconosce nelle circoscrizioni domanda perché voglio per dire far passare terminologie ambigue per recuperare quello che è casso porre particolare attenzione ai bisogni sociali rilevati e a quelli emergenti espressioni che sono inadatte per una proposizione perché oltre ai bisogni sociali io lavorerei anche per le proposte sociali cioè non solamente riparare il danno intervenire quando c'è il bisogno ma devo essere proattivo devo fare aggregazione sociale devo fare prevenzione sociale questo è quello che mi aspetto da una giunta come quella di Pordenone e a quegli emergenti per quello che deve essere fatto poi alla fine arriviamo quasi alla necessità di verificare se si conosce quello che succede sul mondo amministrativo mi si dice di non fare le elezioni in coincidenza con operazioni elettorali provinciali quali sono? voi sapete che le elezioni provinciali sono state abolite? ma forse questo è stato scritto 3-4 giorni fa mancava l'ultima informazione e alla fine l'altro aspetto è quello di essere a partiti che cosa sono i partiti? sono libere associazioni di persone che si mettono insieme con una finalità quello di gestire la cosa pubblica l'interesse collettivo per realizzare i dettami costituzionali l'articolo 46 della costituzione dice esattamente questo cioè tutti i cittadini hanno diritto di lasciarsi liberamente in partiti per concorrere con un metodo democratico a determinare la politica nazionale ma nazionale non è solamente Roma e basta nazione è ogni piccolo granello di sabbia che è nella nostra Italia vuol dire tutti gli aspetti della partecipazione se io appartenessi a un partito sarei fiero di partecipare ad una associazione come questa perché devo dire che vado a fare iniziative purché siano apartitiche di cosa mi vergogno devo essere orgoglioso di far parte di questa associazione che arriva ma perché sono anche importante come partito perché da Roma a Rondover da Roma a Villanova da Roma a Torre porto avanti quelle iniziative quel pensare diritti civili partecipazione onestà coerenza cioè tutti quegli elementi forti per cui io vorrei che fossero partitiche perché vuol dire so anche da prima quali sono i puoi orientamenti non mi piacciono le aggregazioni just for fun e quando che passa un rimorchio tutti sopra non sono quelli gli elementi importanti che devono essere fatti allora io mi meraviglio ma non faccio parte di nessun partito mi meraviglio che venga proposto da un partito ma forse solo partito speriamo che anche ritorni di dare delle rappresentazioni è ciò che più dà valore alla partecipazione dei cittadini lavorare dentro i partiti indipendentemente da come si chiamano sempre che uno non mi dica io sono un movimento di grande pregio venite da me che ho 5 stelle che non sono un partito no allora dai diamoci dei contenuti alle cose che abbiamo fatto e anch'io penso che un ripensamento delle proposte migliorative possibili perché cambia anche il tempo e cambiano le norme dentro gli organi del decentramento amministrativo possa essere qualcosa che ci consente come intero consiglio comunale di chiudere bene questo nostro percorso cosa voglio dire anche spesso gli ambientalisti gli ambientalisti dicono che noi abbiamo dovere di lasciare i nostri figli la terra almeno come sono lasciati i nostri padri se possibile meglio allora anche noi che abbiamo fatto un'esperienza amministrativa abbiamo ricevuto nel 2011 uno statuto del comune del comune di Pordenone con la sua storia con la sua identità con la sua prospettiva anche all'interno delle UTI o noi possiamo ancora elaborare elaborare dentro questo statuto delle migliorie per la salio meglio degli altri magari migliorando anche il funzionamento degli organi di partecipazione magari dopo aver sperimentato quello che già il regolamento diceva in modo che si vada a migliorare quello che deve essere fatto quindi io penso che noi abbiamo tutte le ragioni serie semplici corrette per lavorare sul miglioramento degli organi del decentramento dobbiamo essere coerenti e leali fino in fondo di chiedere quello che pensano non solo perché il regolamento lo prevede ma perché sentiamo dentro di noi di fare un ulteriore passo avanti insieme a queste persone che hanno chiesto e ottenuto De Bortoli anche perché hanno lavorato al contatto della base un mandato di realizzazione di un programma del quale quello del sindaco era una sintesi vogliamo fare qualcosa di diverso proponiamolo facciamolo proporre le varie qualità lo proporranno fra qualche mese alla popolazione e la popolazione aderirà eventualmente anche al cassare questi elementi di partecipazione ma io sono proprio sicuro che se al cittadino gli propongo guarda che qui puoi essere protagonista cittadino della tua città attivo per dire fiero di essere pordenonese anche tu puoi fare qualcosa per la tua città i 40 del consiglio comunale e i 40 dei quartieri lavoreranno con molto impegno per queste prospettive future e anche loro di prendere un bel statuto da noi e lasciarlo a quelli fra 5 anni ancora migliore grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente arrivo alla fine a parlare di questa delibera allora quando mi è stata sottoposta per la firma mi sono riservato di di pensarci su perché la prima parola che ho trovato scritta era la parola soppressione e non ho trovato alternative alla soppressione se noi facciamo un po' di genesi di quello che è accaduto dal 2011 in poi nel marzo del 2011 questo consiglio il precedente consiglio approvava una delibera in cui si modificavano alcuni passaggi riguardanti le circoscrizioni ma in sostanza le circoscrizioni rimanevano arriviamo alla fine di questo mandato e ci ritroviamo con lo stesso problema significa che il problema in qualche maniera esisteva ed esiste allora quando siamo andati a redigere il programma il signor sindaco se lo ricorderà quando abbiamo affrontato specificatamente questo argomento c'è stato un momento in cui ci siamo fermati avevamo posizioni diverse e abbiamo convenuto su una stesura su una dicitura che parlava che si impegnava in qualche modo la successiva tornata amministrativa ad affrontare il problema per un superamento delle circoscrizioni e per introdurre altre forme partecipative io forse mi sto ripetendo perché sono intervenuto più volte su questo argomento in più circostanze non ultima la mozione del maggio 2014 e sono andato a risentirmi la registrazione perché volevo essere sicuro di quello che dicevo che non fosse in contraddizione con quello che sto dicendo anche questa sera in quella specifica circostanza noi approvammo un'intenzione che diceva che saremmo andati ad affrontare e a regolamentare questi passaggi ho chiesto più volte in più circostanze in più occasioni in più incontri che si affrontasse l'argomento non lo si è affrontato non lo si è affrontato e siamo arrivati a questa delibera che vista così come è scritta a parte il cappello introduttivo nella sua parte deliberativa non parla che di soppressione senza nessuna alternativa nel cappello introduttivo dice che si dovrebbe riprendendo la mozione del maggio 2014 che si doveva andare verso un'elaborazione della proposta però in pratica si presenta come una soppressione allora la mia storia personale mi dice che se faccio una cosa o la faccio perché sono convinto di farla oppure la sostituisco con qualcos'altro che ritengo più opportuno io non faccio una critica al fiume perché il fiume da questo punto di vista forse è stato coerente nel senso che ha sempre detto che non ci credeva nelle circoscrizioni è stato coerente e non ci credevano però vedi Franchin è stato coerente nella però non è stato coerente con la presa di posizione fatta a livello di programma perché parlava di un superamento questa questa delibera parla solo di una soppressione capisco che arriva la fine e pertanto arriva la fine bisogna decidere o bianco o nero io siccome sono per il grigio cerco il mescolamento dei colori perché penso che solo da quello viene fuori un percorso che può essere condiviso in seguito a questo si è cominciato a parlare di emendamenti cose che sono state presentate anche qui questa sera però anche quegli emendamenti non mi convincono non ci convincono e di fatti noi non lo non lo voteremo quell'emendamento perché nel momento in cui si fa un passaggio di questo tipo si deve avere anche il coraggio di dire se non riesco a realizzarlo cosa rimane e io non sopprimo una cosa per lasciare il vuoto questo è il punto su cui io non mi trovo d'accordo non posso sopprimere le circoscrizioni per lasciare il vuoto devo creare un qualcosa in cui credo e che penso abbia un percorso realizzativo che possa raccogliere una testimonianza visto che questa sera tutti hanno parlato in qualche modo che le circoscrizioni sono state utili per la vita di questa società di questa città che hanno lasciato il segno che hanno dato una testimonianza che sono stati presenti nel territorio che hanno avvicinato gente che non si poteva altrimenti avvicinare alla pubblica amministrazione eccetera eccetera io non ho bisogno di star qui a fare l'elenco sono stato tre volte in tre tornate amministrative consiglieri del quartiere per cui conosco le dinamiche conosco i problemi conosco le aspettative conosco le risposte i rapporti che ci sono stati con le varie amministrazioni che si sono succedute e posso dire che le cose cambiano a seconda di chi amministra a seconda della sensibilità di coloro i quali amministrano e posso dire che negli anni anche i problemi le esigenze le aspettative sono cambiate all'inizio degli anni 80 quando le circoscrizioni sono nate a metà degli anni 70 prima non elettive e poi elettive ma raccoglievano tutta una serie di istanze che erano presenti nel territorio che erano molto più molto più pratiche molto più dirette molto più legate al settore chiamiamo così dei lavori pubblici e poi si sono andate via via evolvendo raccogliendo istanze invece sempre più legate al mondo del sociale cosa significa questo? significa che la società in qualche modo è cambiata che il rapporto magari per le questioni più pratiche dirette è più facile averlo direttamente con l'amministrazione mentre altri passaggi un po' più nascosti un po' più tra le pieghe dove la relazione con le persone e con coloro i quali sono presenti nel territorio diventa più delicata e più particolare ha bisogno di passaggi più approfonditi allora vedete io penso che se avessimo avuto la pazienza la cortezza la volontà di metterci attorno a un tavolo e discutere in maniera pacata tranquilla o anche animata se vogliamo però dandoci i tempi dandoci gli spazi dandoci gli obiettivi forse saremmo arrivati ad una soluzione maggiormente condivisa noi questa sera arriviamo a questa delibera dove in qualche modo si cerca di trovare una soluzione a breve convengo con il dottor del ben quando dice che il deliberato l'emendamento così come proposto porta in sé una un'errata indicazione adesso non lo trovo più dove dove si dice che la giunta è il consiglio che dà mandato il consiglio comunale la giunta comunale si impegna il consiglio comunale chiede alla giunta di impegnarsi non è la giunta che si impegna perché questa è una delibera di consiglio non è una delibera di giunta per cui questo passaggio va in qualche modo rafforzato e rivisto ma siccome l'emendamento non sono io che lo propongo saranno coloro i quali l'hanno proposto che eventualmente ne decideranno il cambiamento però vedete anche questo emendamento così come è stato proposto che secondo me crea le cornice generale attorno alla quale puoi lavorare per un percorso un percorso che andrebbe condiviso attorno al quale non ci dovrebbe essere solo la giunta ma ci dovrebbero essere anche quei consiglieri che in qualche modo sentono particolarmente il problema anche questo questo emendamento io ho chiesto che venisse in qualche modo integrato venisse integrato con il fatto che se non si arrivava ad una soluzione si mantenesse le circostazioni così come erano era un rafforzativo era un impegno maggiore per poter in questo tempo che ci rimane poter fare un percorso maggiormente condiviso e sentito mi è stato detto che avrei dovuto avere fiducia scusate ma io questa fiducia non mi sento di averla in questo momento ma non per le persone che lo devono interpretare perché non capisco perché devo prendere una cosa così a scatola chiusa e semplicemente perché mi si dice che questo è il percorso la delibera parte con un altro spirito la delibera parte con uno spirito completamente diverso se introduco un emendamento devo avere anche la forza di fare in modo che quell'emendamento sia paritario rispetto alla prima parte della delibera perché non posso avere una parte della delibera forte vincolante e una parte della delibera invece basata su buoni propositi no con le due parti si pareggiano oppure scusatemi ma io non ne faccio parte questo è io vi ho fatto una proposta questa proposta non è stata accolta io rimango nella mia posizione rispetto la coerenza di chi la ha proposta però non mi pare questo un passo un passo avanti ecco mi dispiace perché si perde probabilmente un'occasione non so cosa verrà ci sarà la seconda lettura se ci sarà forse nella seconda lettura verrà presentata la proposta se quella proposta sarà convincente io sono qui per votarla perché ritengo che il percorso delle circoscrizioni debba avere in ogni caso un passaggio rafforzativo e un passaggio anche nuovo perché in effetti sono anche i tempi che solo i paracarri rimangono fermi bisogna anche avere il coraggio ogni tanto di cambiare qualcosa però questo qualcosa deve avere un senso deve avere un significato deve essere partecipato deve essere sentito non deve solo sopprimere e poi lasciare se passasse la delibera solo di soppressione vi immaginate tutte le cose che sono in piedi nei quartieri dalle 13 di giugno a chi andrebbero chi le gestirebbe chiedo al presidente Moretto che è qui presente le sue due biblioteche che sono state in questi anni sempre oggetto di lavoro di volontariato e il presidente in qualche modo ha coordinato questo tipo di lavoro a chi si rivolgerebbero il giorno dopo oppure chiedo le varie iniziative della circoscrizione Sud o di altre circoscrizioni che hanno messo in piedi tutta una serie di situazioni di relazioni di rapporti a chi andrebbero a bussare allora io mi chiedo di fronte a questo io vado molto sul pratico non voglio star qui a fare discorsi di polemiche di partiti di non partiti di decisioni eccetera ma vado sulle cose che vedo pratiche che vedo ogni giorno perché le ho vissute direttamente allora di fronte ad una soppressione di un qualcosa devo avere in mente che il giorno dopo ci deve essere un qualcos'altro magari migliore certamente magari più partecipato certamente magari meno partitico perché su questo io penso che raccogliendo anche alcuni suggerimenti che sono venuti in quell'incontro che è stato fatto in quel di Villanova dove più di qualcuno ha sottolineato questo fatto di partecipare ad un consesso dove ci fosse una lista unica senza differenziazioni di partito dove chi aveva la buona volontà di mettersi in gioco poteva farlo che si presentasse che si autocandidasse quello mi pare una forma partecipativa intelligente mi pare una forma partecipativa dove chiunque può in qualche modo candidarsi a prescindere da fare parte di un partito o di una lista civica perché non possiamo dare anche questa possibilità che un cittadino che non è organizzato possa candidarsi se trova il supporto se trova l'accoglienza può anche far parte altrimenti sono gli altri che lo giudicano esistono in giro per l'Italia tantissime esperienze di consulte di comitati civici di luoghi e di momenti partecipativi che possiamo soltanto anche copiare anche declinare per la nostra città non vedo assolutamente niente di 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 oppositivo di scandalistico perché facciamo perché copiamo qualcosa da qualcun altro se c'è qualcuno che l'ha fatto bene perché non farlo facciamolo ma la cosa che io mi chiedo e chiedo ancora è che di fronte alla soppressione di un organismo non rimaniamo orfani ma riusciamo in qualche modo a traghettare in qualcos'altro e questo per il rispetto soprattutto di coloro i quali in questi anni hanno lavorato in questi organismi hanno creato una relazione hanno creato una situazione che non va lasciata stare a se stessa ma va in qualche modo raccolta e rilanciata e con questi propositi che noi ci accostiamo a questa delibera senza nessuna pregiudiziale senza nessuna vena polemica ma soltanto dicendo che le cose vanno fatte ma vanno fatte in maniera completa da un lato si decide di superare un organismo ma nel contempo se ne deve creare un altro che abbia gambe per stare in piedi che abbia volontà per andare avanti e soltanto in questa maniera noi potremmo essere in qualche modo partecipi grazie grazie consigliere Freschi ma lei vuole adesso in sede di secondo intervento va bene allora può proseguire sono rimasti esattamente 15 minuti ma no esatto vada vada ma no ma sarò no 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 perché avevo interrotto il consigliere ai 15 minuti mentre sarò decisamente più breve perché volevo proprio terminare il ragionamento che avevo iniziato a fare prima e dare un paio di delucidazioni che forse almeno una sicura perché prima ho sentito l'intervento del collega Palmisano dove mi attribuiva un cambio di decisione un cambio di rotta che non c'è mai stato da parte mia perché io l'altra volta ho votato per riformare le circoscrizioni non per supprimerle e stavolta non ho assolutamente firmato la delibera quindi non so da dove tu abbia preso la convinzione che io abbia cambiato orientamento ma gli atti gli atti dicono giusto il contrario quindi forse hai letto male forse ti sei ti sei sbagliato quindi ti volevo solo precisare questo credo che il mio primo intervento che è stato il primo della serata non possa far sorgere dubbio alcuno su quella che è la mia intenzione anzi ecco questa è una precisazione che ci tenevo a lasciare perché se uno ha sentito l'intervento del collega sembrava che io qua avessi avuto un cambio di direzione un cambio di rotta quindi su questa è una precisazione che tenevo a fare no io volevo concludere il ragionamento di prima quando ho detto che qua forse c'è un errore forse di fondo qua sembra che qualcosa stia funzionando poco bene l'amministrazione non ha fatto quello che doveva fare che si era impegnata a fare che aveva avuto mandato di fare e quindi la soluzione qual è cancelliamola no non è così signori perché se c'è qualcosa che va fatto di fronte all'inerzia o al fare male o al non fare di qualcuno si reagisce si reagisce cambiando dicendo siamo convinti che sia uno strumento che serve che avvicina che serve da palestra per chi si vuole avvicinare alla vita politica per chi vuole mettersi a servizio degli altri credo che questo sia un diciamo un filo conduttore che è passato in tutti gli interventi anche negli interventi di quelli che sono a favore della soppressione la stessa delibera che viene proposta dal dal fiume da parte del PD va in questo senso perché sono loro stessi che dicono signori guardate che dobbiamo vogliamo abolire il decentramento però vogliamo rifare il decentramento io prima nel primo intervento ho sottolineato l'emendamento 6 che sembra scritto veramente da Gianni Pinotto perché qua si dice tutto il contrario di tutto ma è l'utile che qualcuno scuote la testa ci pensavo prima quando ho scritto l'emendamento quando ci ha messo la firma sotto è una cosa che è veramente inguardabile illegibile poi una contraddizione in termini perché richiama la delibera l'ho fatto prima il riferimento ai costi richiama la delibera dicendo dobbiamo risparmiare e poi cosa fa va a dire devono essere elettive come ho detto prima però attenzione anche in giornate diverse quindi vuoi risparmiare però le fai in altre giornate perché lo richiama la legge però giustamente almeno non sta a dirlo la partitica poi si parla di democrazia l'intervento del proponente ci ha detto la democrazia è la base di tutto però devono essere dei partiti devono essere solo dei cittadini quindi io ritengo che ci sia proprio una confusione una confusione proprio alla base di chi propone questa delibera perché sembra e lo ripeto sembra voler far contento più una parte dell'opinione pubblica più per il problema dei costi che credere veramente in questa delibera mi sembra quasi la questione dell'abolizione delle province aboliamo la provincia se ricorda la discussione sulle uti Assessore Mazzer no dobbiamo abolire la provincia dobbiamo fare una uti unica PD e Fiume sì uti unica poi Trieste gli fa Marameo tornano qua no dobbiamo fare 5 uti perché così risparmiamo quali sono i risparmi lei stessa cosa ci ha detto quella sera non ve li so dire immagino ci siano qua siamo alla stessa cosa dobbiamo abolire il decentramento via tutto che schifo perché ci costano troppo 31 euro ogni consigliere 31 euro avete fatto il conto di cosa stiamo parlando 31 euro virgola 20 a consigliere ammesso che siano tutti presenti sono 312 euro a seduta di circoscrizione ma di cosa stiamo parlando e poi dopo una confusione totale ecco io è là che credo ci sia la pochezza di questa delibera è in questa confusione vogliono abolire qualcosa e poi con l'emendamento 6 ci chiedono di reintrodurla usando uno strumento che c'è già all'interno del nostro statuto allora siete contro il decentramento allora si abolisce non mi vai a dire aboliamo e rimettiamo con un altro nome aboliamo la provincia e rimettiamo le uti perché così si continua a prendere in giro la gente io veramente mi sembra di capire di non capire la razza di questa cosa poi ho sentito prima e così ho concluso diciamo la parte del mio intervento di prima adesso uso una parte del tempo ma qualche secondo per due riflessioni prima sentivo il collega Passoni che si augurava che nella prossima lettura da qui alla prossima lettura ci sia qualcuno che cambi idea Passoni no io non credo che ti do mi auguro che succeda Passoni mi auguro che succeda però non credo al massimo si potrà essere qualcuno che farà i conti con la propria coscienza e deciderà di non venire non verrà a votare quella sera avrà un mal di pancia tremendo ma io non credo che qualcuno cambi idea ma sai perché non lo credo perché non lo credo perché quello che stanno votando adesso che la maggioranza voterà ma non tanto quelli del fiume perché qualcuno gliel'ha riconosciuto prima il fiume freschi gliel'ha riconosciuto il collega freschi il fiume l'ho detto anche io nel primo intervento non ha mai presentato i propri candidati in circoscrizione non ha neanche mai fatto niente di concreto per abolirle l'ho detto prima nel primo intervento però è il PD è il PD che continua a tenere un atteggiamento un divago è il PD Palmisano c'è qualcuno del PD in quei nomi che hai fatto che l'altra volta ha votato in una maniera adesso cambia idea non ero io allora allora sì che ci sarà qualcuno che farà i conti con la propria coscienza se andrà conto della porcata che va a votare stasera no mi dispiace è una porcata perché uno che mi dice abolisco la circoscrizione però ti faccio la consulta però deve essere deve essere elettiva però a partitica sta veramente andando fuori perdendo la bussola quindi per me è una porcata scusate e quindi ci sarà qualcuno che farà i conti con la propria coscienza si guarderà in faccia mi auguro e dirà ma veramente ho votato sta cosa ma di cosa sto parlando ecco io forse su quello posso credere che ci sarà qualcuno che cambi idea il parere la questione del parere l'ha ricordata benissimo il dottor Delben prima specialista in queste cose io non posso prendere il segretario mi dispiace perché perché la stimo però viene meno viene meno un po' di fiducia nel momento in cui vedo che c'è e qua torniamo al discorso sul perché una delibera dell'amministrazione una difesa spada tratta di qualcosa che non si può difendere perché se se si parla di un regolamento che oggi c'è non si può dire un domani dovrete essere aboliti quindi quel regolamento non ci sarà più io non ti ho chiesto un domani io ti chiedo oggi oggi è previsto il parere del regolamento sì è previsto allora lei oggi mi deve rispondere per le modifiche per le modifiche lei mi deve dire se oggi è previsto se oggi è previsto quel regolamento lei me lo deve lei me lo deve mettere agli atti lei non mi può dire non mi può venire a rispondere no perché tanto io devo andare a chiedere a lui se vuole essere cancellato allora non conta è un'altra partita quella il regolamento lei deve chiedere o deve mettere agli atti dopo di che ne riparliamo e io credo che qua sia un punto di debolezza e lo dico ai colleghi che andranno a votare questa delibera a favore perché il mio non sarà un voto a favore quindi non è una cosa che mi riguarda io invito i colleghi a riflettere bene su questo punto perché qua il dottor De Ben ha preannunciato non so se lo farà non lo farà quello lo vedrà lui però chi voterà questa delibera rischierà di esporre l'amministrazione dei costi di cui dovrà un domani forse rendere conto ma più che altro anche costi verso i cittadini a prescindere da quello che può essere la soccombenza e la spesa collegata ecco io ho finito non voglio tediare perché ho preso anche fin troppo tempo io credo che il mio quello che volevo dire di averlo detto in maniera chiara invito veramente tutti a pensarci bene prima di arrendersi perché non credo che sia un modo di dare risposta ai nostri concittadini dicendo non siamo stati in grado di proporre una rivisitazione delle circoscrizioni in maniera in maniera più piena darle un ruolo pieno perché questo era lo scopo di quella modifica che è stata fatta qualcuno ha ricordato le altre è giusto guardare altrove se c'è se da altrove possiamo trovare degli stimoli positivi io quello che chiedo però è il non volersi incapponire in qualcosa cioè prendere qualcosa come il male assoluto priva di motivazioni senza motivazioni concrete e poi andarmelo a riproporre ecco io questo dico assolutamente no grazie grazie consigliere bene dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo secondo intervento nessun iscritto consigliere del santo ragazzi sono le due meno cinque io ho fatto volutamente secondo intervento per limitarmi autolimitarmi il tempo quindi sarò sicuramente più breve di molti di quelli che mi hanno preceduto ricordo che qualche mese fa in occasione del tour che l'assessore Panuntin aveva fatto per le varie città della regione rappresentando il suo disegno che poi è diventato norma regionale dell'Euti arrivò ovviamente in quella di Pordenone e ricordo anche l'intervento immediatamente successivo del nostro bene amato almeno per quanto mi riguarda vice presidente Sergio Bongionello che disse facciamo però attenzione perché nel momento in cui noi creiamo una nuova istituzione non ce la togliamo più di mezzo anche se fra sei giorni o sei mesi ci accorgiamo che abbiamo sbagliato noi italiani siamo bravissimi in questo siamo bravissimi a creare cadreghe poltrone poltroncine strapuntini e predellini anche ultimamente servono sempre per consentire la visibilità più che alla gestione di un potere perché non stiamo parlando di gestire il potere nel momento in cui parliamo delle circoscrizioni non siamo certamente siamo italiani non siamo certamente come per esempio fatto successo molto recente in Francia non siamo certamente come i francesi che d'amblè come dicono loro e senza che nessuno si sia strappato le vesti da 23 regioni sono passate a 12 ragazzi la Francia ha 10 milioni di abitanti in più dell'Italia ha un territorio fisico che è più del doppio del territorio italiano e d'amblè hanno cacciato fuori dalle scatole 11 regioni noi grazie Giuseppe le abbiamo moltiplicate abbiamo organismi regionali vedi non so la valle d'Aosta con 240 mila no 190 mila abitanti quanti sono i consiglieri regionali della valle d'Aosta che guarda caso coincidono con la provincia ma c'hanno pure la provincia e i valdostani sono bravissimi è incredibile hanno tanto da fare che sono 190 mila abitanti hanno il consiglio regionale da 30 consiglieri regionali hanno il consiglio provinciale e cos'altro hanno bisogno di fare le circoscrizioni forse per gestirla cioè allora io non voglio togliere nulla c'ho qui il presidente della mia circoscrizione a chi dà il proprio tempo a chi dà la propria disponibilità ma questo è un atteggiamento da volontariato non è un atteggiamento da istituzioni se la circoscrizione sud viene portata spesso e volentieri come esempio è perché c'è qualcuno lì che si dedica vogliamo fare qualche altro esempio mi astengo perché è sempre gestita da qualcuno del mio partito quindi lascio perdere perché i panni sporchi si dice si lavano in casa allora voglio dire in quella circostanza quando un mese fa un mese e mezzo fa la circoscrizione sud si fece promotrice di un incontro molto affollato qui parteciparono molte persone ben al di là dei residenti della circoscrizione sud c'ero anch'io ma c'erano molti dei presenti i presidenti dei consigli circoscrizionali chiedo conferma al presidente qui presente hanno tutti dichiarato che le loro decisioni vengono prese all'unanimità portando questo unanimismo come elemento positivo di un modo di lavorare allora io mi domando ma che impermo presidente se no Gianelli è andato via a lui avrebbe dato il consenso o me no che cavolo servono i partiti in organismi che hanno hanno un'attività tipica l'ho già detto del volontariato e non hanno ruolo decisionale allora non siamo per cortesia non ti ho interrotto prima cosa servono i partiti dentro le circoscrizioni scusate forse ho tagliato un pezzetto allora volevo anche ricordarvi una questione correva l'anno 1974 io ero un ragazzino poco più con le braghe corte 1974 quando a Pordenone furono istituite in maniera informale perché non esisteva una legge che le regolamentava i comitati di quartiere a Pordenone erano 14 ed erano composti da 7 consiglieri ok bene certo dei partiti perché ma dall'epoca ragazzi miei 7 consiglieri ah scusate una piccola battuta da rompi balle me lo lasci dire avevamo una lista extra ultra perché eravamo ultra sinistri facemmo neri il PC a cui dimezzano i voti e facemmo neri la DC a cui dimezzano i voti mille persone andarono a votare nel quartiere Capuccini nel quale residevo e risiedo ancora mille persone e prendemmo il 37% dei voti ma questo lo dico perché l'altro giorno in sede di discussione scusi vice sindaco Mazzar lei ci aveva fornito un dato nel nostro incontro quanti sono i partecipanti medi alle consultazioni circoscrizionali in Italia che non coincidono con le votazioni quando non coincido con le votazioni del comune 7% allora se il 7% lo consideriamo rappresentativo della democrazia perché qui l'abbiamo sprecata questa parola questa sera abbiamo abusato della parola allora il 7% degli italiani mediamente va a votare per le circoscrizioni in Italia e questo vogliamo chiamarla e dire che questo è un grande momento di espressione democratica beh io preferirei qualcosa di meglio francamente ma se c'è questa grande necessità e sensibilità e questa grande voglia di partecipazione io non mi limito ti stavo dicendo nel 1974 mille persone andarono a votare nel quartiere Capucini che faceva 3500 abitanti ok allora vorrei capire oggi quanti di quelli residenti attuali andrebbero a votare per le circoscrizioni perché all'epoca erano una necessità un'esigenza un bisogno del basso tra te che il comune approvò le circoscrizioni prima che ci fosse la legge nazionale due anni prima che ci fosse la legge nazionale perché sulla spinta del 68 e post 68 ma giustamente c'era un'esigenza e una richiesta però vorrei dirvi anche una cosa il mondo cambia e cambia ad una velocità che noi siamo ancora qui a parlare di cose che abbiamo fatto e messo in piedi 50 anni fa la domanda è servono ancora? gli schemi e le modalità di intervento dell'epoca sono quelli di oggi? bene meno male che qualcuno ogni tanto pensa anche a modificarla perché secondo me c'è da fare qualche passo nel 1974 io lavoravo in Danussi e siccome erano junior con i pantaloncini corti nel mio mestiere al marketing mi hanno dato a gestire i marchi minori come si fa con tutti gli junior gestivo il marchio Zopas ma non per gli elettromestici ma per il settore idrotermosanitario sapete cosa faceva la Zopas nel 74? le vasche da bagno in ghisa smaltate è cambiato il mondo il mondo e noi siamo ancora qui a pensare che e non voglio e attenzione io sto solo risolettendo ma secondo me forse abbiamo bisogno di fare un passo avanti un passo avanti non vuol dire buttare giù tutto quello che abbiamo costruito vuol dire che forse all'epoca usavano che ne so per fare le case determinati materiali oggi credo che chi fa una casa nuova Gianelli se n'è andato usa materiali e modalità completamente diverse non capisco perché la struttura organizzativa della società deve essere inamovibile io vi invito a riflettere sulla questione grazie grazie nessun altro iscritto bene dichiaro chiuso il secondo intervento chiedo se qualche proponente vuole come di prassi o se l'amministrazione vuole intervenire se non andiamo alle dichiarazioni di voto bene prego do la parola all'amministrazione se vuole intervenire chi è che parla? date la parola alla sessione Mazza grazie sì sono le due quindi cerchiamo di non farla ancora lunghissima però due cose da dire bisogna guardate perché affrontiamo un argomento? perché c'è un problema da risolvere o perché ci piace l'architettura istituzionale e vogliamo plasmarla secondo delle nostre esigenze? noi abbiamo io ho passato in questa amministrazione dieci anni ce n'erano altri cinque prima e quello che ho visto è che uno dei patti che hanno legato l'amministrazione alla comunità è determinato anche da che tipo di interventi noi facevamo per la comunità e c'è un legame che è stato in qualche maniera che si è concretizzato per cementificare anche questo valore di comunità che riguarda due aspetti importanti uno è quello dei servizi sociali aiutare chi non ce la fa il secondo è garantire a tutto quel humus di volontariato sociale sportivo culturale che ci ha permesso di tenere in qualche maniera un legame fra chi amministra e chi la vive la comunità direttamente in questi cinque anni io da due anni e mezzo perché da due anni e mezzo soprattutto faccio bilancio guardate che il trend per continuare a mantenere standard di aiuto e di sussistenza decorosa per i nostri concittadini è una curva che cresce e che crescerà ancora io non credo che domani la crisi passerà che si tornerà a lavorare che ci sarà un aumento delle assunzioni in maniera così repentina io credo che la crisi non la superiamo domani mattina ferma e non credo neanche che noi possiamo recuperare le risorse per garantire quello che abbiamo garantito sempre in questi cinque anni solo con razionalizzazioni ottimizzazioni risparmi da altre parti per alimentare quel 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 bisogno sociale che c'era che ci permetteva poi di essere e di mantenere comunità come abbiamo sempre fatto dei grandi sacrifici anche per mantenere tutto ciò che il volontariato poi ci ritorna alla comunità e sono stati due elementi che non abbiamo mai inteso far venire meno a prezzo di grandi sacrifici e di riorganizzazioni e di sinergie e di ottimizzazioni che abbiamo fatto per altre cose non ultima non ultima la casa di riposo cioè mettere insieme due strutture non l'abbiamo fatto perché ci piaceva l'abbiamo fatto perché probabilmente produce dei risultati e io credo che la prossima amministrazione qualunque essa sia questo tema se lo dovrà porre e lo potrà fare in alto perché è vero che le UTI sono ancora un'utopia ma è anche vero che continuare così non funziona più e organizzare le amministrazioni i propri servizi anche in termini di economia di scala è un obbligo per il futuro se vogliamo continuare a erogare servizi a parità di risorse perché non ce ne saranno di più a meno che uno non dica beh le chiediamo ai nostri concittadini cioè aumentriamo la pressione fiscale anche questo credo che sia una proposta che rompe il legame che abbiamo con la comunità quindi sussidiarità verso l'alto la dobbiamo fare le UTI ci possono aiutare non lo so se non ci saranno le UTI qualcosa bisogna fare ma è un tema da svolgere ma bisogna farla anche verso il basso e se noi vogliamo che ci sia un patto che continui bisogna chiedere al volontariato alle associazioni a tutti gli operatori che stanno sul territorio di utilizzare le opportunità da un l'altro e metterle in rete con i bisogni dall'altro per fare in maniera che questi producano dei risultati che ci consentano di con le stesse risorse perché non aumenteranno di mantenere lo standard che abbiamo sempre mantenuto io credo che questa sia la sfida del futuro qual è lo strumento più efficace e questa è la domanda sindaco sarà breve vista l'ora colgo sia lo spunto di Renzo Mazzer che di Sandro del Santo che alla fine ha come filo conduttore è quello del come dire tener conto di come i tempi si sono evoluti delle esigenze che adesso oggi abbiamo lo dico in modo molto piatto il superamento delle circoscrizioni passa attraverso la loro chiusura il punto di garantire una vera partecipazione che sarà sempre più e alla fine soffriamo della mancanza di partecipazione non possiamo dire che oggi lo strumento delle circoscrizioni abbia garantito un mantenimento un aumento della partecipazione delle persone è un dato di fatto l'emendamento che è stato presentato va nella via di cercare perché dobbiamo attualizzare quello che c'è scritto nel nostro regolamento comunale nel nostro statuto comunale di usare meglio quelle che sono le consulte di quartiere noi non possiamo dire che in giro per l'Italia esistono degli esempi è vero ma dobbiamo rendercelo proprio quindi il vero mandato che questo consiglio dà alla giunta è quello di trovare la formula più adatta a noi per far sì che gli sforzi proprio dei signori che abbiamo citato cioè di quelli che in modo assolutamente volontaristico e cui bisogna dare atto hanno espresso in alcune delle nostre circoscrizioni delle buone prassi diventino alla fine non solo elementi volontaristici ma elementi che consentono del tempo di mantenere e aumentare la partecipazione delle persone questo è il tentativo che credo che sia stato alla base della discussione di questa sera e il motivo per cui siamo qui a discutere di questa delibera e personalmente sono convinto che questa è la direzione giusta grazie signor sindaco passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Piccinato prego grazie presidente rubo pochissimo tempo per presentare l'emendamento che ho proposto e poi farò una brevissima considerazione comunque il mio emendamento sostanzialmente vuole andare appunto a colmare quella che era uno dei problemi che appunto diventavano esigenza che è quello appunto della cosiddetta vicinanza insomma ai quartieri io credo che oggi come oggi non sia un problema di riuscire a contattare l'amministrazione o gli amministratori per andare a segnalare quelli che sono i problemi abbiamo i cellulari l'informatica i consiglieri comunali sul territorio la giunta gli organi di stampa insomma mezzi ce ne sono veramente infiniti per andare a segnalare dopo che uno faccia che l'amministrazione faccia non faccia questo è un altro discorso ma credo che quel tipo di cosa sia abbastanza superata io personalmente nonostante gli ottimi interventi che anche qualche consigliere di circoscrizione il presidente ha fatto sul territorio non ho visto questa grande partecipazione popolare nelle riunioni di circoscrizione ci sono state molte volte ma non ho notato questo entusiasmo questa partecipazione non credo che questo tipo di forma sia un veicolo importante per avere una partecipazione credo però che si possa andare a migliorare come partecipazione anche da parte di avvicinare i cittadini e i quartieri con l'emendamento che propongo cioè quello di rendere una volta che siano state soppresse a circoscrizioni in un consiglio comunale itinerante che qualche volta vada nei quartieri e lo faccia lì il consiglio comunale pre o post consiglio che ci sia magari anche eventualmente uno spazio per poter ascoltare i cittadini e quindi insomma essere attrattivi nei confronti di questi cittadini che magari si tratta anche si dibatte dei loro problemi delle loro questioni con i soldi poi risparmiati dalle circoscrizioni dai dipendenti comunali che si occupano delle circoscrizioni o anche del risparmio eventuale sulle sedi o altre gestioni insomma andranno poi eventualmente dirottati per quanto riguarda la sicurezza più in generale dei cittadini faccio poi un piccolo inciso sulla cosa sul tema l'emendamento appunto è quello che è la linea della Lega in sostanza quindi se verrà approvato voterò a favore sia della delibera questa sera come verrà presentata che nella prossima volta e credo che si possa fare qualcosa di concreto insomma anche avendo questo risparmio per portarlo in una direzione più fruttuosa insomma piuttosto di avere un organismo che pur con tutta la buona volontà non ha potere quindi non incide concretamente nelle decisioni del territorio un organo che non ha potere non è decentramento quindi chi parla di decentramento non ha capito cos'è il decentramento perché un organo che non ha potere non decentra niente quindi il decentramento sarebbe dare completo potere esclusivo a degli organi anche circoscrizionali ma diversi da quelli del consiglio comunale cosa che oggi non è e nessuno ha proposto quindi sicuramente si va nell'ottica responsabile di un miglioramento di quello che può essere efficace la macchina amministrativa un peso in meno per i cittadini e sicuramente quella che può essere una migliore e maggiore efficacia di spesa dell'ente pubblico grazie grazie consigliere consigliere Colaoni prego allora intanto scontato sì del gruppo del fiume alla delibera che stiamo per approvare e volevo approfittare di questa dichiarazione di voto per fare una brevissima riflessione vista l'ora tra l'altro io credo che sia stato come era in parte prevedibile un dialogo tra sordi e da una parte chi dice che le circoscrizioni debbano restare e anche anzi debbano essere potenziate chi invece come noi dice che devono essere superate soppresse usiamo il termine che vogliamo e per cercare un nuovo tipo di approccio nella comunicazione tra amministrazione e quartieri e da quartieri e amministrazione perché questa è la sostanza del problema allora il perché delle circoscrizioni e della soppressione o superamento delle circoscrizioni nasce in fondo e ha fatto l'analisi correttamente secondo me e il capogruppo Tomasello nel momento in cui nel 93 si approva la nuova legge che regola i rapporti tra giunta consiglio e in cascata circoscrizioni nel momento in cui si potenza il potere del sindaco in particolare e della sua giunta noi ci siamo accorti concretamente l'abbiamo vissuto io non ho vissuto la politica di prima ma da quello che mi raccontavano è evidente che è così dove il centro decisionale non era neppure il sindaco non era neppure la giunta era effettivamente il consiglio comunale siamo passati ad una fase in cui il sindaco decide assieme la giunta il consiglio comunale la maggioranza tendenzialmente alza la mano approvando e la minoranza si oppone salvo casi particolari allora dico il problema delle circoscrizioni è nato lì nel senso che se si è svuotato come si è svuotato a mio avviso e su questo non apriamo sicuramente il dibattito questa sera il consiglio comunale perché di questo si tratta io sono convintissimo di questo è evidente che anche il ruolo delle circoscrizioni è andato in crisi rispetto a prima quindi il problema non nasce dal fatto che noi come dire vogliamo cosa ripotenziamo cosa deleghiamo che servizi diamo quando c'è stato già un accentramento dal 93 in poi che si è consolidato via via nel tempo e nessuno tornerebbe indietro questa è la realtà allora noi dobbiamo prendere atto di questo nel momento in cui si propone di decentrare i servizi faccio fatica a capire che cosa si decentra nel momento in cui le decisioni si sono accentrate nelle mani del sindaco e della giunta questo è il problema quindi noi dobbiamo affrontare un altro problema per quello è stato un dialogo tra sordi l'altro problema è come noi dialoghiamo con i quartieri come i quartieri ci dicono qualcosa di importante certo noi possiamo anche usare le circoscrizioni ma dico oggi uno vuole dialogare con i quartieri vuole capire cosa succede anche altri strumenti per farlo io credo questa pratica è abbastanza diffusa io vado a parlare forse prima col parroco che vado anche a parlare col presidente della circoscrizione per l'amor di Dio ma con il parroco con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio con le associazioni sportive e culturali del territorio questo faccio questa è la realtà questo è quello che noi dovremmo cercare di interpretare allora non la faccio lunga ma insomma tanto per come dire dire che questo è stato un dialogo come il resto mi aspettavo tra persone che in qualche modo difendono una tesi rispetto a un'altra ma difficile capirsi e quello che chiedo all'amministrazione tanto per andare sul concreto l'attivazione del regolamento sulle consulte in tempi brevi si può fare se l'hanno fatto in altre parti d'Italia si può fare anche qua e questo è l'impegno concreto che io personalmente chiedo in maniera esplicita alla giunta e questo è il compito che deve fare in particolare credo l'assessore che ha questo compito noi pronti per l'amor di Dio tutti credo a collaborare bene scusate 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 siamo sempre in consiglio anche se l'ora è tarda consigliere i betti prego grazie si fa un po' sorridere l'ultimo invito rivolto da chi ha parlato per il fiume perché come abbiamo detto più volte no ma spiego come abbiamo detto più volte noi come ha ripetuto stavolta il Correio Freschi stasera che per una volta tanto ha provato a stare dalle parti della minoranza fa un po' ridere andare a votare oggi una cosa e dire però mi auguro che facciate perché se volete fare qualcosa non chiedete un voto a scatola chiusa prima fate che noi vi diamo invece qua è questo che ci chiedono capisci Freschi quando noi da questa parte ti diciamo cosa volete apertura di credito e non ci fate niente capisci cosa si prova a vedere la forza dei numeri che si scontra con l'evidenza perché no ti sto spiegando ho preso te ho preso te perché eri l'ultimo che ha parlato a questo punto di vista perché è vero che è stato un dialogo tra sordi dò perfettamente ragione al collega però un dialogo tra sordi come si fa viva Dio lo ripeto a chiedere l'istituzione di qualcosa che già esiste l'ho detto io adesso vorrei fare una domanda ma vorrei forse data possibilità di rispondere a qualcuno del fiume a qualcuno dei preponenti voi chiedete l'abolizione cos'è di diverso dalle circoscrizioni quello che voi state chiedendo all'amministrazione parlare con le associazioni sportive parlare con la gente del territorio cosa c'è di diverso da quello che già fanno le circoscrizioni mi venite a dire che devono essere lettive come sono lettive le circoscrizioni mi volete dire che devono rappresentare i territori cittadini in base alla loro omogeneità storica geografica è quello che ci sono le circoscrizioni volete abolire qualcosa che già esiste per farla uguale solo per cambiargli nome per mettervi la medaglia sul petto e a me dispiace una cosa perché ho sentito prima il collega della Lega che diceva il risparmio questo risparmio di costi non ha saputo quantificarlo perché non esiste il risparmio di costi perché il costo delle circoscrizioni è il costo di un mese di assessori esterni per tutto un anno quindi non potrà che essere un voto contrario il voto è sottoscritto grazie grazie consigliere prego consigliere Tomasello l'unica cosa che voglio dire è ribadire appunto quello che ho già sostenuto nel mio primo intervento e qui non mi ripeto ma una raccomandazione così come ha fatto prima il consigliere con la ONI ma su questo ci ha rassicurato signor sindaco lei prima con il suo intervento appunto di provvedere al più presto al regolamento che istituisce queste consulte comunali quindi di non lasciare nessun vuoto appunto poi con la soppressione delle circoscrizioni perché la cittadinanza ha bisogno di organismi rappresentativi forti ma anche di organismi rappresentativi che siano funzionali e che vadano oltre la circoscrizione quindi noi il nostro voto è quindi un voto favorevole grazie grazie consigliere Loro lei ovviamente perché è in dissenso grazie presidente dichiarazione di voto in difformità io ho il collega Passoni come consiglieri del PD in linea di indirizzo con l'area difformista del partito democratico voteremo contro questa delibera e ci aspettiamo per la prossima seduta in coerenza con quanto stabilito dal coordinamento del partito democratico una contestuale riforma operativa delle circoscrizioni e lavoreremo anche noi tutti quanti per questo va bene grazie nessun altro iscritto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare via le procedure di votazione allora porremo in votazione prima gli emendamenti anche anche i quattro emendamenti quelli presentati e allegati alla deliberazione pertanto iniziamo con l'emendamento allora gli emendamenti numero uno due tre e quattro allora non dell'amministrazione tecnici chiamiamoli tecnici quelli che vanno quelli che vanno ad aggiornare diciamo il contenuto dello statuto in ragione dell'eventuale soppressione delle bene allora pongo in votazione l'emendamento numero uno 21 no 28 vengono approvati definitivamente a 21 ci devono essere due votazioni allora la deliberazione viene approvata con unica votazione se raggiunge i due terzi dei componenti se non si raggiungono i due terzi dei componenti deve essere raggiunto deve essere raggiunta la maggioranza dei componenti il consiglio pertanto 21 voti almeno per due volte nell'arco di 30 giorni sì 21 perché la maggioranza degli assegnati è 21 bene dichiaro allora pongo in votazione l'emendamento numero uno dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni legge la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari 9 astenuti 2 l'emendamento numero 1 è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 2 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 23 contrari 9 astenuti 2 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 3 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge tra la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari 9 astenuti 2 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 4 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari 9 astenuti 2 l'emendamento è stato approvato pongo ora ai voti l'emendamento l'emendamento presentato numero 6 perché il 5 è stato sostituito non esiste la sostituzione viene è un altro emendamento non esiste sostituzione viene in coda perché è presentato dopo bene l'emendamento numero 6 è proposto dai consiglieri del PD dichiaro per cortesia silenzio firmato dai componenti del PD dichiaro aperte le operazioni di voto silenzio dichiaro chiuso le operazioni di voto legge votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevole 21 contrari 10 astenuti 3 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 7 quello che abbiamo detto va a sostituire il 5 che è stato ritirato presentato dal consigliere Piccinato dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse dell'operazione di voto legge la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 22 contrari 11 astenuti 1 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti la proposta numero 43 soppressione delle circosizioni di decentramento comunale modifica dello statuto comunale delibere conseguenti così come emendata dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto legge la votazione seguente presenti 34 votanti 33 maggioranza 28 favorevoli 22 contrari 9 astenuti 2 la delibera non è stata approvata però ha raggiunto la maggioranza è tecnicamente è stata rispinta ma ha raggiunto la maggioranza dei 21 voti e pertanto sarà soggetta a una seconda votazione bene signori sono le 2 34 vi ringrazio dichiaro chiusi i lavori e il consiglio verrà riconvocato a domicilio